Abbiamo dato l'opportunità e la fisicità. Hanno avuto la fisicità giusta, nel senso che non c'è stata già rimasta un po' di pistola, quello dello Stato, per misurare la temperatura, un'occhiata al Green Pass e via andare. Assolutamente, hai fatto benissimo Massimiliano a sottolinearlo, ovviamente rispettate tutte le procedure di sicurezza indispensabili in questo motivo perché ovviamente questa, come dicevamo, è un momento di aggregazione per stare insieme e non dobbiamo assolutamente rischiare che possa compromettere la salute, la serenità e la sicurezza di chi è arrivato qui a divertirsi, a impegnarsi e ovviamente anche a giocarsi una medaglia perché ricordiamo che si assegnano i titoli italiani delle varie gare in programma oggi. Io continuo a tenere ovviamente gli occhi puntati sulla pedana del Giavellotto, come vedete dalle immagini già ci sono i primi lanci in corso, diamo un rapidissimo aggiornamento dalla pedana del Giavellotto dove attualmente nella categoria F20 che guida la classifica Luigi Casadei proprio dell'Antropos con 47 e 21, il secondo miglior lancio è quello di Filippo Mafaro della Keep Fit categoria F37 con 22 e 54 e poi Giancarlo Fiore dell'Andy Sport Ragusa con 19 e 83, anche lui categoria F37. Ancora ad aver lanciato abbiamo Marco Guzzon della Veneto Special Sport con 17 e 77, Stefano Morandi con 16 e 81, lui categoria F20 della Sempione 82, ancora Cristian Bonaccina con 10 e 29 e poi infine Juan Ramos Inostroza categoria F41 che ha lanciato a 15 e 22 l'atleta di Varese. Quindi questi i sei atleti in questo momento in gara e quindi abbiamo dato un rapido aggiornamento della prima gara iniziata in questi due giorni qui ad Ancona. E quindi le immagini continuano ad essere sul Conti, sulla pedana del Giavellotto dove vedete Ramos che ha appena effettuato il suo quarto tentativo, lo diciamo per chi non è abituato ovviamente a leggere le pedane, quella A4 sta proprio per il quarto tentativo appena effettuato dall'atleta che si è appena allontanato dalla pedana in attesa della misura. Eccola qui, 14 e 15, quindi non migliore il suo precedente risultato che era di 15 e 22 confermato dalla grafica. E quindi iniziamo con il quinto e penultimo turno di lanci in questa pedana. Tra poco ovviamente vi aggiorneremo anche sulle altre gare che stanno iniziando all'esterno ma tra pochi minuti anche all'interno perché vediamo che la pedana di peso qui nel palazzetto già si sta animando con i primi atleti. Una coppia che state ascoltando, una coppia che ha il debutto come coppia di fatto ovviamente inizio. Per fortuna la vista mi assiste ancora e cerchiamo quindi di essere sul pezzo come si suol dire. Anche perché poi, come dicevi tu, la complicatezza di oggi è seguire contemporaneamente le immagini all'esterno, i risultati sullo schermo e contemporaneamente quanto sta accadendo qui all'interno del palazzetto. Sentite la voce di Grazia nel frattempo che invece accompagna coloro che sono qui all'interno del pala indore e che ovviamente vogliono sentirsi raccontare le gesta degli atleti che come in questo caso adesso stanno provando prima dell'inizio gara perché come dicevo la gara del peso sarà la prossima a partire tra pochissimi minuti e inizierà credo anche la prima gara di corsa che dovrebbe essere quella degli ostacoli se vado bene a memoria alle ore 15 con il pentathlon della Fisdir. Quindi da lì partiremo anche con le gare di corsa che inizieranno, vi ripeto, tra non molto ostacoli già posizionati come vedete già da queste immagini e ovviamente il grazie va davvero a tutto lo staff impegnato in questo momento quindi dai volontari ai giudici, lo staff ovviamente della Fisdir e della Fispes, la Fidal Marche, Fidal Servizi ovviamente la protezione civile, i volontari, può sembrare una manifestazione semplice quella da organizzare in un palazzetto più piccolo rispetto a una pista outdoor, in realtà la mole di lavoro è davvero tanta e di conseguenza è anche tanto il personale impegnato per dare assistenza ancor più in una gara paralimpica. Vediamo che iniziano a apparire le rondelle metriche, quindi davvero manca pochissimo la prima gara all'interno anche del pala indoor di Ancona. Riccardo bisogna stare molto attenti, perché quando fa la pranzo con un atleta, con una ragazza ovviamente che ha fatto primo, secondo, contro secondo, contorno a compagnia cantante, lei ha un brusetto in bianco e la cosa che mi ha colpito è che mi ha detto tutti i risultati che aveva fatto non soltanto lei ma i suoi antagonisti di circostanza hanno l'occasione degli ultimi campionati italiani quindi a questo punto bisogna stare attenti, non sbagliare neanche di un sintesico anche se non sarà facile stare dietro a tutte le manifestazioni e tutte le gare che ci sono in programma in questo pomeriggio. Anche perché effettivamente il programma è davvero densissimo, quindi lanci, salti, corse saranno in contemporanea gare FISDIR e FISPES che si sovrapporranno, come dicevamo sono circa 300 gli atleti che saranno impegnati in questi due giorni, ma la cosa bella è soprattutto quanto questi atleti dedichino tutto il proprio tempo alla propria passione, alla loro attività sportiva, facendo in modo che oltre ovviamente, come dicevi poco fa a ricordare i propri risultati, si ricordano quelli di tutti i propri avversari e in più si creano, come dicevamo, anche dei rapporti umani che portano poi questi ragazzi atleti a seguirsi, a sentirsi, a ritrovarsi anche lontano dalle competizioni e quindi far sì che, come dicevi raccontavi poco fa tu da quest'aneddoto, si sappia praticamente tutto di quello che fanno tutti i propri amici barra avversari di gara e si diventi davvero quasi un corpo unico, per dirla in maniera più figurata quindi è questo anche il bello di queste manifestazioni dove, continuiamo a ripeterlo invitiamo tutti a partecipare, a venire perché è davvero piacevole anche l'ambiente così rilassato nonostante ovviamente il taglio agonistico della manifestazione che assegna dei titoli tricolore quindi l'invito a tutti coloro che sono soprattutto ad Ancona dei Paraggi, raggiungeteci al palazzetto saremo qui fino a stasera e poi domattina fino alle 13, quindi c'è occasione davvero di vi vedere tutto questo dal vivo, per chi invece è da casa, per chiudere il discorso che facevi tu, sarà nostra responsabilità far arrivare ad amici, parenti, colleghi, compagni, avversari le notizie e i racconti di quanto accadrà qui nei due campi indoor-outdoor nel quale stiamo parlando Assolutamente, hai fatto bene a ricordarlo, quindi diretta sulle due pagine Facebook diretta anche sui canali YouTube delle due federazioni ma è natale che siano aperti tutti i canali possibili per raccontare le gesta sportive che stiamo vivendo e quindi decidono entrare in campo nel momento in cui l'atleta per posizionamento del blocco o ovviamente il pass e quindi poi effettuato questo è necessario portarsi al fuori della zona ovviamente negli arabi di ricordo solo per posizionamento del blocco e del pass e poi portarsi fuori dal blocco ovviamente del blocco Dunque, detto questo, signori, buon pomeriggio e benvenuti al Palace di ancora per i campionati di dorme e quindi siamo numerosissimi e questa è la cosa che più ci piace oltre 38 società e ancora una volta con l'organizzazione dell'Università quindi iniziamo questa firmesse indoor proprio con il settore già impegnato del cento del peso al fiammodile Open Fistir e vediamo anche voi che già nella zona qui fronte alla Rino abbiamo proprio la tribuna principale il lungo poi Open anche qui alla femminile infatti ancora ovviamente prove di rincorsa e poi già disposti gli ostacoli per le prove che riguarderanno abbiamo lasciato per un attimo la parola alla voce di Campo Di Grazia che accompagna ovviamente i presenti qui al Pala Indoor e nel frattempo facciamo una carrellata di risultati di quello che sta accadendo sulle varie pedane a partire da quella del peso femminile che è inquadrato in questo momento vedete tra le varie pedane ovviamente c'è Rosa Ambrosi che sta guidando il peso della categoria F11 35, 37, 38, 40 della Fispes con 3,52 a portacolori della Icaro Onlus e volontariato società bresciana ancora davanti a Camilla Giorgetti dell'Antropos con 2,80 ancora 5,54 il miglior risultato per adesso è quello di Maria Luisa Garatti ancora della Icaros 5,50 per Sonia D'Adabo della Keep Fit ancora Maria Concetta Maganucco della Gela Sport 4,30 e infine Maria Giuse Giorio della Nuova Atletica Isernia 2,98 questi gli aggiornamenti dalla pedana del peso ancora gara del disco uomini categoria F54 per adesso soltanto Alessandro Straser della Polisportiva Caprioli ha completato le sue sei prove 16,64 il miglior lancio dell'atleta della categoria F54 seguiranno ovviamente gli altri lanci in questo caso si lancia uno per volta si completano tutte e sei le prove e poi si passa all'atleta successivo che poi prende posto in pedana mi dicono che si è conclusa invece la gara del peso F32-34 femminile sempre Fispes con la vittoria nella categoria F34 di Giuseppa Nicoletti della Gela Sport con 3,46 davanti a Maria Criscione Andy Sport Ragusa con 3,17 e ancora Carmela Marino anche lei è Andy Sport Ragusa 1,66 lei però è categoria F32 ancora aggiornamenti e in questo caso andiamo nella pedana del peso femminile 55-57 dove attualmente Maria Andrea Maiale della Veneto Special Sport ha completato i suoi sei lanci con 5,48 di miglior misura questa è la prima carrellata di risultati per quanto riguarda ovviamente il campo esterno il Pai Conti e i lanci legati ovviamente alla Fispes il Pai Conti il Pai Conti e i lanci legati ovviamente al Pai Conti e i lanci legati ovviamente il Pai Conti e i lanci legati ovviamente al Pai Conti abbiamo fatto insoltre per quanto riguardaチャ prove cui la paurità è la struga e il Pai Conti e i lanci legati ovviamente alla Fispes lo aspettare in mezzo a un bel��� le stupine le stupine le stupine le stupine le stupine le stupine la scuola Hai fatto bene a raccontare anche di queste dichiarazioni che hanno preceduto ovviamente l'avvio dei campionati, c'è stata anche la conferenza stampa ovviamente ieri in cui c'è stata occasione di discutere ovviamente la presenza anche del presidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico, c'era ovviamente la società organizzatrice con Nelio Permattei e c'è stato ovviamente davvero tanto pathos e si sentiva l'emozione dell'idea di essere oramai al primo evento post Tokyo di gare, mentre parte la prima gara di corse e quindi andiamo a seguire questo arrivo della gara di Pentathlon con Andrea Magna Bosco, Nicola Capraro e Andrea Mattone che sono i primi tre atleti ad essere giunti al traguardo, dovremmo avere comunicazione ufficiale a breve di un primato italiano ottenuto da Andrea Mattone, l'atleta di casa dell'Antropos che vedete come festeggia accompagnato dall'applauso di tutto il palazzetto. Il senso di te stava festeggiando perché sentiva di aver fatto un'ottima prestazione o perché le abitudini loro, tra le altre cose, essere sempre molto espansivi sull'ambito riguardo le premiazioni, le vittorie, i successi, ma anche le sconfitte. Sì, sicuramente deve essere una commistione delle due cose. L'atleta ha una sensibilità tale da capire nel corso d'opera che sta facendo una buona prestazione e poi, come dicevi tu, c'è invece un trasporto, un traino emotivo che questi ragazzi dimostrano in ogni occasione, prima, durante e dopo e quindi le due cose sicuramente si sono fuse in questo frangente di fine gara superata la linea del traguardo che è stato veramente emozionante anche sentendo poi il clamore degli applausi che è una cosa che sembra strano ma non siamo più abituati ad ascoltare se non nelle partite di calcio che forse sono stati il primo evento a rivedere il pubblico sugli spalti. Quindi è emozionante, possiamo dirlo anche per noi che siamo qui, assistere a questi frangenti agonistici. Eccoli qua, confermati i risultati ufficiali, 10-11 per Mattone, 11-65 per Magna Bosco, 13-59 per Capraro. Questi risultati della loro prima prova del Pentadron Uomini. Facciamo un passo indietro, un altro passo indietro. Parlavamo del discorso all'inizio, una diversità fra disabili e diversamente alta. E mi viene da pensare che, grazie a me, 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 a me. Grazie. 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 Ti racconto un aneddoto simile, quando ci furono i campionati europei paralimpici a Grosseto 2016, se non vado male a memoria, mi capitò che eravamo in sala mensa, era la prima mattina di gare e arrivai per fare colazione. Ero insieme ad altri amici dello staff della FISPES in quell'occasione e entrammo e trovavamo questa sala dove c'erano probabilmente 200 atleti paralimpici che si stavano preparando per la loro colazione e assistemmo a questa scena di alcuni ragazzi che non avevano, caso mai, gli arti superiori oppure che non avevano le mani e che riuscivano ugualmente a sistemarsi i loro piatti per la colazione e facendo sentire noi quelli diversamente abili o anzi forse disabili perché ci rendevamo conto di loro come in un contesto del genere riuscivano a superare quel limite che a noi vedevamo e che per loro invece era la normalità. Quindi davvero importante dare anche questi racconti fuori dalle piste. E questa però è anche un po' di emozione perché poi, come dicevi tu, la settimana scorsa su quel materasso ci è finito Marcel Jacobs, quindi per chiunque corra su questo rettilineo lo sfizio anche personale di potersi lanciare su quel materasso un po' come l'uomo più veloce del mondo perché lo dobbiamo dire, visto che è italiano, dà anche quell'ulteriore quid, diciamo così, di colore, di entusiasmo e le immagini che abbiamo visto subito dopo l'arrivo di Camilla del suo sorriso smaiante che l'ha accompagnato insieme all'affanno poi a ritornare a recuperare ovviamente i propri indumenti post gara quindi ci sono veramente tante cose da poter raccontare e che a volte basta uno sguardo per riuscire a sintetizzare. Al di sotto del piano di corsa, sì, è un video comico forse da vedere, non penso tanto simpatico per il malcapitato di turno. ovviamente la struttura di Ancona non permette minima defaianza su qualsiasi dettaglio e ripeto questo è merito soprattutto della Fidal Marche che quotidianamente permette ai ragazzi di potersi allenare qui dentro segue tutti i campionati, abbiamo iniziato con le manifestazioni istituzionali qui il primo weekend di febbraio e tutti i weekend c'è stato un evento di caratura nazionale qui al Pala Indoor almeno per quanto riguarda ripeto l'atletica dei normodotati come dicevi poco fa si è iniziato con le promesse, poi ci sono stati i campionati italiani master, poi gli allievi, poi ancora gli assoluti settimana scorsa l'appuntamento con la coppa riservata agli under 16, la coppa sportissimo per i cadetti e oggi siamo con i paralimpici quindi sono credo al sesto o al settimo weekend di fila di gare oramai questa è una macchina operativa iper consolidata e che garantisce anche risultato e sicurezza agli atleti e quindi di sicuro queste sbavature non possono accadere con tanta professionalità e passione come quella che poi si vede da chi opera in pista Stefano invece sta andando a Trieste, stiamo parlando di Stefano Meglio ovviamente campione d'Europa di Stoccarda 86 sui 5.000 che è in viaggio sicuramente per su perché oggi e domani ci saranno i campionati italiani di corsa campestre assoluti dove si assegnano i titoli di tutte le categorie individuali oggi ci saranno le staffette e quindi l'atletica davvero non si ferma e continua davvero a dimostrare quanto in tutto il territorio ogni weekend c'è un evento e dopo quello che dicevo poco fa dell'attività indoor questo weekend ci saranno i campionati italiani di corsa campestre assoluti settimana prossima ad Aviano ci saranno invece quelli di relativa alle categorie master e poi la settimana dopo ci sarà il campionato invernale di pentatrono lanci master in quel caso saremo in Lombardia a Busto Arsizio ripeto se uno vuol seguire l'atletica proprio la possibilità di annoiarsi non c'è perché di gare ce ne sono veramente tante oramai ci saranno due presidenti federali di spazio assolutamente e poi speriamo di poterli avere anche qui nei paraggi perché casomai permetteremo anche a loro di darci una battuta e di condividerla col pubblico che ci sta seguendo in diretta da casa mentre torniamo anche in pedana perché iniziano anche le gare di salto in questo momento stiamo parlando della gara di salto in lungo dove ha già saltato Alice Bruschetti dell'Unione Sportiva Quercia di Trento 2.54 adesso appena saltato invece Eugenia Zucchiatti dell'Antropos per lei un salto nullo a questo primo tentativo prossima a saltare sarà Serena Bettin della Trevis Atletica in gara con loro ci saranno anche Eugenia Cespuglio dell'icepod e ancora Caterina Barghini dell'Atletica Sport Toscana questo è il parterre di gara della prima gara di salto di questo weekend eccola la Bettin che atterra in questo istante nella sabbia e lascia al gruppo giudicicare l'opportunità di andare a misurare la prestazione ottenuta si torna sui blocchi di partenza nel frattempo neanche il tempo di distrarsi un attimo credo sia una gara Fisdir quella in partenza parteria della gara junior categoria C21 bellissimo questo testa a testa assolutamente belle le immagini di Enrico Pio Tridente che è stato il primo a tagliare il traguardo saranno due le batterie di questa categoria junior quindi stiamo parlando degli under 20 però come dicevi il bello che torniamo anche all'episodio di prima l'importante è tagliare il traguardo essere qui tornare a gareggiare anche casomai semplicemente accontentarsi e si fa per dire di un primato personale che come dicevamo le sensazioni aiutano a sentire poi vedremo tra pochi istanti se anche il riscontro cronometrico darà lo stesso risultato sul tabellone stiamo attendendo ovviamente l'ufficialità dei tempi sui blocchi c'è anche la seconda batteria con Giuseppe Di Marzo in seconda Francesco Cantori in terza Stefano Montefalcone in quarta Leonardo Pantanetti in quinta Stefano Cretti in sesta nel frattempo la Bruschetti dell'Unione Sportiva Quercia attualmente seconda posizione con 2.54 è inquadrata probabilmente con la sua guida e il suo allenatore accanto nel suo secondo tentativo di oggi prova a migliorare dicevamo questo 2.54 compatibilmente ovviamente con le distanze del protocollo Covid ma siamo alla presentazione come dicevamo della seconda serie della seconda batteria scusatemi partono in questo istante anche qui sarà molto combattuta interno esterno no e all'esterno in corsia 6 Stefano Cretti della Polisportiva di Salvili Valcamonica a essere il primo a tagliare il traguardo lui che non aveva un accredito iniziale al via e che segna questo ufficioso 9.26 vedremo poi l'incastro delle due batterie a che classifica finale porterà per questa categoria ripeto categoria Juniores Fisdir continuiamo a seguire quanto accade nella petana del lungo ci si prepara ovviamente alle ai prossimi tentativi sarà la spotorno la prossima 5.29 il terzo lancio va a saltare quindi ora si va con la magasina 8.47 ora alla partenza è la prima batteria sempre di 60 metri un uomo in C21 Fisdir ancora la Bettini in pedana 2.95 al suo precedente salto sembra superiore ai 3 metri ovviamente sappiamo di non essere allineati quindi purtroppo ci può essere anche qualche errore visivo qualche diciamo diciamo illusione ottica di misura ma credo che siamo sì eccoci il risultato ufficiale 326 quindi praticamente passa al comando con questa misura 326 ufficiale ovviamente appare anche sul nostro schermo e sulla grafica grazie sempre a Fidal Servizi che ci supporta anche nel oltre che nelle immagini e nella regia anche nella grafica e quindi ci semplifica il lavoro per poter comunicare quanto accade siamo ancora alla categoria 60 C21 Fisdir in questo caso sono gli assoluti due batterie anche di questa gara partiti con la corsia tre di Andrea Piacentini no Stefano Ricci dovrebbe essere no Andrea Piacentini Andrea Piacentini sì 9-0-2 per lui arriva in solitaria in questa prima batteria grazie a tutti la Piacentini 2-34 sempre terzo turno di lancio per quanto riguarda 7 ore della pedana femminile open torte finti ovviamente del peso che ha aperto la nuova la nostra serata di questo primo pomeriggio terzo salto della Bruschetti eccoci qui torniamo in pedana con la Bruschetti per lei terzo tentativo guardate la concentrazione sul volto lei che in questo momento porta colori di casa che occupa la quinta posizione in questa gara al momento bandiera bianca appena alzata dal giudice che permette l'inizio di questa rincorsa purtroppo nulla anche molto evidente quasi un piede intero rimane quindi in quinta posizione torniamo però alla seconda batteria gioca molto l'emozione comunque in questi in questi casi oltre che Accademia Biancazzurra Polisportiva di Sabbi di Fabria Pietro Mennea Atletica e poi Padova Onlus Tempo Libero Mare queste le società degli atleti appena nominati dal nostro speaker che sono Daniele Di Giandomenico Luca Mancioli Federico Giannini Federico Basso e Filippo Tallutto stanno per partire vediamo come andrà a finire viene chiamato un al tempo quindi vengono rialzati gli atleti rimessi in posizione si riparte forse lo sprint per l'ultimo posto è più entusiasmante della volata è un buon tempo 9 e 17 seguono pedisseguamente quello che dicono i responsabili di pista io continuo a dire Carlo impazzisco per il fatto che esultano per in vediamo questo salto intanto che prima ci ha fatto sognare col 3 e 25 sembra leggermente più corto questo tentativo della Bettina che in questo momento guida la classifica lo vedo leggermente questa volta inferiore ai 3 metri non sono precisamente in linea con la linea di caduta ma a occhio credo che non sia migliore del precedente quindi possiamo finire il discorso sulla gara di velocità ti dicevo no prima cosa fa impazzire il fatto che si esulti più per l'ultimo posto che per il primo nel frattempo abbiamo i risultati ufficiali della prima delle due serie delle due batterie ecco eccoli qui Giacentini 901 Ricci 10 e 26 Simoni 10 e 49 Buccarello 10 e 92 Ciconte 13 e 0 7 appaiono sul maxischermo del campo che permettono ovviamente a tutti di poter leggere quanto accade nel frattempo Cescuglio attende il suo risultato nel terzo tentativo 2.96 seconda posizione per lei e la vediamo inquadrata in questo momento probabilmente insieme al suo tecnico vedete dalla grafica seconda posizione per l'atleta dell'icepod torniamo all'atleta di casa ovviamente devi riscattare il nullo il nullo precedente i tre nulli precedenti i tre nulli precedenti ovviamente vedete vedete Eugenia pronta a partire c'è c'è aspetta la bandiera la bandiera rossa da parte del giudice di pedana e aspetta la bianca a sua volta ok ora si portano blocchi ovviamente i punti delle tre batterie di 60 metri open uomini fissile sono tre le batterie ha saltato la Bacchini in questo momento si il cambio non l'ho capito cosa è accaduto nel frattempo era l'unica atleta che non aveva effettuato l'ultimo tentativo quindi c'è stato un errore d'ordine probabilmente attendiamo nel frattempo diamo un po' di aggiornamenti anche alla gara del peso gara del peso che in questo momento vede Chiara Masia Gregoria F20 della polisportiva Luna e Sole con 8.47 davanti a Patrizia Fedato della oltre SD Onlus con 7.59 terza è domenica Calandruccio della polisportiva direttantistica L'Aquilone con 6.68 quarta è Rivana Tedde della polisportiva Luna e Sole 5.69 ancora Elisa Fuselli Atletica Osimo con 5.16 Veronica Slavic della Quercia con 4.08 e ancora Chiara Arrone della Sorriso Riviera Onlus con 3.70 così abbiamo dato anche un parziale di quanto sta accadendo nella pedana del peso donne qui davanti a noi proviamo a fare rapidamente anche un escursus sulle altre pedane esterne in attesa della partenza della prossima gara di corsa che dovrebbe essere quella dei 60 Open Feast quindi tra poco lascerò a te Massimiliano la parola e mentre si preparano vi ripeto vi do aggiornamenti dalla gara di Giavellotto che appena conclusa per scusatemi di peso femminile F11 37 38 30 40 con la vittoria di Sonia D'Adabbo con 5.93 su Maria Luisa Garatti 5.62 Maria Concetta Magnuco con 4.77 388 per Rosa Ambrosi Maria Giogiorio con 3.46 e Camilla Giorgetti con 2.80 lascio a te la partenza della prima serie la prima batteria dei 60 Fisdir i partenti Leonardo Pucci Michael Telloli e poi Alberto Presutti Denis Sazzolini Davide Marrone Simone Bugliocchi e Adolf Agiemang se uno vede i tempi di accredito già potrebbe vagheggiare il nome dell'atleta che vincerà questa batteria ma mai dire mai a tutti i livelli siamo in attesa ovviamente del silenzio grazie la speaker ufficiale ha chiesto silenzio alla platea partiti in questo momento Alberto Presutti che era accreditato con un tempo 7.93 vince al secondo posto Adolf Agiemang ovviamente attendiamo l'ufficialità ma potrebbe esserci un primato personale di 2 centesimi per il vincitore di questa prima batteria quindi ancora di più ovviamente la gioia di aver tagliato per primo il traguardo e di aver abbracciato il materasso e di aver toccato il materasso di Jacobs come vedete siamo invece con le immagini all'esterno perché in corso la gara del disco uomini stiamo guardando il pettorale numero 26 quindi doveva essere Roberto Belelli del Santo Stefano Sport in questo momento in pedana e sta iniziando le sue prove nella stessa gara vi do l'aggiornamento dei tre atleti che hanno già effettuato i propri sei lanci prima posizione per la Stando Strasser della Polisportiva Caprioli con 16.64 secondo Federico Belardini dell'Antrobos con 13.73 terzo Viaggio Valenti della dilettantistica Aspet con 11.26 questo è il parziale di questa gara del disco uomini categoria F54 l'altra gara di disco quella 56 57 invece vede al primo posto Piero Rosario Suma del gruppo sportivo paralimpico difesa con 25.54 davanti a Salvatore Nitto dell'Antibio con 18.11 e terzo è Vincenzo Contemi ancora gruppo sportivo paralimpico difesa con 13.81 dovrebbe mancare solo Merced Vicinovic dell'Ilob Atleti Cerni l'ultimo a lanciare di questa gara mentre le immagini tornano invece nella pedale del peso dove c'è la ronna della Sorriso Riviera Onlus che è pronta ovviamente a lanciare appena effettuato il suo nuovo tentativo due atleti dell'Antrobos uno in prima e uno in ultima corsia per quel che riguarda la seconda batteria dei 60 metri sono Raffaele Di Maggio e Gabriele Brengola in mezzo a loro ci saranno Flavio Colasanti e poi Mattia Finna Kevin Visentini Anton Narciso e Loris Di Muzio la seconda la seconda batteria ovviamente è ancora all'alba della sua partenza visto e considerato che ci sono ancora allenatori che stanno cercando in qualche maniera di dettare non tanto i tempi quanto dare indicazioni corrette ai propri atleti fermo restando che quello che bisogna fare gli atleti già l'hanno fatto in allenamento eccoli adesso che compaiono sulla in sovraimpressione le hanno magari forse o è perché ho messo gli occhiali o è perché me li hanno allargati in ogni caso adesso si vedono meglio abbiamo sentito diciamo un'anteprima dei partenti grazie alla voce di Grazia che ci sta accompagnando ed è da sottolineare la presenza di Raffaele Di Maggio in corsia 2 in questa gara sicuramente uno degli atleti più attesi sul fronte velocità in questa giornata lo vedete in corsia 2 anche abbastanza evidente la sua stazza portacolori anche lui dell'antropos accanto ci saranno Flavio Colasanti Mattia Finn Kevin Visentini Anton Narciso Loris Di Muzio e Gabriele Bringola aggiornato addirittura 7,90 al tempo di Alberto Presutti che quindi fa 3 centesimi di miglioramento rispetto al suo primato prima della batteria che ha appena corso 5 di 79 questo sesto lancio Fedato Patrizia eccola qua Patrizia Fedato in gara peso Donne Fisdir seconda al momento siamo in attesa di vedere la partenza invece la seconda batteria dei 60 vediamo se riuscirà a migliorarsi e a spuntarla per loro c'è più attesa del solito per questa seconda batteria la presenza di Raffaele sicuramente detta attenzione ai presenti ma ovviamente essendoci da comporre tutto il podio non è soltanto rispetto al primo che vanno a concentrarsi le attenzioni dovremmo oramai essere pronti a partire ma continuiamo a seguire anche la gara di peso che si va a concludere con la Fuselli che è appena lanciato e che è l'ultima a chiudere ovviamente questo ordine dovrebbe essere tutto il posto di gara nella pedana del peso c'è stato un sospiro di sollievo da parte della speaker lo facciamo anche noi ovviamente perché pare che adesso la batteria sia pronta a partire vi ripetiamo i nomi di maggio in corsia 2 con la santa in corsia 3 in corsia 4 bisentini nella 5 narciso nella 6 di muzio nella 7 e brengola nella 8 il sospiro di sollievo c'è stato noi abbiamo dato i nominativi però gli atleti sono ancora in piedi in attesa ovviamente del via libera da parte dei giudici di gara ed è simpatico il fatto di vedere atleti che esultano già prima di partire quindi come va va in ogni caso loro hanno già vinto nel presentarsi ai nastri di partenza di questi campionati italiani in questo caso di questa di questa batteria ai vostri posti eccolo il via libera si parte corsia 3 libera corsia 8 libera quindi con la Santi e brengola non prenderanno il via rimangono quindi in 5 in gara si l'avevi già detto Raffaele Di Maggio vinci a mani basse praticamente ovviamente da buon conoscitore della materia Carlo era stato ottimo profeta per quel che riguarda il risultato di questa gara mentre adesso ci siamo spostati di nuovo sul tuo campo di battaglia siamo sì all'esterno con la gara di dei lanci che sono in svolgimento ricordo a tutti che questa giornata dei campionati invernali di lanci è valida come prima tappa della Coppa Italia di lanci 2022 una classifica che si articola su 4 manifestazioni la prima nazionale che è quella di oggi ci sono due fasi territoriali svolte nelle regioni e poi c'è la finale nazionale a ottobre che chiude approfitto per fare una menzione e un saluto visto che lo vedo inquadrato adesso sulla sua sedia di lancio a Enrico Benes che sveste la divisa di Fidal Servizi e veste quella dell'Antropos e va anche a impegnarsi tra virgolette nella d'atleta nella gara di peso che stiamo seguendo quindi tra poco daremo anche i risultati di Enrico che si sta preparando con i lanci di riscaldamento ho parlato con Enrico questa mattina ovviamente prima della gara ma ha annunciato questa sua presenza in campo e al che ho detto vinci tu sei da medaglia e lui ha detto io vado per partecipare poi in realtà altre persone che erano nel suo nel suo giro senza farsi sentire hanno detto guarda che è forte vero quindi comunque la simpatia la schiettezza di Enrico al di là del discorso della professionalità lavorativa sono sicuramente un esempio sia sul mondo del lavoro che sul mondo dello sport e vedremo quello che poi sarà anche il risultato agonistico della sua gara vi do aggiornamenti su quanto accaduto in questa pedana lui è l'ultimo a lanciare 5.60 è la miglior misura ottenuta in pedana per la categoria F32 da parte di Antonio Puglisi dell'Andy Sport Ragusa seconda posizione al momento con 4 metri per Stefano Bertola della Sempione 82 terza posizione con 3.23 Emanuele Ruta ancora Sempione 82 lui che invece è categoria F33 siamo pronti alla prossima batteria confermato il 7.19 7.19 lui che ha 7.08 invece di primato personale siamo pronti per la terza batteria quindi Massimiliano lascia a te la parola i nomi Mario Alberto Bertolaso in corsia 2 Vittorio Sciacchitano in corsia 3 in corsia 4 Giacomo Di Domenico stavamo vedendo perché qualcuno ovviamente non parte corsia 6 non ci sarà Luigi Pasqua Caposale mentre in corsia 7 c'è Mattia Renzetti e vediamo adesso la gara con gli atleti che sicuramente sono riusciti a ad avere il via prima molto prima rispetto alla gara precedente partiti e Mario Alberto Bertolaso Padova Lussendri allo sprint in ogni caso come giustamente ha sottolineato più volte Carlo non siamo perfettamente in linea ma in ogni caso Bertolaso dovrebbe aver vinto non a mani bassi ma allo sprint come avete sentito poco fa dalle parole di Grazia ovviamente adesso ci sarà la composizione delle finali che ovviamente vedrà i migliori 8 atleti per tempo tra le 3 batterie che si sono svolti poi andarsi a giocare poi le medaglie più tardi e quindi rivedremo i protagonisti delle 3 batterie tra qualche ora Di maggio secondo te partecipa alla finale? Direi di sì vedremo se non ci smentirà nel frattempo ha inquadrato Enrico Benes che ha tolto la giacca quindi segno che sta per iniziare la sua prova quelle ovviamente misurate e che poi concorreranno alla stila della classifica finale ripeto lui è l'ultimo della sequenza della pedana a lanciare per completare anche questa gara nella pedana esterna del peso come vedete le gare di peso per quanto riguarda le gare per i diversamente abili sono articolate in maniera diversa quelle che stavamo vivendo qui all'interno del palazzetto prevedevano l'utilizzo della pedana circolare mentre quelle all'esterno stanno vedendo impegnati gli atleti che hanno bisogno del sostegno della sedia di lancio e che quindi hanno previsto la possibilità di svolgere in contemporanea anche nello stadio del Conti quello outdoor gare della stessa disciplina perché ovviamente lì serve proprio ancorare fisicamente lo vedete dai tiranti laterali questi supporti al pavimento per garantire massima stabilità all'atleta e dargli l'occasione di poter sprigionare tutta la propria forza e ottenere il miglior risultato possibile nel frattempo ho visto passare Francesco Laversa responsabile lanci del settore tecnico della FISPES sia assoluto che giovanile siciliano ovviamente di Palermo che oramai è un punto di riferimento per il mondo dei lanci dell'atletica paralimpica e della FISPES quindi approfitto ovviamente per salutare lui e per salutare tutto lo staff tecnico della FISPES che ho avuto modo di incontrare prima a partire da Orazio Scarpa che è il nuovo direttore tecnico con Michele Gianfrido Alessandro Curis Francesco Laversa come dicevo Roberto Minetti Marco Paoletti Patrizio Andreoli Stefano Ciarella e ancora Federico Dell'Aquila Grazia Sala Orlarnio Marguzzi Marguzzi che sono tutto diciamo così lo staff tecnico FISPES che sono coordinati coadiuvati poi da Vincenzo Di Minunco che è l'ex CT che continua nonostante tutto a dare supporto al mondo FISPES e quindi ripeto sentivo il dovere di salutarli tutti visto che sono impegnati sul campo a coordinare a dare una mano come immaginano tutto lo staff della FISDIR stavo vedendo in questo lancio del peso in questo oggetto del peso che gli atleti a differenza dei normodotati diversamente abili fanno i loro cinque lanci uno di fila all'altro contrariamente con i normodotati che li fanno alternandosi fra loro può essere e qua te la faccio come domanda ovviamente tu la disciplina la conosci molto meglio di me può essere un problema per l'atleta fare cinque lanci di fila primo perché potresti stancarti verso il quarto o quinto lancio e secondo perché non hai l'opportunità di confrontarti con gli antagonisti di circostanza sicuramente la dinamica dei lanci da sedia è diversa da quella ordinaria dove c'è come dicevi tu una rotazione successiva di tutti gli atleti che prevede anche permette anche un po' più di competitività perché c'è una sorta di botta e risposta per ogni turno di lanci qui invece è una sfida veramente con se stessi in cui ognuno deve cercare di superare il segnalino messo al lancio precedente perché forse li riuscite a vedere in basso a sinistra allo scorso lancio quando Enrico ha preso in piedi uno di quelli già presi sono i riferimenti delle misure ottenute precedentemente ogni atleta svolge i propri sei lanci vengono misurati tutti e sei e ovviamente fa classifica il migliore viene considerato il secondo migliore solo in caso di parità e questa ovviamente è una dinamica diversa che da una parte ripeto forse crea un po' meno di competitività meno spettacolo diciamo così di botta e risposta e allo stesso tempo sicuramente crea anche un po' di fatica in più perché fare sei lanci di fila sicuramente è un po' la spalla e il braccio lancio dopo lancio iniziano a sentirsi anche perché molti di questi atleti poi svolgono più discipline e quindi casomai lanciano il peso ma fanno anche la gara di disco e quindi li rivedremo successivamente nell'arco del weekend speriamo non affaticati diciamo da questa sequenza di lanci torniamo all'interno del palazzetto e torniamo alle gare Fispes con le carrozzine in questo caso perché a partire saranno i 60 metri con questa prima serie categorie T51 55 33 e vado in ordine in corsia 3 ci sarà Andrea Renzi dell'Atletica 2000 in corsia 5 Nicola Tortora della Sempione 82 stessa società in corsia 7 per l'attesissimo Nicola Sazzani che torna in gara siamo a pochi istanti dal via lo starter non è ancora pronto a partire quindi continuiamo a vedere quanto accade si sta preparando la pedana del peso Fisdir che inizierà tra qualche minuto vedo che sono in fase di svolgimento le prove di lancio pre-gara mentre si stanno sistemando gli ultimi dettagli nella pedana del salto in lungo dove si è conclusa la prima gara e sta per iniziare la seconda partenza valida per questi 60 metri in carrozzina categorie come vi dicevo T51 55 33 e in corsia 5 Nicola Tortora davanti a Nicola Sazzani a tagliare il traguardo 15 e 45 riscontro ufficioso al traguardo mentre arriva anche Andrea Renzi che chiude la sua prova sul rettilineo di velocità della pala indor di Ancona tempo ufficioso per 18 e 45 saranno 14 le serie dei 60 che andremo a vivere questa è solo la prima tra poco al via altri tre atleti per la seconda serie come vedete sono in fase di misurazione i lanci di Enrico Benes che quindi segnano la conclusione della gara del peso esterno arrivano i risultati da questa pedana di peso di come vi dicevo prima posizione per Antonino Puglisi Andy Sport Ragusa 5 e 60 seconda posizione per Enrico Mario Benes con 4 e 69 dell'Antropos terzo Stefano Bertola della Sempione 82 con 4 metri quarta posizione per Emanuele Ruta della Sempione 82 con 3 e 23 quindi anche questa gara va in archivio provo a darvi i risultati della gara di Giavellotto F20 37 41 maschile con Luigi Casadei dell'Antropos che è chiuso con 47 21 davanti a Filippo Mafaro della Keep Fit con 22 41 terzo è Giancarlo Fiore dell'Endisport Ragusa 19 e 83 ancora Marco Guzzon Veneto Special Sport 17 e 77 Stefano Morandi da Sempione 82 17 e 68 e ancora Cristian Bonaccina Indisport Ragusa con 10 e 29 fuori gara categoria F41 Juan Ramos in Ostroza della Varese Polisportiva dilettantistica con 15 metri e 22 mentre attendiamo la partenza della seconda serie del dei 60 di aggiorno anche della gara del Disco Uomini che dovrebbe essersi conclusa con Alessandro Straser a 16 e 64 della Varese Polisportiva Caprioli davanti a Federico Belardini dell'Antropos 13 e 73 Biagio Valenti dilettantistica Aspet 11 e 26 e quarto Roberto Belelli con 10 e 23 ultima gara di aggiornamento di Disco è quella categoria F1 56 e 57 maschile con Piero Rosario Suma gruppo sportivo paralimpico difesa con 25 e 54 Mesred Becirovic 19 e 79 quindi l'ultimo a saltare è passato a lanciare è passato in seconda posizione del team dell'Islam Athletic Terni terzo è Salvatore Nitto dell'Aspet con 18 e 11 e infine Vincenzo Contemi ancora gruppo sportivo paralimpico difesa con 13 e 81 quindi completate le gare del disco sin qui in svolgimento dovremmo esserci quasi con la partenza della seconda serie dei 60 Fispes vi aggiorno quindi a questo punto anche sulla gara del peso donne 55 e 57 con Maria Andrea Maiale Veneto Special Sport 5 e 48 Carmen Acunto Endy Sport Tracusa 5 e 44 Maria Luisa Carnevale Gela Sport con 3 e 85 Valeria Grazia Meli ancora Gela Sport con 3 e 54 Maria Battaglia Endy Sport Tracusa 3 e 52 e Francesca Cavalieri Endy Sport Tracusa con 3 e 47 questo ancora un aggiornamento dalle pedane di lancio nelle gare invece di nella gara di lungo conclusa prima posizione per Agnese Spotorno con 4 e 26 davanti a Eugenia Zucchiatti con 3 e 95 Serena Bettin 3 e 30 Alice Bruschettin 3 e 2 e 75 Caterina Barghini 3 e 2 e 62 Eugenia Cespuglio 2 e 0 e 9 così da aver dato gli aggiornamenti prima dell'inizio della prossima gara di lungo nel frattempo siamo alla seconda serie in questo caso andiamo al femminile categoria T11 quindi stiamo parlando di disabilità visive tant'è che vedrete accanto alle atlete le loro guide che partiranno e correranno con loro Massimiliano approfittiamo anche per spiegare a chi non ha mai visto una gara per non vedenti come si svolge la partenza vedete è accoppiata a quella della guida sono legate da un laccetto ovviamente un laccetto che viene tenuto per mano e che permette di poter seguire l'atleta e sentirne anche le sensazioni e vi assicuro che avendolo provato sulla mia pelle si riesce davvero ad entrare in simbiosi quasi con l'atleta che si accompagna ed è davvero intenso ed emozionante anche se in questo caso essendo in fase di gara credo che sia anche una grandissima responsabilità accompagnare in questo caso questi atleti verso il traguardo e saranno in corsia 3 Piera Loda dell'Icaro Onlus ASD e volontariato corsia 5 Rossana Zambon della Riviera del Brenta e corsia 7 Rosa Ambrosi della Icaro Onlus ecco le partite e dovremmo essere un bel spalla spalla ma forse al centro Rossana Zambon della Riviera del Brenta è la prima a tagliare il traguardo leggete 12.03 il riscontro di questa categoria T11 ovviamente l'atleta guida non è che tira l'altra è l'atleta non vedente che tira ovviamente l'atleta guida qualcosa di simile l'abbiamo visto proprio qualche giorno fa dicevamo prima Paralimpiade intanto c'è il 4.34 come tempo che viene dato dalla speaker e il pubblico applaude dicevamo si stanno preparando anche a questo punto i podi per le premiazioni Bertagnoli quando ha vinto le sue medaglie alla Paralimpiade era accompagnato da una guida anche lui atleta non vedente l'importanza dell'atleta non vedente tu hai detto che l'hai provata in prima persona si assolutamente ho avuto la fortuna qualche annetto fa di fare la guida un atleta non vedente completamente non vedente oltre a un rapporto d'amicizia profondo con un atleta che forse conoscete tutti come Assunta Legnante e quindi vi assicuro che quel laccetto che può sembrare un semplice pezzo di stoffa riesce con la tensione della mano a far capire se l'atleta che stai in questo caso da parte mia accompagnando sta provando fatica sta provando tensione è rilassato semplicemente con la tensione di questo laccetto che tu contemporaneamente stringi dall'altro capo della tua mano e si riesce davvero a diventare un tutt'uno mentre si corre vi assicuro che è un'esperienza sportiva diversa per chi già pratica questo sport e si trova ovviamente a essere di supporto a chi in questo caso ne ha necessità che poi Assunta Legnante ha vissuto due vite una da atleta quindi è stata campionessa italiana sia da normodotata che da diversamente che da diversamente abile una doppia vita che se solo ci pensi c'è da scrivere un romanzo su una cosa del genere ho la fortuna di aver condiviso con Assunta la sua prima gara tra i normodotati da diversamente abile la tesserammo per un anno è stata mia compagna di squadra per un paio d'anni oltremente essere mia conterranea quindi c'è anche una vicinanza diciamo d'origine e Assunta racconta sempre di come ha vissuto in maniera diversa approfitto anche per ricordare che oggi in contemporanea qui c'è la Coppa Europa di Lanci in Portogallo Assunta ha vinto credo quattro medaglie d'argento se vado bene a memoria nella sua gara di peso in occasione ovviamente delle allora convocazioni in azzurro con la nazionale normodotati e poi ha iniziato il suo percorso di atleta paralimpica stabilendo primati mondiali e oggi essendo nonostante tutto uno degli atleti di riferimento di questa disciplina per la sua categoria quindi una grande atleta ma vi posso assicurare anche una grande donna e una grande persona con cui condividere tutto e vi faccio fare una risata una sera eravamo a Cina insieme durante una gara era Milano 2014 non ricordo male la sera prima è la finale del CDS assoluto su pista e mentre stavamo mangiando lei si gira e mi fa perché mi stai guardando storto io le stavo rispondendo dopo ho capito che mi stava prendendo in giro perché è lei che è proprio così e le ama anche saper sdrammatizzare sulla difficoltà personale facendo fare poi una risata a tutti quelli che erano lì quindi questo aneddoto anche per raccontare il personaggio non solo atleta ma anche al di fuori del campo per nulla avere da nulla contro il calcio ovviamente ma per chi pensa che lo sport sia solo Cristiano Ronaldo e Messi e non conosce Assunta Legnante dopo questa attenta descrizione di Carlo ricordiamo che fra le altre cose nel momento in cui ha perso la vista andava in giro con la mascherina con un paio d'occhi era un vezzo al femminile e un vezzo che significava tanto assolutamente fa parte ovviamente ripeto dell'estro anche dell'atleta Assunta è così anche altri stanno prendendo poi questa abitudine di usare queste mascherine molto particolari che per certi versi sdrammatizzano anche lo svolgimento della gara e lì difficoltà poi casomai operative in fase di gara scusami ma torniamo in gara perché siamo nuovamente sui blocchi di partenza in questo caso siamo alla terza serie quindi c'è un errore sulla grafica sono invece questi risultati già ottenuti sono Malia Tarqui e Benedetta Lincetto le due atlete in gara accompagnate le loro guide ed è proprio Malia Tarqui del gruppo l'atleta milanese che arriva al traguardo in 10.51 è stato purtroppo un imprevisto per la Lincetto che è inciampata poco prima del traguardo ma si è rialzata ed è arrivata fino al traguardo bello questo abbraccio questo è è lo sport vero e proprio da vedere anche le emozioni delle guide che come vi dicevo prima sentono la gara quasi quanto gli atleti le atlete che competono ed è davvero anche quello del traguardo un momento di condivisione forte perché anche tutti gli allenamenti sono condivisi la fatica è quotidiana fatta assieme e quindi il momento poi del risultato agonistico è una soddisfazione di entrambe le parti e non soltanto dell'atleta che compete col pettorale ma anche di quello che ha la scritta guida sulla propria casacca e quella scritta guida penso che debba essere un grande onore poterla portare emozionante sicuramente ripeto soprattutto per chi lo prova aggiornamenti gara Fisdir per quanto riguarda il peso donne c'è la mandolin la mandolini che sta per lanciare terzo tentativo quindi siamo in chiusura diciamo del primo ciclo dei tre lanci in questa gara la guardiamo un po' perplessa e non troppo soddisfatta diciamo così del suo risultato con l'allenatore che presumibilmente le sta dando un'indicazione sull'errore che potrebbe aver commesso visto che è considerato che il lancio non è stato da primato del mondo adesso si parlano si ascoltano a distanza sociale come si può ben vedere i tentativi 3.54 4.01 e 3.48 mi ha aiutato Carlo perché senza occhiali cioè non riuscivo neanche a vederli quindi lancio successivo Borgato in pedana Sorriso rivela SD Onlus lei è la quarta in questa gara con 3.24 come vedete già una ragazza che gareggia per una società che si chiama Sorriso è sorridente la società e sarà sorridente sicuramente anche lei penso che in questo momento sia più concentrata che alto e non l'ho vista neanche troppo soddisfatta del suo tentativo ma ovviamente la gara non è finita qui fa parte anche del gioco che qualche lancio non vada precisamente come l'atleta se lo aspetta e quello come dicevi tu prima è poi il compito del tecnico che di ausilio supporta in questo caso le ragazze in pedana qui non ci stanno contestazioni qua non c'è Var non c'è Moviola qua si accettano le decisioni dei giudici e i rimbrotti se debbono esserci degli allenatori come dei veri professionisti assolutamente e bisogna dirlo poi c'è anche il supporto poi tecnico in questo caso di Fidal Servizi che grazie alle immagini che stiamo vedendo eventualmente può supportare il gruppo giudici nel andare a rivedere le immagini di qualche momento critico di qualche momento più dubbioso per garantire poi agli atleti e alle atlete la certezza poi della decisione arbitrale e quindi motivo per cui c'è anche meno diciamo così rischio di contestazione Carlo fingiamo che in questa prima ora ora e mezza di trasmissione siamo stati bravi mamma quanta è lunga e ti chiedo proviamo a ragionare sul fatto che abbiamo intrigato qualche ascoltatore qualche telespettatore a fare la guida che cosa bisogna fare per diventare guida la cosa importante prima di tutto è imparare a conoscere dove sul territorio ci sono le società che operano nell'ambito dell'atletica paralimpica quindi tramite i siti web della FISPES e della FISDIR avvicinatevi ovviamente a queste realtà poi ovviamente saranno loro a guidare passo passo insieme alla federazione nel intraprendere questo percorso la maggior parte delle guide solitamente sono atleti che già si allenano per sé e che poi si prestano anche all'attività paralimpica nel frattempo è partita la quarta serie con Bertolo Inga Quiu e Verzolla e dovrebbe essere credo dagli accrediti la Inga la prima a tagliare il traguardo 8.80 per lei ovviamente attesissima la sua presenza oggi lei che è record woman della velocità paralimpica della sua categoria categoria T12 T ovviamente sta per track sta per pista la prima cifra indica il tipo di disabilità la seconda invece il grado in questo caso ripeto siamo a T12 quindi T per track uno per la disabilità visiva e due invece per il grado di disabilità rispetto a quella disabilità visiva Carlo una guida che età può avere? Non c'è alcun limite ciò che conta è la prestazione bisogna essere un atleta in grado di poter in questo caso correre alla stessa velocità dell'atleta forse leggermente più veloce come dicevi per poter controllare e quindi guidare senza essere come devo dire in debito d'ossigeno l'atleta in gara e quindi poter essere una sicurezza una garanzia un aiuto non sportivo e muscolare ma semplicemente di supporto durante lo svolgimento della prova guida e allenatore sono due figure diametralmente opposte non sono la stessa figura può capitare diciamo di sovrapposizioni di ruolo ma solitamente sono due cose diverse perché la guida è chi materialmente corre con l'atleta l'allenatore invece è colui che guarda controlla programma le fasi di allenamento per far sì che ovviamente si raggiunga il risultato nel frattempo mi piace fare un saluto a Giuseppe Campoccio Joe Black Joe Black sì noto a tutti soprattutto sui social con questo acronimo lui che è pluriprimatista italiano che soprattutto è davvero un riferimento un emblema un esempio ma soprattutto una persona che ha affetto per tutti e che davvero nell'ambiente conoscono tutti è una persona fra le altre scusami non una persona in questo caso è un atleta che ha vissuto una leggera sfortuna quest'anno perché è passato di categoria poco prima della Paralimpiade e quindi non ha potuto partecipare purtroppo sì ero con lui quel giorno dispiaciuto a prendere quella notizia c'era tanto ma diciamo così abbattimento in quel giorno ma nonostante tutto lui è sceso in campo ed è andato a gareggiare lo stesso nonostante una notizia che è stata da subito chiara che avrebbe compromesso della sua partecipazione a Tokyo quindi mi hai dato l'occasione per raccontare un altro aneddoto molto particolare che ripeto le tue parole dimostra sempre più la caratura di questi atleti che veramente rasentano il professionismo nel tipo di approccio e di dimostrazione di riconoscimento della dignità allo sport che praticano e del loro ruolo in questo caso esiste il calcio scommesse se esistesse l'atletica scommesse sarebbe vittoria sicura come il Real Madrid qualsiasi partecipazione di Joe Black i mondiali militari sono tutti suoi perché lui fra le altre cose è un colonnello è il grado di calonnello torniamo nel frattempo sui blocchi di partenza perché vedo in corsia 3 Valentina Petrillo dell'Omero Bergamo accanto alla Margherita Paciolla la Petrillo ha stabilito il primato italiano sui 200 la scorsa settimana con 26,87 oggi si cimenta sui 60 8,29 per lei in gara alla sua sinistra c'era Margherita Paciolla anche lei dell'Omero Bergamo che fa parte dell'Unicredit Fispess Academy alla sua destra invece in gara c'erano Giorgia Fascetta Giulia Compagna e Marta Bidoia quindi completata anche la serie numero 5 delle 14 che andremo a vedere sul rettilineo di velocità per quanto riguarda le gare Fispess in bocca al lupo per il racconto di queste gare continua a essere inquadrato sempre Giuseppe che si sta attendendo l'ok dai giudici per iniziare per completare la sua sequenza di lancio perché vedete ci sono già tre picchetti quindi siamo al quarto tentativo per lui prendi in pieno quello precedente c'è una prima premiazione credo ve la raccontiamo visto è considerato che la telecamera resta sul campo di battaglia del getto del peso l'unica nota stonata è la mascherina purtroppo da tenere anche in caso di premiazione perché nel momento di gloria in cui vinci una sola gara nella tua vita magari è quella dove c'è la pandemia e ti riconosceranno soltanto a me sono un concesso che ti possano riconoscere i parenti la cosa che speriamo davvero sia imminente l'abbandono della mascherina per fortuna le notizie anche dal governo sembrano positive in tal senso non tanto per la liberazione dalla mascherina ma quanto per la liberazione dal covid che per fortuna sta sempre meno andando a incidere sulla nostra quotidianità se purtroppo siamo al coperto quindi c'è una necessità di maggiore tutela e attenzione nonostante il sistema di ariazione le distanze garantite però è giusto ovviamente così si cerca o è possibile di andare a rimuoverla almeno per le foto di rito sul podio oggi che siamo comunque nella società dell'immagine della comunicazione dove una foto e un video fanno il giro dei social e permettono a chiunque di arrivare in ogni angolo del mondo laddove abbia un amico in connessione che quindi gli permetta in questo caso di condividere il momento di gioia che speriamo non sia con la mascherina Carlo fra le altre cose noi abbiamo vissuto due anni di pandemia adesso purtroppo la guerra ci manca solo l'invasione delle cavallette o quella degli alieni poi le abbiamo avute tutte prosegue intanto la premiazione non la vedete ovviamente inquadrata siamo su altre pedane in prima Riccardo dalla mano pieno del vento siamo tornati alla velocità in terza Duca Aronica free moment in quinta Matteo Gerlone Gus Brescia e in settima Diego Levato free moment 4.25 la Mandolini con il suo allenatore che l'ha presa per mano e l'ha portata a vedere quello che stava scrivendo il giudice della sua gara in questo momento c'è ancora impegno sulla pedana del getto del peso e ai nastri di partenza invece dei 60 metri tuoi Fispes siamo ai 60 metri con Riccardo Dallamana Luca Aronica Matteo Chiarlone e Diego Levato in questo caso patologie anche qui legate al campo visivo ma i due atleti in corsia 1 e 3 sono con guida perché ovviamente hanno un grado superiore essendo categoria T11 mentre gli atleti in quinta e in settima sono categoria T12 siamo al via viene chiamato un al tempo come vedete la mano alzata quindi significa che si ripete da capo tutta la procedura di partenza gli atleti ritornano dietro al blocco e il giudice starter richiamerà nuovamente ai vostri posti per invitare gli atleti sui blocchi quindi ci accodiamo all'invito di grazia nel richiedere il silenzio in partenza perché basta un minimo rumore per questi atleti che sono in questo caso ancora più non vedenti e quindi basano tutto il loro mondo sull'udito basta davvero un minimo rumore per dargli lo stimolo a partire nella tensione che stanno vivendo sui blocchi di partenza partenza valida c'è purtroppo una caduta in corsia 5 Matteo Ghiarlone ed è in corsia 7 Diego Levato della Free Moving con 8.35 il primo a tagliare la linea del traguardo lo vediamo perplesso e pensieroso nonostante abbia vinto senti Carlo ma ho notato che ci sono molte guide donne è un bellissimo messaggio e soprattutto è una bellissima constatazione che stavo facendo anche io poco fa segno anche siamo a pochi giorni dall'8 marzo anche della disponibilità e della capacità davvero di mettersi in gioco del gentil sesso si fa per dire in questo caso sul piano sportivo anche perché stiamo parlando di velocità e per la velocità ovviamente anche la preparazione fisica muscolare è tutt'altro che trascurabile quindi hai fatto bene a fare questa ma se adesso in questo momento una guida si sentisse male e chiamassero una guida di riserva tu saresti pronto ad andare ai blocchi di partenza ci adeguiamo se serve si fa tutto ma datemi il tempo di riscaldarmi e ci proviamo scherzi a parte dipende anche dall'atleta perché alcuni di questi veramente sono veloci e non è assolutamente facile riuscire a reggere i tempi e le prestazioni che portano ovviamente al traguardo anche in questo caso vedete ci troviamo nella stessa situazione due atleti con guida due senza per questa serie numero 7 dove ci saranno in corsia 1 Andrea Bugamelli della Francesco Francia quindi tre emiliano Macudia Begue della Omero Bergamo in terza Matteo Cavalieri corsia 5 della Sempione 82 e Francesco Paolo Giannini della Barletta Sportiva in corsia 7 approfitto per darvi anche qualche notizia perché contemporaneamente mi raggiungo arrivano anche notizie da Padova dove ci sono i campionati italiani di prove multiple indoor segno quando dicevo prima di quanto l'atletica in questo weekend è davvero ovunque con manifestazioni nazionali e arrivano anche i primi risultati dalla Coppa Europa di Lanci perché si sono completate le prime prove diciamo così dei nostri lanciatori in azzurro nel frattempo si è completata anche la staffetta alla festa del cross dove la gara femminile è stata vinta dal Cus Pro Patria Milano con la presenza di Nicole Reina sul traguardo quindi diamo anche qualche aggiornamento sull'atletica in in toto a 360 gradi nonostante siamo qui ad Ancona l'età ormai ce l'ho e quindi purtroppo lo devo ammettere ma mi vergogno per quel che riguarda la mia categoria visto e considerato che faccio il giornalista da tanti anni purtroppo da troppi anni già guardiamo la pensione e mi rendo conto tu racconti stiamo raccontando questa giornata hai raccontato quel che c'è stato quel che ci sarà quello che stiamo vivendo in simultanea e di atletica leggera si legge ben poco sui giornali ripeto svesto un attimo i panni del commentatore vesto quelli del consigliere della federazione di atletica leggera il grande risultato dei nostri sette medagliati d'oro a Tokyo cinque medaglie d'oro ma sette medagliati compresa la staffetta hanno permesso finalmente all'atletica di avere un po' di dignità di comunicazione troppo spesso parliamo di sport minori dovremo iniziare forse a ribattezzarli sport di minor rilevanza mediatica perché purtroppo il problema non è tanto la capacità di produrre atleti di rilievo di generare occasione di competizione di allenamento per questi ragazzi ma è un problema proprio di scarsa attenzione dei media soprattutto quelli generalisti e della carta stampata che purtroppo non dedicano il giusto tempo la giusta attenzione a sport che come abbiamo dimostrato con noi con l'atletica quest'estate riescono a regalare tanto lustro alla nostra nazione e casomai anche a dare un esempio a tanti ragazzini che piuttosto che stare sul divano o per le strade in città più delicate potrebbero avvicinarsi ai campi e quindi trovare una loro dimensione ma basti pensare che quest'estate c'era il rischio interrompo perdona un attimo perché siamo sui blocchi di partenza e si parte con la serie numero 7 dei 60 ed in questo caso è Makudian Bengue dell'Omero Bergamo al traguardo con 8 e 19 a tagliare per più il traguardo scusami torniamo al racconto il colmo dei colmi è ad esempio quest'estate proprio giochi olimpici e c'è stato il rischio che si parlasse più della squalifica della staffetta inglese piuttosto che della vittoria degli azzurri di recente c'è stata una squalifica di un'altra nazionale l'Italia ha vinto un altro oro per quel che riguarda ai mondiali della 4% della 4% si è parlato più della squalifica della nazionale in questo caso purtroppo presa con le mani nel sacco piuttosto che della vittoria degli azzurri ed è qualcosa che ti fa pensare la non notizia fa più notizia della notizia vera è una riflessione giornalistica che forse il nostro movimento dovrebbe andare ad analizzare nel profondo perché a volte ci concentriamo più sulla polemica e sulla contronotizia piuttosto che dare la dovuta e quotidiana rilevanza a prestazioni successi risultati di rilievo che dovrebbero essere quotidianamente divulgati e che invece probabilmente o non generano like e click oppure non generano quel diciamo generico polemizzare che alimenta soprattutto i social ma che invece non è edificante per quanto riguarda la coniezione collettiva del nostro movimento sportivo non solo dell'atletica ma di tutti gli sport perché lo dimostrano anche le recenti olimpiadi e paralimpiadi invernali l'Italia c'è e c'è sempre di più e tra Tokyo e Pechino abbiamo dimostrato quanto il nostro valore sportivo sia importante scusami se faccio una nota in ottica di quello che per noi tutti italiani dovrebbe essere davvero un vanto quello di Roma 2024 quando finalmente l'Italia tornerà a ospitare gli europei di atletica nella capitale dopo anni e anni e quindi sicuro sarà subito dopo l'olimpiade di Parigi è un appuntamento che il nostro sport sta attendendo davvero in maniera fortissima e speriamo di arrivarci anche sull'onda di questi risultati anche perché non nel 2024 per il 2024 vacheggiavamo qualcos'altro purtroppo non sarebbe dovuto essere Parigi-Roma ma Roma-Parigi l'ordine di svolgimento delle gare è andata così costatiamo ovviamente il dato di fatto l'importante davvero è che ci sarà grande fermento per gli europei di atletica in Italia che porteranno tanti atleti europei e continentali a venire qui tanta economia ci sarà anche l'occasione di un restyle dello stadio olimpico che vedrà rinnovarsi della pista di atletica sul quale il 9 giugno di quest'anno ci sarà ancora il Golden Gala a seguire Golden Gala Pietro Mennea Golden Gala Pietro Mennea scusa se all'interno del circuito Diamond League della World Athletics e soprattutto la grande novità di quest'anno lo svolgimento dei campionati italiani assoluti proprio allo stadio olimpico 20 giorni dopo e speriamo davvero che sia un'occasione per portare ancora una volta le persone allo stadio a vedere la grande atletica dove confidiamo di avere tutti i big dell'atletica italiana in gara proprio per continuare in questo messaggio sull'onda di Tokyo e in attesa poi dei campionati mondiali di Eugene che poi saranno poche settimane dopo in America quindi il programma dell'atletica italiana quest'anno è lunghissimo e aggiungo da mettere in calendario anche l'appuntamento della prima settimana di maggio quando invece sarà il Grand Prix Paralimpico a Jesolo se non vado errato 7-8 maggio altro appuntamento importante per l'atletica internazionale in questo caso Paralimpica non legge un foglio che sia uno Carlo tu hai detto prima giustamente fa più notizia la polemica tu non sei un grande appassionato di calcio pure se vieni dalla patria italiana di Diego Armando Maradona però è giusta come riflessione fatta da uno che fra le altre cose come ripeto non segue il pallone perché nel mondo d'oggi fa più notizia rigore non dato che il bel gol quindi rigore non dato vedi la moviola 200 volte il bel gol se ti capita e se è fortunato lo vedi soltanto una volta in presa diretta e poi non lo vedi più assolutamente ma come allo stesso tempo a volte purtroppo si è parlato più come dicevi tu della squalifica della Gran Bretagna della nostra nazionale mettendo in secondo piano il record italiano della 4% quel 37,50 che fece sì che Franco Beragagna costruì un racconto su quel 37,5 che non era la febbre d'allerta covid ma era il risultato con cui l'Italia vinceva la medaglia d'oro le Olimpiadi sulla 4% e allo stesso tempo casomai si mette in secondo piano che contemporaneamente nell'ultimo mese sono stati stabiliti due primati mondiali al coperto salto con l'asta e 1.5 da Mondo Duplantis e da Ingepris e da Ingepris due prestazioni stellari entrambi che però passano in secondo piano rispetto a una vicenda doping che dovrebbe essere stigmatizzata e non alimentata perché oramai davvero sembra che si parli più di quello che del risultato sportivo ma mi è capitato di partecipare a trasmissioni televisive in cui si parlava si cercava di parlare di sport e dove c'era ancora chi era convinto tu hai parlato di salto con l'asta che il primo testo del mondo il salto con l'asta fosse Sergei Bobka quindi è passato un po' di tempo è passato un po' di tempo e soprattutto siamo arrivati a misure prossime sei e venti perché e Duplantis non sembra firmarsi torniamo nel frattempo a raccontare le gare torniamo sui blocchi e torniamo sui blocchi con questa serie piena che vede sette atleti al via categoria T20 T45 T47 T47 in corsia 2 Ruggero Enrico Marchetti dell'Atletica 2000 in corsia 3 Fallusec della Sempione 82 corsia 4 per Antonio Paolillo della Barletta Sportiva corsia 5 per Antonio Di 7 della Kit Fit corsia 6 per Casper Filsò della Sempione 82 corsia 7 per Demetrio Battaglia direttantisti Caspett corsia 8 per Marco Guzzonato della Cambiaso Risso for Special siamo ai vostri posti c'è qualcosa che non va probabilmente o per la stabilità del blocco o per il rumore di fondo l'Atleta in corsia 6 ovvero Casper Filsò l'Atleta fuori gara chiede l'altempo e si ritorna sui blocchi di partenza vuota la corsia 4 quindi non ci sarà Antonio Paolillo al via l'Atleta Pugliese si appoggiano le mani dietro la linea la regola vuole che in partenza non si debba neanche toccare con le mani la linea di partenza ed è proprio Casper a portarsi per primo sulla linea del traguardo con 7.57 davanti a Fallusec i due atleti e la Sempione 82 sono i primi due a tagliare il traguardo siamo alla serie numero 9 delle 14 complessive questa è stata una gara molto bella col vincitore che fra le altre cose mentre tornava a bordo pista faceva di no con la testa come se non fosse contento entusiasta della sua prestazione queste batterie dei 60 per te sono un lavoro a parte visto è considerato che i campionati italiani potrebbero fare soltanto per i 60 metri e tieni conto che ovviamente abbiamo da seguire poi tutte le categorie non soltanto di classificazione ma anche di età quindi ovviamente oggi si è a segno di titoli assoluti adesso passiamo alle donne in questo caso e passiamo alla categoria T35 37 e 38 che vengono accorpate in questo caso per la prossima partenza quindi è davvero un mondo anche perché bisogna dirlo i 60 metri sono forse la gara più semplice da approcciare per chi ovviamente non ha difficoltà di ambulazione o anche eventualmente con l'utilizzo della carrozzina e quindi permettono anche una più ampia partecipazione a livello di iscritti a una competizione come quella di oggi mentre attendiamo la partenza della serie numero 10 noi andiamo a dare anche uno sguardo a cosa accade fuori dove Giavellotto si dovrebbe essere concluso e quindi rimane la vittoria di Luigi Casadei completate anche le gare di disco di peso ecco qui siamo al Giavellotto F45 46 47 57 62 63 e 64 maschile con Ricci della Francesco Francia 47 e 15 il primo ovviamente in classifica davanti a Bani che vedete è inquadrato sul tabellone lì in basso a destra che è l'ultimo ad aver lanciato in seconda posizione dell'Antropos con 25 e 42 terza posizione per Rognolo che porta i colori l'Andy Sportracusa con 23 e 44 ancora in quarta posizione Giovanni Mazzette dell'Atletica L'Aquila con 20 e 66 poi Giuseppe Mannino con 16 e 45 Giovanni Deva con 16 e 14 e 49 Danny Gomiero con 13 e 81 invece Marchetti assente questa dicevo la classifica finale di questa gara torniamo in gara con i 60 e partiamo torniamo alla partenza della serie numero 10 con Camilla Giorgetti dell'Antropos in corsia 2 Diana Luana Moraru in corsia 3 dell'Atletica Grosseto T37 invece Francesca Cipelli l'Azzurra della Veneto Special Sport in corsia 4 Luana De Grandis corsia 5 per la Icaro Sport Onlus SD Volontariato corsia 6 per Maria Concetta Maganuco della Gela Sport e Marina Parisio in 7 per la Icaro Onlus quindi l'attesa è per Francesca Cipelli l'Atleta azzurra che è stata nona a Tokyo e che oggi viene a correre la vedete con la maglia rossa centro del rettilineo di partenza che oggi ripeto torna a gareggiare con la maglia del suo club in occasione di questi campionati italiani indoor Fisdi Refispes sui 60 metri la vedete spesso anche impegnata nella gara del salto in lungo tendiamo la bandiera bianca dall'arrivo la giudice starter è pronta a dare la partenza quindi proviamo a seguire questa serie numero 10 siamo sui blocchi di partenza chiamano l'altempo le atlete quindi ci si rialza si torna a ripetere tutta la procedura di partenza silenzio ovviamente all'interno del palazzetto per accompagnare questa partenza partenza valida e ancora come preventivato Francesca Cipelli della Veneto Sport a portarsi in solitaria sul traguardo no 10.04 eccolo qui il tempo ufficioso ovviamente del vincitrice diciamo sempre ufficioso perché poi atteniamo che siano i cronometristi a darci il referto ufficiale che ovviamente ci appare su il Sigma Info grazie a Fida al Servizio 25 anni questa ragazza classe 1997 praticamente a corso da sola ma non è che ci sia il fatto di dover ostentare questa super bravura salto in lungo maschile intanto si si iniziano i salti di prova della categoria di questa gara open di lungo o più T20 tra poco seguiremo nuovamente l'atterraggio degli atleti in pedana recuperiamo la serie 8 che infatti prima mi sembrava essermi sfuggita con i risultati dei due atleti in gara ovvero Daniel Ferdinando Runco della Omero Bergamo con 8 e 16 e Vincenzo Cascella della Barletta Sportiva con 10 e 49 la serie numero 9 invece ha visto la vittoria come avete potuto seguire di Casper Filso con 7 e 56 davanti a Falusec con 7 e 74 ancora Marco Buzonato con 8 e 50 Demetrio Battaglia con 8 e 96 Antonio Di Sette con 9 e 35 e Ruggero Marchetti con 9 e 70 siamo sui blocchi siamo alle alle fasi finali ovviamente di questa serie ed è Campus il primo a tagliare il traguardo 10 e 11 riscontro anche in questo caso ovviamente ufficioso al traguardo portacolori della Sardegna Sport categoria T37 con lui Cristian Bonaccina Michele Cappucci Alessio Schiattone Roberto Musiu e Andrea Terraneo mancano ancora 3 serie e poi chiuderemo questa lunga carovana dei 60 metri quando siamo poco dopo le 16 e 30 non è un momento di relax ovviamente il dietro le quinte funziona ci sono i soliti capannelli intorno ai giudici per il salto è lungo i salti di prova stanno facendo provare non i muscoli ma la testa degli atleti più che i muscoli torniamo all'esterno con la gara di disco categoria F32 33 33 Ruta in pedana, pettorale 87 per lui, già due tentativi, si prepara ovviamente al terzo come raccontavamo prima quando vedete posizionata la sedia, gli atleti svolgono tutti e sei i lanci consecutivamente e poi vengono tutti misurati e archiviati nelle statistiche di gara per la stile della classifica generale in questa stessa gara Stefano Bertola ha già completato i suoi sei lanci con 6.74 la miglior misura come dicevo Emanuele Ruta sta effettuando il quarto e il quinto tentativo probabilmente e toccherà ad Antonino Pugliesi, il siciliano dell'Endisport Ragusa a chiudere l'ordine di lanci di questa gara della categoria F32-33 Mentre continuano i lanci, tra poco ci sarà il via della serie numero 12 eccoci al via con le tre atlete, Serena Banzato, Alina Alexandra Simeone e Giuliana Chiara Filippi ed è in corsia 5, Alina Alexandra Simeone della Pola Varese a tagliare per prima il traguardo 9.55 il riscontro ufficioso per lei Serena Banzato in dell'Assindustria alla sua sinistra e invece Chiara Filippi dell'Atletica Rotaliana alla sua destra lei in categoria T64 risultati della serie numero 10 con la vittoria di Francesca Cipelli 10.02 davanti a Luana De Grandis che sigla il nuovo primato italiano della categoria T38 con 11.99 davanti a Marina Parisi o anche lei della Icaronlus con 13.11 quarta Maria Concetta Maganucco della Gela Sport 13.36 quinta Diana Luana Moraru dell'Atletica Grosseto con 13.95 terza Camilla Giorgetti dell'Antropos con 30.22 risultati anche della serie numero 11 con la vittoria di Riccardo Campos 10.10 Sardegna Sport davanti a Cristian Bonaccina con 10.16 Endisport Ragusa terzo Andrea Terraneo della Sempione 82 11.24 Mica il Cappucci quarto Nuo Atletica di Sernia 11.60 Alessio Filippio Schiattone della Cambiaso Risso Fospecial 13.12 e Roberto Felicino Musiu della Sardegna Sport è spesto con 13.70 primo e sesto posto, primo e ultimo posto per la Sardegna quindi il presidente della società dovrebbe essere contento in ogni caso e credo anche il presidente della FISPES dovrebbe essere contento il nostro Sandrino nel frattempo Emanuele Ruta completa i suoi lanci miglior prestazione a 9.62 che lo porta parzialmente al comando mancherà Antonino Puglisi prima di capire se a questo punto rimarrà in prima posizione o dovessera eventualmente cedere lo scettro e passare in seconda in questa gara che assegna ovviamente il titolo italiano della categoria a proposito dei presidenti felici sarà felice anche il presidente FIDAL Stefano May perché il suo spezia sta vincendo 2-0 col Cagli vedremo andiamo avanti con un'altra bellissima gara eccoci qua serie numero 13 con Matteo Capelletti in corsia 2 dell'Antropos corsia 3 Marco Cicchetti fiamme azzurre ancora fiamme azzurre in corsia 4 con Emanuele Di Marino corsia 5 per Max Elamo Manu della Francesco Francia corsia 6 Fabrizio Mirante dell'Aspet e infine corsia 7 per Fabio Bottazzini della Pola Varese questi 6 atleti al via con i due portacolori delle fiamme azzurre forse c'è qualche difficoltà per l'atleta della Francesco Francia in corsia 5 che si posiziona adesso sul blocco e si parte partenza valida ed è proprio in corsia 5 dovrebbe essere Max El Manu anche lui con la maglia delle fiamme azzurre 7-0-2 in questa stagione 7-23 il suo riscontro lui che ha un 7-0-2 di Primato rappresenta la categoria T-64 3-4 4-3 4-3 4-3 5-4 7-4 6-4 6-0-2 6-3 6-4 7-4 7-4 7-4 8-4 6-9 8-4 7-4 9-4 Grazie. Il terzo è Nicola Capraro che è un 1992, diciamo che il 92-95 sono due generazioni abbastanza vicine ma il Millennials colpisce sempre quando qualcuno nato dopo il 2000 riesce a salire sul podio, non soltanto delle atleti ma in ogni caso a fare risultato. Grazie. Grazie a tutti. La Coppa Italia di Lancia si svolge su quattro tappe, la prima e l'ultima sono nazionali, quelle centrali invece si svolgono sui territori con fasi regionali e interregionali che permettono di acquisire o migliorare i punteggi sulle varie discipline. Siamo alla penultima serie, credo, dei 60 e siamo ai risultati poi invece anche della penultima. Quindi andiamo a leggere i partenti, corsia 2 Davide Bartolo Morana della Sempione 82, corsia 3 Alessandro Ossola delle Fiamme Azzurre, stesso team gruppo sportivo per Lorenzo Marcantonini in corsia 4, corsia 5 per Daniele Terenzi della Liceum Roma e ancora Miai Fiacchi in corsia 6 dell'Handy Sport Ragusa. In gara c'è il caro Alessandro Ossola, categoria T63 che è stato sesto a Tokyo nei 100 metri di questa categoria. e quindi lo seguiamo con particolare attenzione, ripeto, in corsia 3. Atleta delle Fiamme Azzurre. Stavo ridando un'occhiata agli spalti, c'è davvero tanta gente, se pensi che oggi è una giornata prettamente sportiva per Ancona, perché fra le altre cose la squadra di calcio gioca in casa, quindi sta pareggiando 2 a 2 con la Viterbese. Quindi è bello avere spalti gremiti per questa edizione dei campionati italiani, FIS di Re, FIS, PES di Atletica Leggera, anche perché danno un senso di continuità al discorso del lasciamoci alle spalle la pandemia. Non sottovalutiamo anche il discorso di turismo sportivo e di tutta l'economia portata per alberghi, ristoranti, bar e quant'altro, ma seguiamo prima lo svolgimento di gara con l'arrivo in corsia esterna di Miai Fiacchi, Lennis Sport Ragusa, categoria ML2, mentre i suoi avversari erano tutti categoria T62 e T63. approfitto per recuperare i risultati della serie numero 13, dove c'è stata la vittoria di Maxell Manu con 7,21, davanti a Marco Cicchetti con 7,69, terzo Emanuele Di Marino con 7,90, quarto Fabio Bottazzini con 8,13, quinto Fabrizio Mirante con 8,20, Matteo Cappelletti a sesto con 8,58. Atteniamo i risultati di questa, che sarà la serie che chiuderà il pacchetto dei 60 metri piani per quanto riguarda le categorie FISPES. Saremo poi pronti a seguire tutte le altre gare, nel frattempo premiazione peso della FISDIR. Ma scusami se ti interrompo, stasera quando finiremo, quando andremo nei rispettivi alberghi, ancora racconterai i 60 metri? Il rischio c'era, ma penso che data l'ora avremo ancora qualche oretta di racconti. Potremo dimenticare i 60 metri? Sì, ma lo faremo grazie alle altre gare che mancano in programma, perché ci saranno ancora la gara di marcia, ci saranno i 400 metri, ci saranno i 1500 metri, ci saranno i 1000 metri del Pentaton e chiuderemo con le staffette. Quindi c'è molto ancora da dover vivere anche per quanto riguarda il comparto corse e sarà impegnativo anche quello che ci aspetta. Risultati dell'ultima serie dei 60, ci appare in questo momento. E quindi abbiamo il riscontro di Miai Fiacchi dell'Endisport Ragusa con 7,69, davanti a Davide Bartolomorana con 8,03, Alessandro Ossola con 8,30, Lorenzo Marcantonini con 9,57, Daniele Terenzi con 11,94. Vedo un'altra partenza dei 60, suppongo che sia Fisdir, immagino. Grazie. 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 Proviamo a seguire ancora le gare in corso e ci proviamo a portare nelle pedane di peso, quella esterna vede per la categoria F54 maschile Federico Belardini dell'Antropos a 5,34, davanti a Daniele Virgadaula con 4,63 e ancora Adrian Stanku con 4,94. L'altra pedana di peso invece, quella categoria F34, vede i risultati ufficiali con la vittoria di Giuseppe Campoccio del gruppo sportivo paralimpico difesa a 9,77, davanti a Giovanni Loiacono con 5,20, terzo invece è Michele Macellari dell'Antropos con 3,59. Siamo schietti Carlo, hai raccontato il podio di una gara dove erano in ballo solo secondo e terzo posto, il primo posto si sapeva chi l'avrebbe conquistato. Mai dire mai. Mai dire mai, ma... Come per fare una citazione calcistica di Trapattoni, non dire gatto. Se non ce l'hai nel sacco. È in svolgimento anche qui all'interno del palazzetto la gara di getto del peso, in questo caso gara Fisdir per gli atleti della categoria Juniores, sta lanciando in questo istante Casadei. Luigi Casadei, 9,57 al suo precedente tentativo. Vediamo quanto avrà ottenuto in questo secondo lancio. Lancio, il primo della gara è Alessio Talocci dell'Antropos con 10,71. 9,73 si migliora ma non avanza in posizione. Siamo ai 60. Colombana, Zeni, Mandolini, dovevano essere queste le tre al via, sono in due ed è Chiara Zeni con 9,90 a essere la prima a tagliare il traguardo e a completare questo rettilineo e poi, come vi dicevamo, la gioia di arrivare sino al termine del rettilineo anche per Anna Colombana della Spea Padova Onlus. Nel peso intanto c'è Damiano Zambon che ha fatto 6,53 e 6,17 e siamo in attesa di Francesco Conso, dell'Antropos anche lui, mentre Zambon era della Noveomen, Trevisa Atletica SD, Associazione Sportivo Direttantistica. Attendiamoli, abbiamo ancora in red, in rosso, i riscontri. Tanto c'è Sneider, Andrea Sneider che si prepara per il lancio del peso, a Polisportivo a due ville, mentre dall'altra parte stiamo aspettando la misurazione del lancio, del getto di Francesco Conso. Sneider come primo lancio ha avuto un 5. vedete inquadrata la zona riservata agli atleti della pedana del peso, dove possono attendere ovviamente il loro turno di lancio, rilecuperare e riposarsi e rilassarsi prima dell'impegno in pedana. approfittiamo anche per ringraziarli, gli operatori di pedana, i volontari dell'Antropos e della Fidal Marche che coadiuvano e coordinano poi le attività di gara e permettono ovviamente agli atleti di avere tutti i riscontri, di poter aggiornare noi con i risultati online e ovviamente insieme ai giudici di poter garantire poi lo regolare svolgimento delle gare. Mettesimo arrivati al lancio di Luciano Damiani, vi ricapitoliamo i lanci che ci sono stati adesso, Alessio Tolocci dell'Antropos 10.34 e 10.71, Luigi Casadei anche egli dell'Antropos 9.57 e 9.73, Damiano Zambon della Trevisa Atletica 6.53, 6.17, Schneider, Andrea Schneider della Polisportiva 2.5 e 4.64 e aspettiamo Luciano Damiani. Tra poco torneremo nuovamente anche sui blocchi di partenza. Ancora 60 metri Carlo? Ancora 60 metri, 60 metri da categoria C21 per quanto riguarda ovviamente la FISDIR, scusatemi. I due lanci di Davide D'Ambrosio intanto hanno portato, USA Cli terzo millennio hanno portato alle misurazioni di 5.85 e 6.84. Ecco le schierate, le atlete di questa bellissima partenza sul rettilineo di velocità, mentre appaiono i risultati di Zenni e Colombani in grafica, andiamo a presentare i risultati, come vi dicevo, 9.88 per la Zenni, 12.49 per la Colombana, mentre siamo pronti a presentare le prossime atlete sui blocchi di partenza. Vedremo in corsia 3 per la Sardegna Sport e Chiara Stazzo, in corsia 4 per l'Unione Sportiva Quercia Elisa Zendri, in corsia 5 stessa società per Maddalena Salvaterra, in corsia 6 per Caterina Siesto dell'Axi Atletica Sport Toscana e infine corsia 7 per Angela Muffato della Sorriso Riviera A.S.D. Onlus. Queste le 5 atlete al via per quanto riguarda la categoria Signores Femminile C21 della Fisdir. Qualche ultimo istante di attesa, poi saremo pronte a seguire questa gara. Arriva l'ok. Mentre inizia la gara di lungo. Quindi tra poco andremo a seguire quello che sta accadendo nella penata del salto in lungo delle prove multiple. Partenza valida ed è in corsia 4 Elisa Zendri, ma in corsia 3 c'è il rientro di Chiara Stazzo della Sardegna Sport. Simpatico chi ha corso con la mascherina sull'avambraccio. Quasi un segno di riconoscimento. Veramente belle queste immagini quando vedi gli atleti e le atlete in questo caso che finiscono la loro prova e concentrati, delusi, gioiosi, pensierosi si riportano nella curva verso la zona della Corrum dove hanno depositato i loro indumenti e vedi proprio nel loro sguardo le smorfie, i pensieri che accompagnano la consapevolezza della propria prova se si è ottenuto un personale se si è fatto quanto si aspettava se si è andato troppo piano e si vorrebbe avere l'occasione di poter ricorrere subito per dimostrare di valere di meno è davvero bello anche poterlo vivere da qui perché oltre che lo schermo noi riusciamo a vederli anche diciamo dal vivo a pochi, non voglio dire pochi metri da noi perché non siamo vicinissimi al traguardo ma si riesce a intravedere comunque le smorfie di queste ragazze che hanno appena concluso i 60 chissà se i pensieri hanno prima mamma e papà o all'allenatore non per un discorso affettivo ma per un discorso di riscontro probabilmente dipende proprio dal tipo di risultato se è tecnicamente soddisfacente se ha un valore per quella che riguarda la posizione perché ovviamente sono quelli i tagli e le priorità personali che poi cambiano anche il pensiero verso chi va subito dopo la gara comunque dalla regia ti stavano ascoltando mentre parlavi lo fanno ovviamente perché è il loro lavoro perché hanno seguito l'atleta e l'hanno seguita con la telecamera esattamente come tu la stavi descrivendo in quel momento mentre aspettiamo scusami no perdono però dicevo quando poi queste cose le fai le provi vedi una smorfie capisci che è la tua in quella condizione diventa anche più semplice raccontarla getto del peso tanto stiamo aspettando per la partenza di 60 metri vi ricapitolo un po' di risultati Alessio Talocci 10.34 10.71 nei due lanci Luigi Casadei 9.57 9.73 Damiano Zambon 6.53 6.17 Francesco Conso non ha lanciato Andrea Schneider 5 al primo lancio e 4.64 al secondo e poi Davide D'Ambrosio 5.85 6.84 quindi un metro in più nel secondo lancio un metro preciso Ignazio Roberto Binetti 5.40 5.44 Alessandro Ara che ha della polisportiva Luna e Sole fa pensare un po' a San Francesco D'Assisi 6.88 6.86 Giorgia Ferrazza ha portato la famiglia e la clacca perché appena è stato detto il suo nome è partito l'applauso l'esultanza del pubblico a raccontare proprio quello che dicevamo prima ovvero la partecipazione qui al palazzetto di tanti appassionati tanti amici tanti compagni squadra ma anche persone che sono venute qui a vivere questa giornata di sport davvero unica per quanto riguarda Ancona ogni anno e che oramai è un appuntamento attesissimo siamo ancora i tuoi 60 metri tutti i tuoi ormai 60 metri è roba tua lo sappiamo partite anche in questo caso ed è agguerrita questa gara in ogni caso con uno sprint con le prime tre che si sono date battaglia fino alla fine guarda le smorfie guarda i gesti guarda cosa significa percorso in questo tempo e come ovviamente l'atleta una volta ottenuto il primato sfoga anche la tensione accumulata in giorni settimane di preparazione a questo momento che dura pochissimi secondi ma concentra probabilmente mesi mesi e mesi di allenamento soprattutto in questo periodo casomai con la pioggia con la freddo con la neve dipende ovviamente dalla provenienza di ognuno e quindi ha ancora un significato liberatorio ancora più forte vorrei essere nei panni dei responsabili di pista che debbono dire chiedere agli atleti la strada è quella mentre gli atleti farebbero tutt'altro ancora Zambon un quadrato che si è portato a 9,92 dal 9,73 che era il suo miglior lancio 6,55 miglior lancio il terzo lancio si vede che è un giro buono questo per Zambon due centimetri più rispetto al primo e un bel po' di centimetri in più rispetto al secondo lancio ancora Schneider in pedana grazie a tutti 4,91 dando una lettura un po' al volo diciamo così di quanto sta per avvenire eccole qui in partenza per la strazza in corsia 1 per la spea Padova Onlus in corsia 2 Alice Bruschetti dell'Unione Sportiva Quercia in corsia 3 Camilla Ferlito del progetto Filippide corsia 4 Eugenia Zucchiatti dell'Antropos corsia 5 Chiara Ron del Sorriso Riviera SD corsia 6 Veronica Easlavic dell'Unione Sportiva Quercia ancora Antonella Zazza dell'Associazione Spolisportiva non riusciamo a leggere Bari e ancora Aurora Fiorin ottava corsia per lei Sorriso Riviera SD Onlus 6.75 per Davide D'Ambroso dell'Acli terzo millennio al terzo lancio abbiamo parlato tanto di gare di atletica leggera tante tantissime questo fine settimana c'è anche la corsa di Michele che si corre per l'Ucraina la corsa di Michele è stata spostata da qualche giorno gli organizzatori hanno preferito posticiparla di un mese si correrà il 24 aprile se ricordo bene avrebbe dovuto esserci scuso ho detto sarà un altro un'altra grande occasione per correre a Roma tenuto conto che veniamo dalla Roma Ostia importantissimo per il mondo della corsa su strada si è partito a Napoli l'ultimo weekend di febbraio con il record italiano di Jeman Krippa sulla distanza di mezza maratuna con quasi 4.000 atleti alla partenza si è passati la settimana dopo come dicevi poco fa la Roma Ostia dove è stato stabilito uno dei migliori prestazioni al mondo di sempre e sono stati riscritti due record della gara al maschile e al femminile con il 58.02 se non ricordo male al maschile che è un tempo stellare ricordo quando oramai 5 anni fa commentavo l'arrivo dell'allora vincitore di Solomon Diego Chirua che sfiorò il record mondiale dell'epoca di due secondi domenica scorsa hanno vinto la stessa gara 42 secondi sotto che è lontano dal nuovo record mondiale della distanza pare che qualcuno della famiglia Duchi per questo doppio primato abbia deciso di andare in pellegrinaggio a piedi al divino amore penso che sia un po' difficile perché purtroppo Laura è risultata positiva quindi approfittiamo per mandarle un saluto assolutamente per mandare anche un saluto a Luciano a Sara e a tutto lo staff della Roma Ostia comunque piccola parentesi 47 edizioni un numero impressionante dove tu te ne renderai conto sicuramente tanto quanto me che le manifestazioni spesso e volentieri si presentano fanno la prima la seconda la terza edizione poi si fermano qui 47 edizioni come si dice a Roma è tanta roba 47 edizioni 8200 iscritti poi saranno stati poco più di 6.000 gli arrivati e soprattutto già il progetto per il 2023 che si apre perché grazie a queste due manifestazioni che ho citato ma anche a Maratona di Roma che sarà poi l'appuntamento della prossima settimana riparte il filone delle corse su strada che purtroppo proprio a Roma si era fermato a Capodanno con la notizia dell'allunamento che avvira a Roma che mandò un po' tutti nel panico costrinse molti ai rinvii tra questi e Corsa di Michele si ha decise lo spostamento e speriamo che invece queste tre manifestazioni che ho citato Napoli, Roma e Roma Napoli, Roma Ostia e Roma possano essere davvero lo slancio per l'attività della ripresa delle corse su strada che poi continueranno fino a Natale a inondare il calendario tenuto conto che sono il 70% dei tesserati e l'atletica vengono da lì quindi è davvero importante questa parentesi del nostro mondo però non perdiamo di vista anche la serie dei 60 metri che ha visto l'arrivo di Eugenia Zucchiatti al traguardo l'atleta dell'Antropos con 9,48 a soli 5 centesimi dal suo primato personale sulla distanza quindi ha davvero dato tutto dopo la gara di lungo che aveva l'aveva vista protagonista pochi minuti fa nella pedana qui davanti alla nostra postazione di commento nel getto del peso allora Talocci tre lanci 10,34 10,71 10,79 Luigi Casadei 9,57 9,73 9,92 Damiano Zambon 6,53 6,17 6,55 Andrea Schneider 5,4,64 4,91 Davide D'Ambrosio 5,85 6,84 6,75 Ignazio Roberto Binetti 5,40 5,44 5,66 Alessandro Ara 6,88 6,86 e poi 7,04 Talocci in pedana diciamo che Nelio in questo momento starà gongolando quando ci sono i suoi atleti ai quali confermo manda messaggi anche alle 2, alle 3, alle 4 del mattino Iron Man potremmo chiamarlo in questo momento Bianca Saluti Talocci invece di là Alessio Talocci che guida sempre la classifica del peso per l'altro cos 10,79 detto il suo vantaggio per i confronti dei rispettivi 10,07 adesso ci abbiamo una finale invece molto molto sentita risultati della serie precedente con la Zucchiatti che ha vinto il 9,46 sulla Ferlito con 10,25 terza la Strazza con 10,40 ancora Fiorin 10,99 Aron 11,24 Slavic 11,54 Bruschetti 11,65 Zazza 12,91 andiamo a seguire anche quest'altra finale categoria C21 Junior Maschili dove ci sarà in corsia 1 Luca Battilocchio dell'Atletica Osimo Giuseppe Di Marcio in corsia 2 per la Telemar Tempo Libero Mare e Sole ancora in terza Enrico Piotridente dell'associazione della Polisportiva di Bari ancora in quarta il miglior accredito dopo le batterie quello di Stefano Cretti dell'Alzabili Valcamonica in 5 Giovanni Zanamella della Spea Padova Onlus corsia 6 per Francesco Cantori dell'Atletica Osimo in settima Lorenzo Bettio della Sorriso Riviera S.D. Onlus in corsia 8 Leonardo Fantanetti dell'Antropos che chiude questo otetto al via partenza valida ed è una bella sfida tra corsia 2, 3 e 4 ed è in corsia 4 a spuntarla Stefano Cretti che aveva vinto in 8 e 25 le batterie ma adesso si riporta al traguardo per primo con 8 e 19 i lanci della finale del getto del peso Talocci al terzo ha fatto 10 e 07 Luigi Casadei 8 e 71 Damiano Zambon 6 e 38 Bado abbiamo parlato tanto di Nelio Piermattei allora vado sulle dichiarazioni che ha rilasciato poco prima dall'inizio di questi campionati riguardo il numero di record di partecipanti le presenze record sono un segnale fortissimo c'è voglia di ricominciare probabilmente dipende anche dalla spinta di Tokyo 2020 le Paralimpiadi hanno portato risultati importati per l'atletica italiana l'evento sarà di altissimo livello e così lo è Carlo dopo lo confermerà insieme a me sia per la grande partecipazione sia per la qualità degli atleti il boom di iscrizioni è stato sorprendente ci sarebbero voluta una sessione in più di gare rispetto alle due programmate la Kermesse sarà intensa per me è un'edizione speciale perché è la decima targata da Antropos devo ringraziare tutti a partire dall'assessore allo sport del CONA Andrea Guidotti che per noi c'è sempre spero che anche la regione continui su questa strada l'attività paralimpica richiede risorse notevoli lo sport per disabili è più costoso quello che dice Enelio secondo te è un'edizione sugli scudi da tenere sugli scudi una bella edizione questa le premesse ci sono tutte le prime gare lo stanno ovviamente facendo credere lo potremmo dire ovviamente a termine della due giorni di gare qui ad Ancona siamo neanche a metà della prima quindi non anticipiamo nulla e godiamoci lo spettacolo di questa grande festa di sport paralimpica che davvero Ancona ancora una volta sta ospitando al meglio e come dicevi tu grazie anche a degli spalti cremiti che stanno davvero facendo sentire il calore degli appassionati e di tutti i presenti a coloro che sono in questo momento nelle pedane nelle corsie per affrontare la propria prova nelle varie categorie FISPES e FISDIR che oggi competono per i titoli italiani lo ricordiamo a tutti chiunque fosse qui nei paraggi di Ancona può venire al palazzetto perché ovviamente grazie anche alle nuove norme di riapertura c'è la possibilità di una presenza maggiore di pubblico all'interno degli impianti al coperto quindi è possibile anche venire a vedere da vicino quello che sta accadendo qui al palazzetto ovviamente per chi da casa sta seguendo qualche amico qualche compagno di squadra qualche parente le pagine facebook della FISPES e della FISDIR ma anche i canali youtube per seguire quanto sta accadendo qui siamo alla finale della categoria senior C21 e in questo caso siamo in corsia Quastro con Andrea Piacentini che dovrebbe aver battuto Federico Giannini e Luca Mancioli per questi 60 metri senior 8,96 aveva vinto in batteria con 9,01 quindi anche in questo caso 5 centesimi miglioramento tra primo e secondo round di corsa ritorno ai lanci al getto del peso perché Schneider al quarto ha fatto 4,09 Davide D'Ambrosio al quarto ha fatto 6,79 Ignazio Roberto Binetti al quarto ha fatto 5,82 e Alessandro Ara al quarto ha fatto 6,72 al momento l'unica gara in pista in questo momento è strano dire in pista visto che è al centro dell'ovale il salto è lungo per il resto sembra siano finiti i 60 metri possiamo dare una giornata e mezzo di riposo a Carlo che li ha fatti tutti praticamente quindi non sono finiti ancora una serie no no non sono finiti ovviamente però volendo possiamo dargli una giornata domani puoi anche non venire tutti i 60 metri sono stati sono stati tuoi domani sarà il momento dei 200 quindi ricominceremo da capo anche in quel fronte ricordo a tutti come detto prima che adesso ci sarà l'ultima partenza sul rettilineo della velocità e poi passeremo a distanze più lunghe perché sarà il momento della gara di marcia al alle ore 17 e 15 era prevista quindi siamo con 5 minuti di ritardo circa e poi a seguire ritorneremo sull'anello con i 400 metri e con il 1500 prima ovviamente dei 1000 delle prove multipe e della staffetta 4x4 che alle ore 20 chiuderà il programma orario e il programma tecnico di questa prima giornata mentre domani mattina si ricomincerà alle 9 e si andrà a casa se tutto va bene alle 13 e 30 assolutamente vedremo anche lì che cosa accadrà noi siamo pronti a tutto e a tutti anche perché lo sforzo lo stanno facendo gli atleti in gara e non di certo noi che stiamo qui a commentare a raccontare quello che accade sia dentro che fuori al pala indoor di ancona e lì nel conti il campo outdoor all'esterno dove vedete lo iacono dell'antropos che sta effettuando i suoi lanci per la gara di disco da un chilo della categoria F34 Fispes iniziamo a vedere anche il tramonto nonostante sono 17 e 20 manca ancora una settimana prima del cambio dell'ora atteso per tutti coloro che fanno atletica perché è il momento in cui ci si può riappropriare del campo fino a tardo pomeriggio e quindi davvero l'ultima occasione anche per i campionati invernali questo weekend prima ripeto che si ritorni a vivere giornate lunghe piene di luce grazie anche alle temperature che per fortuna stanno ricominciando ad alzarsi e quindi a farci vivere al meglio il nostro bel paese come tante volte per fortuna possiamo dire di goderci per le altre cose siamo nel 2022 e ricorre a ricorso in questi giorni un particolare anniversario ed è stata la prima volta parliamo di atletica leggera ovviamente e di salto in lungo in uno specifico è il quarantesimo anniversario del primo italiano che ha saltato oltre gli otto metri stiamo parlando di evangelisti e siamo anche a dieci anni da quella storica medaglia di Antonietta di Martino di quell'argento fantastico credo fossero proprio ieri dieci anni approfitto anche per mandare un saluto ad Antonietta che ha ripreso in questo momento a tornare sui campi questa volta da allenatrice e sta portando avanti un bellissimo progetto di salto in alto a Salerno sullo stadio Vestuti un impianto che da poco è stato rimesso a nuovo ieri stavano cambiando la sabbia delle pedale e il salto in lungo e quindi ancora più sentito il saluto ad Antonietta che con il suo percorso d'atleta non lo ha diciamo così messo nel cassetto ma l'ha ritirato fuori per dedicarsi ai ragazzi e permettere anche a loro di poter godersi la sua esperienza internazionale e quel primato italiano che ancora tutti quanti oggi abbiamo stampato davanti agli occhi quando davvero ci ha fatto sognare non possiamo dire altrimenti siamo al quinto turno di lanci nella pedana del peso con Schneider che torna a lanciare 5 metri il suo miglior lancio settima posizione al parziale Talocci intanto al quinto ha fatto 10.85 Mandiera va a bianca quindi se lancio valido cerchiamo di prepararci anche agli ultimi 60 metri di questa giornata ancora inquadrati i nostri pesisti che tra un lancio e l'altro chiacchierano e socializzano come giusto che sia condividendo la tensione e l'adrenalina di gara allora attenzione tra 15 minuti circa partiremo con le premiazioni FISTER della categoria C21 quindi prego gli atleti ma soprattutto tecnici e dirigenti di avvertire gli atleti di portarsi nella zona fronte al cerimoniale grazie intanto il quinto Snyder ha fatto 4 e 38 al quinto lancio la speaker ha anticipato che fra qualche istante andrando in scena in onda per voi che state vedendo alcune premiazioni avvisate gli atleti spesso e volentieri gli atleti quasi si dimenticano della premiazione vanno a festeggiare con i parenti con i genitori magari forse con gli allenatori che dimenticano finale anche di questi 60 con la quarta posizione quarta corsia di Federico Cabizza che si avvicina tantissimo al suo 7 e 51 e vince con 7 e 60 questa finale complimenti a lui davvero ha fatto il vuoto in questa gara e lo vedete felice soddisfatto della sua prova torna ai box dovrebbe esserci ancora una partenza per questa distanza vedremo cosa accadrà a breve quinto lancio anche per Ara con 7 e 17 nella polisportiva l'Una e Sole terzo al momento continuano anche i salti nella gara di lungo e continuano anche i lanci all'esterno perché anche quello è in corso d'opera ricordo prima tappa della Coppa Italia di lanci FISPES quest'oggi qui ad Ancona Massimiliano sicuramente la contemporaneità delle gare a volte distoglie un po' lo sguardo ci si concentra su una disciplina piuttosto che sull'altra di recente un po' di polemiche sulla regia televisiva che danno in generale troppa attenzione alle corse rispetto ai lanci e ai salti quest'oggi stiamo vivendo il contrario perché siamo inondati di lanci tra indoor e outdoor in più in questo momento c'è il salto in lungo e svolgimento da te che forse sei meno abituato quotidianamente a vivere l'atletica quanto è difficile spiegare anche a chi ascolta da casa come si può raccontare contemporaneamente discipline così diverse che meritano un'attenzione così diversa perché mentre la gara di corsa basta seguirla con lo sguardo si riesce comunque bene o male a identificare la prestazione la posizione finale con le gare di concorso diventa tutto più complicato è fatto in contemporanea tra pedane interne ed esterne stiamo facendo un bel lavoraccio per riuscire a spiegare a tutti cosa sta accadendo qui ad ancora infatti poi ci sono determinate discipline il getto del peso ad esempio che dura il tempo di un amen vedi un atleta che rodea su se stesso lancia il peso e la finisce c'è forse addirittura meno patos ma non è così in realtà però per il telespettatore medio quello che segue non segue lo sport meno patos rispetto al salto in alto ad esempio che l'hai l'idea di vedere quella sticella che cade o meno quindi intanto io vi do prima della partenza dei 60 metri la classifica momentanea del getto del peso con talocci in testa 10 e 85 il suo miglior lancio secondo con 9 e 22 Luigi Casadei e il terzo è Damiano Zambon con 6 e 48 torniamo ai 60 finale ancora per questa caterina SM 20 con Anton Narciso in corsia 1 della Spea Padova in corsia 2 Adolfo Aghemang dell'Antropos in terza ancora Antropos con Gaetano Schimenti corsia 4 ancora Antropos con Raffaele Di Maggio corsia 5 Mario Alberto Bertolaso della Spea Padova Onlus corsia 6 Alberto Presutti della USA Cliterzo Millennio corsia 7 Simone Boiocchi dell'Atletica Piacenza corsia 8 Perchemi Misentini della Format Ferrara miglior a credito quello di Raffaele Di Maggio con il 7 e 19 ottenuto in batteria siamo pronti sui blocchi e attendiamo il momento dello sparo partiti bene i tre atleti al centro ma Raffaele Di Maggio esce e tutta velocità e scende a 7 e 16 nonostante una parestenza diciamo non perfetta recupera e vince questa gara con un ottimo crono bello anche l'applauso degli spalti del Pala Indor che davvero stanno dando giusto merito all'impresa e all'impegno di questi ragazzi che hanno appena corso tutti nessuno escluso dal primo all'ultimo dal più bravo al diciamo meno atletico non meno bravo meno atletico meno portato per lo sport perché in ogni caso fa lo sport vive per lo sport si allena si ricimenta in discipline che anche per noi no parlo soltanto per me non per te sono praticamente impossibili ho provato una volta a fare a proposito del getto del peso il getto del peso da seduto e penso che il peso mi sia caduto davanti ho visto atleti adesso fuori sull'erba del campo Limitro Falpala Indor che l'hanno lanciato molto più lontano di dove l'ho lanciato quella volta io Talocci ritorna in pedana credo sia l'ultimo lancio il sesto e ultimo lancio non sembrava soddisfatto dallo sguardo provo a dare un po' di aggiornamenti anche alla pedana del salto in lungo mentre rimane confermato il 10.85 per un solo centimetro non ripete e dicevo diamo aggiornamenti un po' anche dalla pedana del salto in lungo per adesso 5.32 di Salvatore Gabriele Bianca davanti a Carlo Corallini con 4.58 Lorenzo Muschio 4.23 Fabio De Tommasi 4.13 Gianluca Scano 4.07 Leonardo Bucci 4.01 ancora Mirko Bosco 3.91 Davide Sardi 3.76 Oleg Salvatori 3.49 Medi Giotam Resin 3.34 Thomas Libardi 3.20 Stefano De Biasi 2.91 Denis Sazzolini 2.70 1.91 Gianmarco Trifella questi che sono atleti impegnati nella gara del salto in lungo 20-20 Nel frattempo vediamo inquadrato Ridelli nella gara del disco F34 non ha ancora no dovrebbe avere appena iniziato la sua gara perché vediamo il primo picchetto posizionato sul nella zona della 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 zona di caduta ovviamente il giudice di gara come vedete esce dalla gabbia e si va a mettere una posizione sicura per non rischiare qualora ci fosse un lancio errato di poter essere in qualche modo accidentalmente colpito il suo allenatore va a dare consigli in corso di gara questo 14-47 da dover battere di Giovanni Loiacono ci saranno dopo un altro di nuovo il nostro caro Giuseppe Campoccio tornerà in pedana in questa stessa gara massimilando il contrasto anche ottico e visivo tra quello che vediamo qui all'interno del palazzetto è ciò che sta accadendo fuori come diciamo prima con la luce che inizia a scemare perché ovviamente farà sì che si concludano anche prima le gare all'esterno rispetto a quelle indoor però nonostante tutto è bello vedere anche il campo accanto pieno di atleti e di persone che sono qui in pedia di gara sicuramente l'istantanea esterna è più romantica ma noi stiamo al calduccio colpisce che Riderelli si chiama Jonathan senza la N finale signor Antonella Morano e l'assessore allo sport della città Biancoma Andrea Guidotti quindi noi siamo pronti ad applaudire Serena Bettin che ritroviamo al podio eccola l'abbiamo vista prima in terza ecco al bronzo nel frattempo qui all'interno del palazzetto è in corso la premiazione del salto in lungo abbiamo è stata credo la prima gara di giornata svolta qui all'interno del palazzetto e la vincitrice di questa ovviamente FISPES insieme ha fatto anche un nuovo promato italiano c'è Agnese Spodorno la premiazione di Agnese Spodorno viene premiata dalla vicepresidente della FISPES Antonella Munaro ancora riparelli sulla sedia vedete già quattro picchetti posizionati un quinto lancio dovrebbe essere stato un fuorisettore quindi credo che sia l'ultimo tentativo per Riderelli di chiudere la partita questo forse il più lungo dei lanci sin cui ho tenuto sembra si è alzata la bandiera rossa dall'inizio alla fine sulla pedana del peso diventa dovrebbe essersi conclusa la gara di peso indor con talocci che ha vinto a mani basse sì confermata la vittoria con 10.85 su Luigi Cassadei a 9.92 e Alessandro Ara a 7.16 appena lanciato a 7 metri ultimo a lanciare quindi si è avvicinato nuovamente a quella miglior prestazione di oggi poi Davide D'Ambrosio 7.05 Damiano Zambon 6.55 Ignazio Roberto Binetti 6.08 e Andrea Schneider con 5 metri nel frattempo parte la gara di marcia gara di marcia maschile con Alessandro Cornacchia e Federico Mei rispettivamente è l'ASD uguale in lo sport di Giulianova e Antropos è quest'ultimo a guidare la gara dopo il primo giro di questi 3 chilometri complessivi saranno lunghi 15 giri di questo anello vedo già schierati i giudici di marcia lungo le corsie ed eccolo qui Federico Mei sta girando intorno ai 5.05 a chilometro dopo questo primo giro nel frattempo la premiazione dei 60 con Marco Cicchetti e credo Emanuele Marino Emanuele Di Marino dovrebbero essere loro i premiati mentre la marcia ormai siamo a 300 metri dalla partenza 1.33 1.34 il passaggio mentre vedete inquadrate le immagini della misurazione dei lanci nella gara del disco atteniamo il riscontro ma credo che ci sia un risultato molto vicino tra i due atleti che hanno lanciato in questa pedala ora lo vedete già inquadrato Giuseppe Campoccio che segue le procedure di installazione della sua sedia eccolo il riscontro 12.21 per Riderelli dicevo invece Giuseppe Campoccio del gruppo sportivo paralimpico di Pesa sarà il prossimo a lanciare e collabora al posizionamento della sua sedia dalla quale potrà effettuare i suoi sei lanci 2.43 2.44 il passaggio nel primo cinquecento del battistrada Federico May dell'Antropos eccoli qui due protagonisti di questi quindici giri della gara di marcia senior open 12.22 per le fiamme azzurre Alessandro Ossola 8 a 30 peraltro con il nuovo record italiano un applauso Ossola che già ricordiamo apprendiamo dalle parole della speaker di campo da parte di Grazia della notizia ufficiale del confermato nuovo record italiano di Alessandro Ossola nei 60 per quanto riguarda ovviamente la categoria T63 ricordo atleta che è arrivato sesto nella sua categoria ovviamente alle Paralimpiadi di Tokyo la scorsa estate quindi complimenti davvero ad Alessandro che oltre al grande piazzamento estivo in occasione della gara a cinque cerchi oggi diventa l'uomo italiano di questa categoria che ha corso più forte di sempre i 60 metri Carlo la battuta verrebbe quasi scontata dopo 212 batterie dei 60 metri il risultato doveva venirci fuori per forza no tanto di cappello al ragazzo perché come hai sottolineato da Tokyo ad Ancona il passo è breve molto breve visto visto quel che ha ottenuto qui al Palahindor in questa prima giornata dei campionati italiani di atletica leggera Fisper Fispes Fisdir nel frattempo continua anche la gara del salto in lungo con Corallini che ha appena effettuato il suo quinto e penultimo salto di gara stiamo attendendo la lettura del risultato 3.55 che lo porta in seconda posizione 4.58 il suo miglior salto fino ad ora a tempo continua la gara di marcia al prossimo giro saremo al primo chilometro completato fermo restando che per la gara di marcia confidiamo nel suono della campanella dei giudici i due ragazzi stanno continuando i loro 15 giri nel frattempo siamo con Bosco nella pedana del lungo un po' di colore sugli spalti stiamo ascoltando come quanto anche un po' di goliardia accompagni questi momenti di gara e non vorremmo essere nei panni di Luana che deve pagare assolutamente vedo lì in fondo l'arrivo del presidente della FISPES di Sandrino Porru e spero ripeto che potremo più tardi poi intervistare e fargli lasciare un saluto anche per coloro che ci stanno seguendo da casa gara di marcia che oramai è al primo chilometro la prossima distanza della stessa disciplina sarà invece in questo caso la metà un chilometro e mezzo per la categoria C21 e poi ritorneremo a correre con il doppio giro di pista indoor ovviamente il giro di pista outdoor dei 400 metri che ci farà ritornare a vivere anche un po' di emozioni di qualche fotofinish di qualche arrivo spalla spalla come è accaduto già con i 60 e sarà circa un'ora quella che impiegheremo perdona se sì un'ora che impiegheremo per affrontare i 400 e i 1500 delle varie categorie e poi ripeto ore 20 prevista la partenza della staffetta 4x4 che chiuderà questa prima delle due giornate dei campionati italiani paralimpici indoor FISPES e della prima tappa della Coppa Italia Lanci FISPES nonché ovviamente campionato invernale di queste discipline arrivano un po' di aggiornamenti anche dall'altra parte d'Europa perché come vi dicevo in corso di svolgimento la Coppa Europa Lanci con la nostra squadra azzurra impegnata quinta posizione per Enrico Sacco Manno nella disco under 23 ottava invece Anna Musci la sorella di più noto Carmelo per quanto riguarda la gara di peso under 23 quindicesima posizione tra gli assoluti per Simone Falloni nel martello maschile quindi questi i primi aggiornamenti che arrivano da Leira che ben fanno sperare per il mondo dei lanci tenuto conto che forse è quello che un po' meno ha dato riscontro durante la rassegna olimpica di Tokyo e quindi speriamo davvero che anche da da Leira dal Portogallo arrivino belle notizie sono andato a cercare e ti do conferma di quello che dicevo poco fa ovvero che Assunta Legnante ha vinto quattro delle medaglie che l'Italia ha vinto nella storia della Coppa Europa di Lanci quindi merito a lei che ripeto sarà poi impegnata domani in pedana qui con noi lei che oramai abita a poco da qui abita qui nelle Marche e sarà impegnata dicevo agonisticamente parlando domattina lei fra le altre cose è stata atleta della Camelot atleta della Camelot prima poi ha cambiato varie società adesso veste i colori dell'Antropos ma ovviamente è anche l'Antropos adesso bello l'applauso che accompagna il passaggio dei marciatori un po' solitari nella loro prova e che vengono supportati dal pubblico che non li lascia soli quando siamo praticamente a metà gara in questi tre chilometri otto giri al traguardo per Cornacchia sette per Mei questa gara Fisdir iniziano i lanci di Giuseppe Campoccio nella gabbia del disco all'esterno categoria F34 per questa categoria è previsto l'utilizzo del disco da un chilo e come leggete Giuseppe porta i colori del gruppo sportivo paralimpico difesa del ministero della difesa terzo lancio valido per lui forse è il caso di dire alla regia di spostare leggermente più dietro la telecamera ci auguriamo ci auguriamo che non serva per l'operatore ci auguriamo che serva che serva per lui spazio libero per andare oltre in questo momento la gara vedeva il comando la miglior misura di 14 metri se leggete i cubi laterali vedete quanto siamo molto più avanti dei 16 quindi a conferma anche della caratura di Giuseppe e di quanto poi dicevi tu poco fa non c'è da dire che sia si gioca per il secondo e il terzo posto ma la prima posizione era facilmente immaginabile data la caratura dell'atleta e poi credo che per quel discorso proprio di aver di aver visto sfumare la partecipazione olimpica lui abbia anche quella marcia in più una rabbia in più per cercare di dimostrare che quel posto se non ci fosse stato quel cambio di categoria sarebbe stato sarebbe stato suo e sarebbe stata sua magari anche una medaglia una medaglia importante assolutamente e attendiamo di vedere i prossimi e ultimi tre lanci per completare questa gara di disco mentre oramai Mei è al secondo chilometro di gara a due terzi della sua prova siamo intorno agli undici minuti e trenta quindi è perso qualcosina in questo secondo frangente nel chilometro centrale diciamo della sua distanza da affrontare nel frattempo ricomincia a lanciare Giuseppe Caboccio continuano anche i saldi nella pedana del lungo con Libardi che è appena ottenuto effettuato il quinto tentativo tra poco si torna in pedana col peso con gli atleti del pentathlon che andranno ad affrontare un'altra delle loro discipline previste oggi e quindi seguiremo anche questa gara siamo oramai a 900 metri dall'arrivo per quanto riguarda la testa della corsa della marcia maschile secondo secondo chilometro completato anche da Cornacchia 12 minuti e una ventina di secondi circa per lui al parziale nel frattempo torna ancora Federico Mei sul rettilineo finale a lui mancheranno tre giri quattro giri al termine quattro perdona sempre in marcia ho parlato del pentathlon andiamo alla classifica dopo dopo due gare Andrea Mattone è in testa con 1047 punti Andrea Magna Bosco bisogna chiamarsi Andrea per fare il pentathlon è secondo con 481 punti il terzo è Nicola Caprano che ha 194 punti questo dopo le due gare di pentathlon fin qui disputate 60 piani T46 T47 bene in questa classifica per la T46 della polisportiva dilettantistica c'è il medio battaglia premio sempre la nostra Altonella Murano come vicepresidente Fispes al centro abbiamo il nostro ovviamente ecco qui mentre nella categoria T47 per la Cambiasa Marco Consonato premiazioni in corso qui nel palazzetto per quanto riguarda le categorie dei 60 le gare dei 60 metri mentre siamo a meno di 600 metri dalla conclusione del gara di marcia 550 metri per la precisione al traguardo mentre si completa la sequenza di lanci Giuseppe Campoccio e tra poco sapremo qual è stato il suo riscontro finale per la vittoria di questo altro titolo italiano di oggi ancora lì siamo tornati ancora May Cornacchia per il passaggio sul rettilineo finale mancheranno due giri al passaggio 3 per il secondo che è arretrato di 200 metri rispetto alla battistrada termine della marcia ecco May Federico 15 0 9 tempo si succede ma avanti 3 giri per Cornacchia quanto è difficile riuscire a marciare bene in un impianto indoor con le curve paraboliche seppure qui a Dancone sono morbidissime mi assicuro che non è affatto facile a prescindere dalla fatica che pian piano sale giro dopo giro anche riuscire a mantenere la correttezza del movimento del gesto tecnico nonostante la pendenza è davvero difficile tenuto conto che per chi ovviamente non lo sapesse la marcia è l'unica disciplina soggetta a giudizio dei giudici e che può prevedere una squalifica in corsa per non per comportamenti antisportivi ma per delle scorrettezze delle diciamo così degli atti impropri sul piano tecnico se non si rispetta il tacco punta nota come disciplina del tacco punta le due proposte possibili di squalifico a munizione che arrivano da parte dei giudici sono o per lo sbloccaggio del ginocchio quindi che al momento del contatto a terra del piede il ginocchio che avanza sia completamente steso e quindi non abbia un'angolatura e quindi di conseguenza uno sbloccaggio nella parte posteriore e l'altra invece possibile sanzione legata alla sospensione perché il marciatore ha l'obbligo di avere sempre almeno un piede a contatto con il pavimento praticamente non deve esistere la fase di volo seguiamo questi ultimi metri di Federico May che chiude in 17.10 il suo 3.000 con questa questa medaglia medaglia d'oro mentre attendiamo che il suo rivale Alessandro Cornacchia vada a chiudere l'ultimo giro siamo al risultato finale della gara del disco con Giuseppe Campoccio che ha chiuso in 22.366 tenuto conto che l'ultimo lancio è stato 22.39 davanti a Giuseppe Loiacono con 14.47 e Giona Tarita con 12.21 e adesso ti stupisco io ho scritto un libro sulla marcia raccontando la carriera della prima atleta italiana che ha vinto una competizione mondiale la Coppa del Mondo era il campione del mondo non era il mondiale ancora ed è Giuliana Salce il libro è uscito due anni fa tacco e punta Giuliana tacco e punta mi sono appassionato la marcia mi piaceva già prima non da praticare però particolarmente impegnativa soprattutto sul piano mentale fisico ed è una disciplina veramente non per tutti serve tanta testa serve tanta dedizione serve tanta costanza e servono anche tanti chilometri per scrivere tanti detrattori non miei della marcia sottolineano che la marcia sia quello sport dedicato a chi è flemmatico diciamo così nelle gare di corsa invece no serve tanta testa serve tanta tantissima testa ma soprattutto vedendo quello che sta accadendo a livello mondiale settimana scorsa ci sono stati i campionati del mondo a squadra in Oman dove ovviamente è stata anche la nostra nazionale tu vedi oramai atleti percorrere 20-35 km a 14-15-16 km orari di velocità è tutt'altro che flemmatico perché le frequenze d'appoggio sono diventate talmente alte che non si riesce quasi più a giudicarle a occhio nudo tant'è che molti conoscono lo studio in atto per dei sensori utili a poter capire se effettivamente la regola di sospensione quella che come dicevo prevede l'impossibilità di avere tutti e due i piedi sollevati da terra contemporaneamente possa essere analizzata e verificata monitorata passo dopo passo perché ripeto è talmente veloce oramai la frequenza d'appoggio degli atleti che a volte a occhi nudi è impossibile capire se quell'atleta sta mantenendo un gesto tecnico corretto o sta rasentando la scorrettezza che è necessita di una squalifica di una munizione o di una pit lane quindi c'è tanto da discutere su questo mondo che però ovviamente è parte integrante dell'atletica ma soprattutto è un mondo che ci ha regalato due medaglie d'oro come Italia all'ultima Olimpiade quindi salutando Antonella Palmisano e Massimo Stano due atleti dai quali tutti ti aspettavi le aspettavi da chiunque le medaglie non da loro forse in realtà noi dell'ambiente da loro ci aspettavamo proprio qualcosa soprattutto da Antonella hanno fatto due capolavori e gli va riconosciuto e approfitto per mandare un saluto anche al loro allenatore a Patrick Barcesepe si allena loro a Ostia al centro di Fiambe Gialle sono davvero un grande gruppo è un grande allenatore perché vende due medaglie d'oro non sono da tutti anche da tecnico eccoci qua all'arrivo con il passaggio di Alessandro Cornacchia 40 metri si prende l'applauso del Pala Indor e va a chiudere in solitaria e in seconda posizione questi tre chilometri categoria SM20 quasi dieci anni di distacco tra il primo e il secondo classe 99 May classe 90 scusatemi classe 90 May classe 99 Cornacchia nel frattempo c'è Libardi che torna in pedana credo per l'ultimo tentativo nel salto in lungo c'è da far notare che l'atleta ha talmente paura del nullo che stacca molto presto rispetto al al punto di battuta che dovrebbe avere per andare più in là possibile in realtà il problema è più dettato da una questione di appoggi perché i saltatori finiscono per avere una distanza di rincorsa misurata precisa e l'allenamento e la ricerca della metodicità di quella corsa fare in maniera tale che ripetuta 50, 60, 70 volte la frequenza e la falcata rimangano sempre uguali per ripetere quasi in maniera identica quel tipo di rincorsa e arrivare così il più vicino possibile ovviamente questo è un discorso ideale nel durante della rincorsa c'è un appoggio sbagliato c'è un attimo di affanno c'è un momento di stanchezza c'è una risposta meno elastica muscolare che ovviamente fa in maniera tale che ci sia questa rincorsa che può sembrare ballerina e che non permette sempre di arrivare nel punto ideale di stacco che è quello più vicino alla battuta in sabbia che vedete disegnata accanto all'asse bianco e che è quella da cui in ogni caso si inizia la misurazione anche se l'atleta stacca per l'ultima volta il piede prima molto prima di quella linea ideale mentre la misurazione in sabbia viene fatta dall'ultima impronta che qualsiasi parte del corpo lascia alle spalle dell'atleta verso l'asse di battuta così facciamo anche un po' di didattica mettiamola così premiazioni in atto come vedete inquadrate lì a sinistra tanto Salvatori sta per saltare ecco qui la premiazione di Fanusec mentre ci appaiono i risultati del salto in lungo con Bianca che ha chiuso a 5.32 su Corallini che permette ovviamente questa seconda piazza con 5.58 terza posizione Musio con 4.41 Pescano 4.27 De Tommasi 4.13 Pucci 4.01 Bosco 3.91 Sardi 3.76 Salvadori 3.49 e ancora 3.34 per Recine 3.20 per Libardi 2.91 di Biasi 2.82 Azzolini e 1.91 per Trifella questa la classifica finale della gara del lungo T20 Open e quindi chiudiamo anche questa sequenza tra poco torneremo sull'anello credo direttamente con i 400 perché vedo i velocisti già in pista a fare qualche allungo ecco qua c'è la marcia c'è la marcia sì confermata quindi la gara di marcia intanto è cominciato il salto in alto femminile ecco io ricordo a gentile pubblico attento e caloroso che però dobbiamo mantenere le distanze non lo so è difficile e le mascherine le vedo tante non è possibile quindi io mi pregherei veramente di fare attenzione i posti ci sono c'è possibilità di vedere i nostri atleti molto molto bene quindi manteniamo la distanza e soprattutto la mascherina mi raccomando grazie grazie inquadrata la Mencoboni e la gara del salto in alto Anna Maria Mencoboni per adesso ha saltato 95 cm adesso è impegnata nell'altezza di un metro e la vedete nella pedana del salto in alto che è posizionato a centro del palazzetto lato dietro subito dopo la pedana di getto del peso che vedete inquadrata in questo momento tra non molto come dicevo seguiremo la partenza della gara di marcia approfittiamo per dare lettura della composizione di questa partenza che vedrà al via Monica Biasini della polisportiva di Sabili Valcamonica accanto a lei ci sarà Ileni Alfonsi della Spea Padova Onlus ancora Monica Mognetti della polisportiva di Sabili Valcamonica Maria Camilla Gnola dell'Uguali nello sport Giulianova e ancora Giulia Pertile della Spea Padova Onlus Padova Spea Onlus a effettuare la direttore tecnica Giancarlo Marcoccio un applauso della Spea Padova seconda dalla progetto Filippine di Roma Camilla Ferlito 10 25 finale prima ed è campionista in or 2022 per l'altro boss polisportiva Eugenia Zucchiatti il video ci dà i risultati invece del peso per il pentadrollo con mattone 6,67 a 5,17 Pagliangosco e 4,44 risultati della gara di marcia maschile dei 3.000 metri come leggete Federico Mei ha chiuso in 17,10 portacolori dell'Antropos e invece Cornacchia Alessandro Cornacchia seconda posizione per lui per i colori dell'Auguali nello sport queste invece le atlete che abbiamo nominato poco fa Agostino Mognetti Niola Perti D'Alfonsi e Biasini che andranno a percorrere 1500 metri cioè 7 giri e mezzo dell'impianto di Ancona ovviamente anche per loro le regole del tacco e punta ovvero il divieto di andare sia in sospensione che in sbloccaggio e guardate con che lena si avviano ai primi metri di gara grazie a tutti la gara è sui 1500 metri una forbice d'età ampia fra la più giovane e la più anziana ci sono 22 anni di differenza la più anziana è Giulia Pertile del 1982 la più giovane quasi una bambina Maria Camilla Nicola classe 2004 c'è la cerimonia di premiazione per i 60 metri in open ed è pronta un altro titolo la nostra Patrizia Fedato un applauso è una garanzia la Patrizia Fedato ogni anno porta a casa titoli e pedali eccola Giancarlo Marcoccia ha effettuato la prevenzione ottimo intanto la marcia che va avanti mentre vedete Suma inquadrato all'esterno nella pedana del peso categoria F56 57 uomini Fispes qui siamo con Nando D'Agostino che guida questa gara mista di marcia sui 1500 metri già percorsi i primi due giri i primi 400 metri per loro in corso i lanci di Suma già posizionati i tre picchetti come vedete i sei totali Agnese Sputorno prima è la campionessa italiana duemila e ventidue indoor proviene dall'allenamento di Molfetta Maria Petruccella continuo la marcia in tutti i sensi di Agostino i primi 500 metri conclusi mentre con il pettorale 32 c'è Monica Biasini del team della polisportiva di Sabri di Valcamonica che diciamo lo insegue virtualmente anzi idealmente ci sono una trentina di metri di stacco tra di loro dovranno percorrere ancora poco meno di cinque giri per essere al traguardo quindi ci vorranno circa sei minuti prima della conclusione di questa gara subito dopo come anticipato ci sposteremo sulle corsie dell'anello tutte e sei perché inizieranno le serie dei 400 metri delle categorie FISDIR e FISDIR spesso ovviamente ci portiamo alla ceremoniale grazie siamo pronti si va avanti con la marcia femminile possiamo partire con questa prevenzione dovrebbe essere all'ultimo tentativo Suma nella gara di peso portacolori del gruppo sportivo paralimpico difesa seguiamo questo ultimo lancio si completa quindi questa sequenza di lanci secondo schiattone 1370 per lui primo il campione italiano in torno 2022 per la S&E Sardegna Sport Roberto Felicino Possiu completata completata la fase di lancio ovviamente l'atleta si riveste si risistema si sposta sulla sua sedia le tenebri le tenebri ancora non sono scese ancora romantico questa istantanea 18 e 10 e ancora tanta luce per fortuna accompagna lo svolgimento delle gare all'aperto tre giri invece qui nella gara di marcia in conclusione forse la marcia è dell'atletica leggera la disciplina che regala più solitudine non hai tanto torto nel dirlo è una traversata non soltanto di spazio ma anche di pensieri perché la capacità come diciamo prima di concentrarsi sul gesto tecnico al passare del tempo casomai dovendo anche in casi ovviamente di gare più affollate con ritmi più vicini tra gli atleti dovendo anche fare attenzione alla diciamo risvolto agonistico del tuo avversario che allunga accorcia rallenta ti stacca ti segue si mette in scia e quindi dover pensare alla strategia propria la strategia dell'avversario il controllo della tecnica e anche il controllo di questa solitudine noia attesa chiamiamola ovviamente sotto le sue varie sfaccettature la rende davvero probabilmente una delle discipline più complicate sul piano proprio umano da affrontare ed è quella forse che regala meno gioie allo spettatore perché lo spettatore come diciamo prima è una gara più lenta troppo lenta per lo spettatore ovviamente a queste diciamo velocità vedere atleti che marciano a 4 km vi assicuro che è entusiasmante per chiunque si trovi a bordo strada e inizia a vedere queste super uomini che volano camminando e lascia molta curiosità lascia molta diciamo così voglia di star lì e capire cosa accadrà a volte anche semplicemente vedere se l'atleta in questione riuscirà a reggere quelle frequenze e casomai anche quello stato di sudore molto accentuato dopo chilometri e chilometri spesso affrontati sotto il sole tu hai parlato della tua attività abbiamo parlato prima della tua attività di guida ma che disciplina facevi? io sempre corso distanze diciamo di velocità prolungata mezzo fondo breve quindi 400 800 1500 quindi sono quelle che ti danno il tempo materiale di godertela un attimo i 400 sono il giro della morte bisogna essere un po' crazy un po' pazzi partiamo dal presupposto che chiunque fa atletica deve avere un po' questo background però la gioia la soddisfazione è quello stato di ebrezza quasi che le endorfine ti regalano a fine allenamento a fine gara non sono paragonabili con nulla con nulla al mondo e chiunque lo prova finisce per dire questa stessa frase e quindi sì c'è anche un po' di dipendenza ecco possiamo pure dirlo nel correre nonostante la fatica uno arriva a fine allenamento a fine gara stremato dice non lo fanno mai più e il giorno dopo sta di nuovo sul campo con le scarpette pronto a ripetere quello che avrei avrei annunciato di non rifare più quindi è bello vi assicuro che è qualcosa che poi in veste guida è ancora più intenso 100 metri alla fine della gara di marzo almeno per il primo della classe Nando D'Agostino vettorale 62 ultima curva e ultimo rettilineo per averlo a traguardo eccolo qui l'arrivo di Nando D'Agostino che chiama anche la clap del pubblico per questo arrivo del resto dopo tanti sforzi se lo chiama proprio l'applauso orgoglioso fa segno al giudice proprio orgoglioso di aver completato tutti i suoi giri all'interno del palazzetto ancora passaggi con il 169 e Maria Camilla Agnola che inizia il suo ultimo giro 146 e qui Irene Alfonsini insieme a Giulia Pertile anche per loro gli ultimi 200 metri di gara e c'è l'arrivo col 32 di Monica Biasini che va a vincere il titolo SF20 complimenti a lei dovrebbe esserci l'arrivo col 35 di Monica Mognetti in seconda posizione eccola infatti al traguardo la ragazza della le due ragazze del team polisportiva di Sabili Valcamonica in prima e seconda posizione rimane in sospeso la terza piazza ci sono 7-8 metri forse 10 di distanza tra la terza la quarta e la quinta quindi seppur i ritmi della marcia sono più blandi c'è ancora un attimo di curiosità per capire chi riuscirà a conquistare il terzo posto al traguardo le due ragazze di Giulia di Padova stanno provando a recuperare la loro diretta avversaria di Giulia Nova 50 metri all'arrivo e il divario si è dimezzato mancano praticamente 3 metri e l'impressione è che l'abruzzese stia in difficoltà adesso lancia lo sprint si lancia lo sprint ha sentito le avversarie recupera subito eccola qui ha sentito le avversarie sui talloni bella questa reazione proprio emotiva e di testa e quindi l'ordine del terzo posto Maria Camilla Nola poi Giulia Pertile che sopravanza sull'ultimo metro praticamente Ileni Alfonsi è un'attività Rosa Ambrosi Piera Loda Maria Turpi guardiamo della T11 ma io vedo pronta gli uomini invece andiamo con le donne grazie allora per la Rita Ross se ti volontariato c'è Rosa Ambrosi e la ciutanezza al secondo posto ancora per Rita Lombus Piera Loda ci vanno al secondo posto all'inizio delle gare di velocità sull'anello perché tra pochi minuti inizieranno le serie dei 400 metri piani due giri di pista mentre è in corso la gara di getto del peso grazie vi do lettura dei risultati della gara che stavamo seguendo prima all'esterno della pedana del peso la vittoria di Piero Rosario Suma gruppo sportivo paralimpico difesa con 7.44 secondo Mestred Becirovic con 7.08 e Lovrana Teneditterni terzo Vincenzo Contemi gruppo sportivo paralimpico difesa 6.90 e ancora Salvatore Nitto polisportiva direttantistica Aspet con 5.78 ancora peso la vittoria di Niki Russo nella categoria F35 37 38 41 46 dicevo Niki Russo Atletica Virtus Lucca 12.39 su Giovanni Deva Andy Sport Ragusa con 8.31 Filippo Mafaro con 7.76 Giancarlo Fiore ancora Andy Sport Ragusa 7.33 Mica il Cappucci Nuova Atletica di Sernia 7.06 Giuseppe Mannino della Polisportiva tentantistica Parco Sport 5.99 Cristian Monacina settimo per l'Andy Sport con 5.03 fuori gara Alessandro Gualtieri dell'Atletica Grosseto con 11.41 sempre per il peso C21 uomini peso 4 kg momentaneamente al comando c'è Daniel Gerini che dopo il primo lancio ha ottenuto 9.15 secondo è Carlo Alberto Zieger 7.03 e poi nell'ordine Filippo Talluto 5.84 Paolo Don Piero 5.40 e Stefano Montefalcone 4.43 gara in corso siamo ancora all'inizio alla prima tornata di lanci ce ne saranno 6 in totale Lorenzo Lorenzo Bettio della Sorriso Riviera SD Associazione Sportiva Direttantistica Onlus al primo dei suoi 6 lanci Mentre ovviamente come sentite in sottofondo si alternano anche le premiazioni tra le altre cose con figure istituzionali da parte della comune della regione e del coni regionale il lancio di Lorenzo Bettio è a 4.62 Mentre Stefano Ricci si appresta a lanciare Sport Amico Onlus anche qui in questo caso si dà il 5 con talluto e colpisce quella mascherina sull'avambraccio Stefano Ricci 6.30 è quindi momentaneamente terzo in questa graduatoria che vede Daniel Gerini primo a 9.15 Carlo Alberto Ziger secondo a 7.03 e terzo ma dopo la prima serie di lanci Stefano Ricci ora è la volta di Gabriele Colaiocco della SD uguali non lo sport 4.72 ne mancano due di atleti per questa prima tornata Francesco Leucata dell'Accademia Biancazzurra e Roberto Casarin della Spea Padova Onlus Leucata parte adesso del countdown 40 secondi prima del suo lancio arriva invece in questo momento eccolo 6.97 per Francesco Leucata che fra le altre cose è anche un buon giocatore di pallacanestro e infine l'ultimo è partito il minuto l'ultimo a lanciare Roberto Casarin della Spea Padova Onlus soppesa il peso si mette in posizione 3.21 e lancia il lancio è buono se abbiamo visto bene sta sui 5.30 forse anche qualcosa di più 7.88 meglio di quello che abbiamo visto e qua l'atleta della Treviso della Treviso Atletica SD Carlo Alberto Ziegher a questo punto deve dare subito una risposta perché con l'ultimo lancio di Casarin ha perso la seconda posizione Casarin è a 7.88 ovviamente distanza abbastanza lontana dal 9.15 Daniel Algerini in ogni caso al secondo lancio Ziegher si regala e ci regala un 6.18 inferiore rispetto al primo dei lanci che è effettuato Riccardo Marco Giulio Dori non è in gara Atletica Osimo associazione sportiva direttantistica quindi si parsa direttamente a Stefano Montefalcone che al primo lancio ha realizzato un 4.43 SD uguali nello sport 4.43 era stato il primo lancio siamo in attesa del riscontro del secondo lancio e siamo in attesa anche di Daniel Algerini che sarà il prossimo a lanciare l'associazione sportiva direttantistica di Sabeli Fabriano è in testa con 9.15 ottima misura 4.85 il secondo tentativo di Stefano Montefalcone intanto gustiamoci Daniel Algerini mani dietro la schiena leggermente leggermente rispetto al 9.15 del primo lancio Massimiliano nel frattempo come vedi ci torniamo sull'anello perché si torna a correre in questo caso in carrozzina per i 400 metri a distanza indoor dei due giri che vedrà due atleti al via categoria T33 per la Sempione 82 Nicolas Zani e invece per quanto riguarda la categoria T54 in corsia 3 ci sarà Claudio Carbonaro della polisportiva dilettantistica Aspet per loro due giri e con le curve paraboliche in carrozzina vi posso assicurare che è veramente impegnativo pronti a seguire questa partenza e questi due giri di pista tutto pronto per la partenza eccoci qua Zani e Carbonaro pronti a iniziare i loro due giri veramente la difficoltà di mantenere la carrozzina in corsia soprattutto nella zona più parabolica i due atleti sono in carrozzina ma appartengono a due categorie di classificazione diversa adesso passaggio al primo dei 400 metri il rientro alla corda la tangente per Carbonaro che riesce a sopravanzare Zani che prova ad affiancarsi per partire in spinta il secondo giro e infatti approfitta della scia per ripartire c'è un piccolo taglio di curva con la ruota della carrozzina e adesso a 300 metri poco sopra il minuto e dieci ultima curva e poi sarà sul rettilineo finale e ovviamente c'è il pubblico ad accompagnare questo arrivo 400 metri categoria T33 1 29 71 arriva anche Claudio Carbonaro nel frattempo mentre vedete continuano le gare nel conti all'esterno del palazzetto la bellezza di questo impianto è avere l'impianto indoor e outdoor praticamente a 30 metri di distanza seconda serie di lanci getto del peso stiamo parlando della categoria 4 kg C21 uomini Fisdir i secondi lanci sono così andati almeno fino a questo momento Carlo Alberto Ziger 6 e 18 4 e 85 per Stefano Montefalcone 8 e 50 per Dani Algerini 5 e 83 per Paolo Don Pietro 5 e 33 per Filippo Talluto 5 e 22 per Simone Di Giovanni 4 e 25 per Lorenzo Bettio a questo punto la classifica continua a vedere in testa Dani Algerini con 9 e 15 secondo ma deve ancora fare il secondo lancio Roberto Casarin che si è fermato fermato si fa per dire a 7 e 88 terzo in graduatoria fino a questo momento sul podio Carlo Alberto Ziger a 7 e 03 premiazione di 37 c'è Francesca Cipelli al titolo di campionese italiana in corso la premiazione dei 60 metri di Francesca Cipelli l'azzurra di Tokyo e nell'occasione della trasferta giapponese arrivò Nona portacolori della Veneto Special Sport e noi ci prepariamo alla seconda partenza dei 400 come vedete sono già state posizionate le iconetti di delimitazione della tangente e anche le strisce utili ad allungare la linea di partenza perché stiamo per seguire due atleti di categoria T11 e T12 quindi ci sarà l'accompagnamento della guida essendo non vedenti o ipovedenti a tempo ancora Casarini in pedana attenzione con l'esportiva perdona per l'allenamento di Molfetta Enrico Pio Tridente primo campione italiano 2022 isabili Gargita Monica Stefano Fritti si preparano ovviamente gli atleti in partenza per questa seconda serie dei 400 7.76 per Casarini scusa mi senti interrotto perdonami lascia a te 7.76 al secondo lancio l'aspettavamo proprio perché col primo lancio aveva guantato la seconda posizione eravamo curiosi almeno io personalmente ero curioso di vedere se allungava ancora o meno detto fra noi pensavo fosse facile correre con queste carrozzine come ti dicevo soprattutto in curva è complicatissimo perché riuscire a mantenere la traiettoria nonostante la pendenza della curva è impegnativo sia muscolarmente ma anche a livello proprio di attenzione nervosa riuscire a capire quando è il momento di accelerare sfruttare la fase di discesa di lanciato all'uscita della curva c'è tutta una tecnica particolare è davvero non immediato diciamo così come approccio rispetto alla pista all'aperto piuttosto che alla strada quindi abbiamo visto anche questa disciplina oggi qui a una curiosità una curiosità sulle carrozzine nel basket in carrozzina ad esempio se l'atleta cade deve rialzarsi da solo qualora accadesse qualcosa del genere anche qui dovrebbe essere lo stesso ci si rialza da solo ovviamente le carrozzine sono diverse in funzione del tipo di disciplina con ruote diverse inclinazioni diverse anche a seconda dell'atleta e hanno ovviamente delle peculiarità specifiche per il tipo anche di distanza che viene affrontato nel frattempo vedo che si stanno preparando alla partenza sui 400 io approfitto invece per dargli aggiornamenti dalla pedana del salto in lungo perché in questo momento siamo al terzo tentativo di salti e Francesco Cantori guida con 3.23 davanti a Matteo Simoni con 2.95 terzo Stefano Cretti con 2.59 quarto Luca Battilocchio con 1.55 stiamo parlando del salto in lungo C21 uomini Fisdir prima campionista italiana al nuovo raiquanto italiano per la ICO volontariato Luana De Grandis con 19 l'azione Luana De Grandis neoprimatista italiana da pochi istanti ripeto si tornerà a correre Gerini invece al terzo tentativo nella pedana del peso 8.70 niente male il ragazzo Don Pietro il prossimo a salaggiare che è l'unico che vediamo di faccia perché è Mancino assolutamente Celsio Cascella Don Pietro Lanciato tornando a pesa crentina e l'attesa della risposta dal volo ci torniamo a seguire quanto accade 5.40 5.83 5.80 per Don Pietro quindi praticamente media costantissima per lui adesso è Talluto che dai sui 5.84 torna in pedana e vedremo cosa otterrà mentre vedo gli starter prepararsi alla partenza quindi tra pochi secondi daremo spazio ai alle due atlete impegnate in corsia arriva il 5.90 di Talluto vedete la grafica 400 metri serie 2 Fispes con la partenza della Zambon in corsia 3 per la Riviera del Brenta e in corsia 5 per la Barcolo dovranno anche loro affrontare due giri del percorso primo campione italiano 2022 da Lomeno Bergamo Macuglia per poi 8.18 c'è qualche difficoltà in questa partenza si ritorna dietro i blocchi per questo doppio giro di pista Rosanna Zambon classe 67 categoria T11 la vedete in maglia rossa al centro dello schermo e Loredana Bertoloi categoria T12 classe 82 la vedete in alto con la maglia verde mi ha richiesto un po' di silenzio in partenza per dare la massima possibilità di ascolto alle atlete al via il tempo che il contro starter tornerà nella sua posizione dopo il materasso e si potrà dare il via alla gara eccoci qui si va di nuovo sui blocchi di partenza Zambon e Bertolo le due atlete al via con le loro rispettive guida partenza valida si va a affrontare la prima delle due corsie che vanno percorse in corsia poi conclusa la seconda curva si torna tutti alla corda in prima corsia per affrontare l'ultimo rettilineo e tutto il secondo giro eccoci qui al momento del taglio della tangente come si dice in gergo dove vedete qui i conetti da quel punto in poi gli atleti possono virare verso l'interno e raggiungere la prima corsia nella quale andranno a effettuare tutto l'ultimo giro 52-53 il passaggio a metà gara la Bertolo è davanti Zambon prova a recuperare guardate il cambio di falcata proprio cercando di andare a recuperare centimetri su centimetri a ogni falcata c'è l'affiancamento della Zambon al Bertolo e anche il sorpasso praticamente sulla linea degli ultimi cento metri ultima curva per entrambe bello vedere anche le guide come sono partecipi in questo momento e probabilmente come stanno incitando le atlete che sono al loro fianco si vede proprio il labiale ed ecco qui la Zambon che davanti alla Bertolo chiude in un minuto 46-32 la vuole la situazione del peso? a te la parola Daniel Gerini primo 9-15 dopo tre lanci Roberto Casarin secondo 7-88 solo due lanci per lui Carlo Alberto Ziger è terzo con 7-03 migliore in questo momento sì come primo lancio ha avuto il migliore dei suoi risultati Casarin è l'ultimo che deve ancora lanciare e lo vediamo lanciare con tanto di fascia aspettiamo il suo risultato per dare una classifica definitiva molto più vicina alla realtà anzi reale a questo punto 8-32 quindi Daniel Gerini primo 9-15 l'8-32 di Casarin lo porta ancora in maniera più salda sulla seconda posizione a 7-03 Carlo Alberto Ziger il primo lancio gli aveva fruttato il migliore dei tre risultati poi per quel che riguarda la quarta piazza Francesco Leocata 6-97 Stefano Ricci 6-38 e quinto Simone Di Giovanni e sesto 6-09 settimo Filippo Talluto 5-90 ottavo Paolo Don Pietro 5-83 Stefano Montefalcone 4-89 Gabriele Colaiocco con il numero 4-64 4-78 e decimo in classifica e Lorenzo Bettio 4-62 miglior risultato è stato il suo primo lancio poi è andato a scendere rispetto agli altri due lanci che ha effettuato nel frattempo vedete la rincorsa di Simoni Nullo Accademia Bianca Azzurra per la categoria C21 Uomini Fisdir nel salto in lungo quinto tentativo per lui mentre scorrevano anche le immagini della premiazione stiamo per tornare sulla linea di partenza dei 400 metri dove ci saranno in tre stavolta le atlete al via vedete vedete inquadrato Cantori dell'atletica Osimo che attualmente guida la classifica del lungo con 3-23 un 3-20 un 3-16 veramente misure consolidate chiede spazio per poter iniziare la sua rincorsa lo hanno innervusito prima di questo salto parte questa terza serie dei 400 con Valentina Petrillo che torna anche sui 400 la prevellomero Bergamo in quarta corsia Giorgia Fascetta della free moving e in quinta Maria Luisa Garatti della Icaro Onlus di volontariato la Petrillo come detto già in precedenza ha stabilito il primato italiano dei 200 della sua categoria la scorsa settimana e torna a gareggiare prima sui 60 adesso sui 400 siamo al passaggio di metà gara per lei un transito a 32 e pochi centesimi per il primo dei due giri da affrontare prova ad allungare quando mancano 100 metri all'arrivo ed eccola qui che si presenta sul rettilineo finale di gara per provare a chiudere pochi secondi sopra il minuto ed è 1 0 5 0 9 il risultato della Petrillo precedendo Fascetta e Garatti mancano ancora due serie dei 400 ovviamente per quanto riguarda le categorie fispes come vedete in corso anche le premiazioni di oggi nel frattempo ancora Simoni in pedana per l'ultimo tentativo quarto turno di lanci invece per quanto riguarda il peso nella pedana di fronte a noi praticamente solo Carlo Alberto Ziga era lanciato fino ad adesso la quarta volta ed ha fatto 6 e 27 al di sotto ovviamente del lancio che gli sta dando in questo momento la terza piazza la medaglia di bronzo ancora Gerini nel frattempo Simoni consolida la sua terza posizione Cretti in pedana secondo al momento con il suo 13 a 9 9 e 25 allunga ulteriormente Gerini 10 centimetri in più del miglior primo lancio del miglior lancio che è stato il primo quindi da 9 e 15 a 9 e 25 il passo fra virgolette è breve e lui allunga in classifica quasi un metro in più del secondo al momento che è Roberto Casarin si preparano gli atleti della seconda della penultima scusatemi serie dei 400 avremo in corsia 2 per la Sardegna Sport Riccardo Campus in corsia 3 per l'Andy Sport Ragusa Cristian Bonaccina e infine in corsia 4 per la SEF atletica Piemonte Jacopo Cuculo Cristian Bonaccini no perdonatemi questa è la quarta serie ho messo un errore nella lettura siamo serie numero 4 con in corsia 3 e l'ho riconosciuto dopo l'atleta in questione delle fiamme azzulle Nicorò Pirosu classe 2000 e categoria T12 lo vedete adesso accompagnato dalla sua guida che veste la maglia della Tredica Futura Roma ai servizi e accanto a lui invece ci sarà Davide Foglio in quinta corsia della Icaronlus ASD e volontariato e vediamo la stessa guida della loro compagna di squadra che ha corso la serie precedente nel frattempo i risultati del peso del lungo li avete appena visti con cantori a 3.23 cretti a 3.19 simoni 2.95 batti l'occhio 1.55 mi ha mandato un messaggio un collega che sta ascoltando la nostra telecronaca e a proposito di guida mi ha chiesto vince l'atleta della FISPES c'è l'obbligo da parte della guida di far transitare sulla linea del traguardo prima l'atleta ok la domanda che fa è l'atleta vince la medaglia e la guida? e la guida adesso sta prendendo piede l'abitudine di consegnare la medaglia anche alla guida ovviamente soprattutto in alcuni contesti internazionali sta nascendo questa buona abitudine come anche sul fronte normodotati si sta prendendo l'abitudine di premiare anche l'allenatore e l'ho vissuto personalmente ai campionati europei under 23 di Tallinn quest'estate l'estate scorso oramai si è passati quasi un anno da quel luglio dove per la prima volta l'Italia ha vinto il medagliere di una competizione continentale under 23 in quell'occasione gli organizzatori hanno deciso di premiare anche con due medaglie il vincitore di ogni gara per consegnarlo al proprio tecnico ci sono tante persone che ruotano dietro un atleta non c'è solo l'atleta che è solo ma c'è l'allenatore in questo caso la guida casomai c'è la società c'è il fisioterapista c'è il massaggiatore c'è una grande squadra dietro e quella medaglia che l'atleta porta al collo in realtà è frutto del lavoro di tanti e bisognerebbe dare tante medaglie a ognuno di loro per questi successi che ottengono torniamo però sui blocchi con Pirosu e Foglio che partono in questo momento dai blocchi e si avviano sul doppio giro di pista ovviamente la caratura tecnica di Pirosu esce subito vedete anche la bella corsa che lo contraddistingue in questa prima fase di gara si porta già alla discesa della seconda curva lui che è categoria T12 siamo alla transito di metà gara 28 e pochi decimi per il primo giro adesso inizia la fase brutta del 400 quella centrale quella che poi predute al rettilineo finale che solitamente si ha la sensazione che quasi diventi di salita per la fatica e la stanchezza che si accusa nelle gambe 50 metri all'arrivo poco sopra i 51 il passaggio ai 3.50 e Nicolò Pirosu arriva con la maglia delle fiamme azzurre al traguardo in 59 i 34 ovviamente sempre ufficioso il tempo del portacolori delle fiamme azzurre che vince la quarta serie di oggi se quando c'è un bel gol i telecronisti dicono pazzesco noi possiamo tranquillamente dire spaziale un'immagine del genere doveva di correre fianco a fianco con lo stesso obiettivo un atleta di colore e un atleta albino e soprattutto un atleta non modato un atleta non vedente ovviamente che corre in meno di un minuto un 400 e vi assicuro che non è cosa da tutti ancora Casarin quarto tentativo inquadrato il l'attuale medaglia d'argento virtuale della gara si la sua maglia bianca il pantaloncino rosso che richiama un po' il completino della Polonia bello invece la scritta di Talluto che è riconoscibile anche dalla maglia col nome stampato dietro la schiena Casarin 8 e 15 si mantiene sui suoi standard leggermente inferiore rispetto al precedente tra poco la Quintas è penultima serie dei 400 Fispes poi ci saranno i 400 Fisdir dove sono previste altre tante serie ora premiamo i salti lungo Amatori Open Fisdir e dovremmo avere De Piaze Rivardi Tomasi se ricorda esatto terzo siamo in questo caso alla pedana del salto in alto Magna Bosco in pedana 1 e 35 la misura del portacolori della Polisportiva Duelle Dueville pardon ultimo tentativo gara di Pentathlon in questo caso seguiamo la rincorsa il salto prova in sforbiciata il passaggio e purtroppo non va a buon fine questo suo terzo tentativo quindi con 1 e 30 Valicato si conclude la sua gara e porta quindi a casa i punti per la misura di un metro e trenta dovrebbe adesso alzarsi l'asticella a 1 e 40 mentre torna Gerini in pedana quinto tentativo per lui sembra buono purtroppo la gabbia distorce un po' la percezione di profondità della pedana del peso e torniamo eccoci qui alle corsie esterne con la serie numero 5 che vede in gara Riccardo Campus per la Sardegna Sport in corsia 3 Cristian Monaccina dell'Andy Sport Ragusa e infine in corsia 4 Jacopo Cuculo della SAF Atletica Piemonte anche per loro due giri di pista da dover affrontare Nel frattempo i risultati erano apparsi anche della quarta serie con Niccolò Pirosu che aveva vinto il 50 quave 44 davanti a Davide Foglio con 1.14.98 qualche istante ancora di attesa prima del via nel frattempo ancora Talluto in pedana per il quinto tentativo si è conclusa la gara di salto in lungo nel frattempo come abbiamo detto quindi rimangono in svolgimento solo la gara di peso che è al quinto turno di lanci e la gara di salto in alto del pentatron dove Mattone in questo momento è a 1.40 vedo il controstarter che si avvia alla sua postazione partita doppio colpo quindi si annulla questa partenza si ritorna sulla linea di partenza si ripete praticamente la procedura di avvio probabilmente è stato un movimento sul movimento dello sparo il giudice controstarter spiega qualcosa ovviamente all'atleta poi c'è un bellissimo cenno di comprensione reciproca il classico pugno ormai ma è bello anche il sorriso che ha accompagnato questo gesto perché a volte sembra che l'atleta e il giudice siano soggetti avversi quando in realtà il giudice è lì solo ed esclusivamente per garantire la regolarità di gara ed è bello sapere che lo scambio che c'è stato tra i due è stato condiviso e compreso da entrambi senza diciamo nessun rancore mettiamola così anche se il gesto poi fra le altre cose aveva sfavorito l'atleta che si era alzato poi si era accorto di partire con un attimo d'anticio quindi si era riabbassato però il movimento sul momento dello sparo c'era stato e quindi il controstarter è stato ottenuto a dover effettuare il secondo colpo che bloccava ovviamente la partenza avvenuta vedremo a qualche istante il ripetersi della sequenza di partenza quando siamo oramai già alle 19 siamo da quasi quattro ore e mezza in gara ci vorrà meno più di un'ora per completare questa prima delle due giornate dei campionati italiani indoor paralimpici e della prima tappa della Coppa Europa di Lanci della Coppa Italia di Lanci perdonate il lapsus ma oggi sapendo che c'è la Coppa Europa mi viene più facilmente nominarla che FISPES stanno portando avanti grazie ovviamente alla collaborazione del CIP del Comune di Ancona e della provincia di Ancona della Regione Marche della FIDAL Marche dell'AMPAS Marche della Protezione Civile e della Regione Marche quindi grazie davvero a tutti oltre ovviamente che ai volontari ai giudici della FIDAL e della FISPES e della FISDI e a FIDAL Servizi che stanno mettendo su questa prima giornata del lungo weekend di questi campionati partita questa serie numero 5 e Jacopo Cuculo con la divisa rossa della self-atletica Piemonte a completare la seconda curva e a rientrare alla tangente in prima corsia per andare a tagliare la linea del passaggio di metà gara sarà intorno ai 30 secondi infatti 38 il parziale e adesso inizia il suo ultimo giro facendo praticamente il vuoto alle spalle su Riccardo Gambus e Cristian Bonaccina 100 metri ancora 110 metri da percorre dal battistrada e Jacopo Cuculo va a completare oramai la quarta ed ultima curva del suo 400 e a portarsi sul rettilineo finale con l'applauso del pubblico e anche la speaker di campo che lo accoglie sul traguardo per andare a segnare sul cronometro 1.04 e 21 che il tempo c'è anche la velocità 22.4 è utile anche questo dato perché permette a chi è meno avezzo ai discontri cronometri sulle distanze di capire poi quella che è la velocità non in minuti a chilometro ma in chilometri orari 22.4 è la velocità di una bici elettrica più veloce di un monopattino non truccato nel frattempo ancora la gara di peso che si avvia a conclusione credo sia ancora Casarin la vera sì Casarin e manca Colaiocco per e manca nel frattempo l'ultima serie dei 400 quella che chiuderà le serie relative alla gara Fispes e vedo un grande protagonista del mondo Fispes che sta per presentarsi sulla linea di partenza ma lo annunceremo tra poco Ziger in pedana 7.03 al suo primo tentativo l'atleta della trevisa atletica sesto lancio per lui bandiera bianca atteniamo il riscontro frattempo Mattone è salito a 1.52 nell'alto nella gara di Pentathlon primo tentativo per lui a questa altezza bello passaggio pulito di quelli dell'asticella 1.52 quindi si sale ancora nella gara di alto del Pentathlon mentre siamo all'ultima tornata per quel che riguarda i lanci e intanto sappiamo che Ziger che Carlo Alberto Ziger non migliorerà il suo 7.03 e deve sperare che nessuno scavalchi la sua misura si vuole mantenere la terza piazza ci rimane di prevenzione penso 2.5 open 3.5 per la GSH 82 Stefano Morandi ancora Gerini lungo lungo questo lancio vediamo come attende il risultato con le mani dietro la schiena fremente 9-0-4 vicino alla sua migliore prestazione di oggi abbiamo visto molto lungo a meno che non avvengano rovesciamenti clamorosi potremmo dire che ha già vinto la gara ormai mancano gli ultimi gli ultimissimi lanci ci prepariamo quindi ad accompagnare invece sulle immagini di Don Pietro la partenza dell'ultima serie dei 400 che vedranno al via in corsia 2 per la Ica Nolus Roberto Guizzi in corsia 3 per la Tre Casali Pierluigi Maggio per la Sempioni 82 in corsia 4 il bronzo europeo Riccardo Bagaini in quarta corsia mi ha i fiacchi della Andy Sport Ragusa ovviamente occhi puntati su Bagaini che a Bigos conquistò questo bellissimo bronzo ero a casa davanti alla tv a guardare la diretta di quella gara veramente fu una bella emozione vedere Riccardo conquistare quella medaglia io che lo ricordo oramai 6-7 anni fa quando era ancora semplicemente cadetto e che partecipava alle sue prime gare Fispes Siamo pronti a partire li vedete schierati Guizzi, Maggio, Bagaini, Fiacchi dall'interno all'esterno partenza valido e subito da lungo l'atleta della Sempioni 82 a recuperare il decalage del Ragusano che era alla sua destra ovvero Mia I Fiacchi curva a tutta velocità per rientrare alla tangente e andare a tagliare il traguardo intermedio dei 200 ottimo passaggio in 24 alto per il suo passaggio a metà gara guardate la facilità di corsa di questo atleta categoria T47 oramai siamo ai 337 poco più, forse 38 secondi di parziale ultima curva e rientro verso la linea finale Riccardo Bagaini che chiude poco sopra i 52 secondi 52.09 per lui ottima prova per Riccardo Bagaini che dà un colpo alla ringhiera probabilmente soddisfatto del suo tempo perché correre in 52 è tutt'altro che banale per questo ragazzo classe 2000 quindi si chiudono i 400 metri per quanto riguarda la Fispes e andiamo a seguire anche le ultime gesta della gara del peso aspettiamo aspettiamo Ricci lo aspettiamo quasi come una manna dal cielo Gricci al momento è quinto con 6.59 6.53 6.53 scusami Massimiliano ma l'applauso del Palahindor per l'arrivo con la maglia verde di Roberto Guizzi veramente emozionante tutto il palazzetto si è fermato per accompagnarlo all'arrivo di questo doppio giro di pista scusami ti rilascio la parola no assolutamente hai fatto benissimo io distrattissimo preso dagli atleti del getto del peso c'è Leocata in questo caso che sta lanciando lancia con urlo come si confà ai campioni mondiali ai campioni europei a quelli che vanno per la maggiore Leocata 7.31 scavalca Ziga che era in terza piazza con 7.03 7.31 lo porta sul terzo gradino del podio quindi quasi a sintetizzare il fatto che l'urlo alla Hulk gli sia servito gli è servito per scalzare una posizione in classifica a volte questi versi questi urla riescono ad aiutare l'atleta anche nella contrazione muscolare con l'addome e a darsi ulteriormente carica poi anche mentale ed emotiva in fase in questo caso di lanci quindi seppur può sembrare un po' eccessivo a volte effettivamente ha una sua efficacia e l'ultimo esempio quello che hai da poco raccontato lo dimostra Casarin ultimo lancio 7.19 aveva fatto 8.32 che già gli era valso la seconda posizione quindi la gradatoria ai primi tre posti Daniel Gerini 9.25 vince la gara davanti a Roberto Casarin 8.32 terzo all'ultimo lancio Francesco Leocata per la cronaca Carlo Alberto Ziegher è arrivato quarto con 7.03 Stefano Ricci quinto con 6.59 a 6.52 si è fermato Filippo Talluto Simone Di Giovanni settimo con 6.09 Don Pietro che di 9 fa Paolo 6.04 infine Stefano Montefalcone 4.89 eccoli qui pubblicati i risultati in grafica io nel frattempo vi do anche i risultati dell'ultima delle serie dei 400 Fispes vi vedete scorre nel frattempo i risultati invece del peso e quindi con la vittoria di Riccardo Bagaini con 52.07 davanti a Mia I Fiacchi con 57.31 terzo Pierluigi Maggio 1.13.31 quarto Roberto Guizzi con 2.07.56 torniamo ai 400 ma stavolta con gli atleti Pisdir Giuseppe Di Marzio e Tiziano Capitani categoria C21 Fisdir per la Telimar e l'USA Agli terzo millennio partito spedito Tiziano Capitani dell'USA Agli terzo millennio passaggio intermedio in 36 lui che ha un personale di 1.15 e 40 e se dovesse tenere il ritmo sarebbe il suo personale sicuramente la fatica inizierà a sentirsi tra questo rettilineo e la prossima curva vedremo se riuscirà a mantenere il ritmo leggermente calato dovrebbe aver perso poco più di un secondo in questo parziale di 100 metri oramai all'ultima curva e l'applauso e le trombe che accompagnano l'arrivo di Tiziano Capitani con una cinquantina di metri di vantaggio su Giuseppe Di Marzio va a tagliare il traguardo in un minuto 16 e 40 a un secondo dal suo primato dietro di lui l'arrivo anche Giuseppe Di Marzo che completa con i colori della Telemar la sua prova semmigliano si è conclusa la gara di peso si è conclusa la gara di alto con l'1,54 di mattone non superato e nel frattempo proseguono le premiazioni sì ma vedo anche che si prepara la gara di salto in lungo e quindi proviamo ad andare a seguire anche questa gara se ti diamo anche una notizia bella o brutta che sia ai telespettatori Fispes e Fisdir finiremo non puntuali dobbiamo essere onesti qualche minutino di ritardo ci sarà sicuramente perdonato per comunque lo spettacolo che stiamo vivendo nel frattempo ripeto salutiamo le tre atlete in gara della gara del lungo che è iniziata da poco ovvero Caterina Siesto della Axi Atletica Sport Toscana Cristina Vecchio del Format Ferrara e Vandalena Salvaterra dell'Unione Sportiva Quercia queste le tre atlete in gara per adesso hanno effettuato tre salti l'una quattro soltanto Caterina Siesto che è saltato a uno e sedici uno e sessantanove per Cristina Vecchio guida la gara Maddalena Salvaterra che ha appena effettuato il suo quarto tentativo per ora miglior prestazione a uno e ottanta nel frattempo continuano le premiazioni Fisdir e noi ci prepariamo invece alla prossima gara di corsa Saranno tre le atlete Alvia nel frattempo vedete la vecchio seconda posizione per lei in pedana dicevo Alvia per i 400 metri categoria T 20 ci saranno Marta Bidoia in corsia tre per la riviera del Brenta in corsia quattro Rivana Tedde per la polisportiva Luna e Sole stessa società ma classe 2003 in quinta corsia Alice Pels queste le tre atlete in gara unico accredito proprio quello della Pels con uno 22 e 28 Caterina Siesto deve fare in modo e in maniera che negli ultimi due salti qualcosa faccia nel senso che tre nulli è un uno e sedici fino a questo momento la situazione del lungo in ogni caso al momento Maddalena Salvaterra è prima miglior prestazione uno e ottanta è arrivata al terzo salto Cristina Vecchio è seconda uno e sessantanove al primo salto e Caterina Siesto dell'Atletica dell'ACSI Atletica Sport Toscana è ferma a uno e sedici ultimi istanti di prova per i blocchi di partenza delle tre atlete che partiranno a breve poi sarà l'ora delle serie dei 1500 metri Fispes e Fisdir e poi come detto 1000 metri per l'ultima prova del Pentathlon e la 4x400 che chiuderà da diciamo così da orario è previsto che chiuda il programma tecnico di oggi nullo anche questo tentativo della Siesto purtroppo portacolori dell'Axi Atletica Toscana ed eccola qui Salvaterra prima con 1.80 al momento forse forse si potrebbe aver migliorato siamo sui blocchi di partenza per il trio Bidoia Ted e Pels gara dei 400 metri open T20 donne ed è subito all'interno Marta Bidoia della team Riviera del Brenta a prendere il largo arriva al punto del taglio della tangente per rientrare in prima corsia e continua questa volata in solitaria con un passaggio intermedio di circa 33 secondi al 200 alle sue spalle c'è il passaggio di Alice Pels e poi della Ted oramai siamo all'ultima curva e continua la cavalcata trionfante di Marta Bidoia che oramai a 50 metri dal traguardo si sente si vede la fatica ma continua a spingere in tutti i modi per tagliare il traguardo in 1'09'48 ancora in spinta con il pettorale 242 Alice Pels e chiude Marta Rivana Tedde il terzetto al femminile di questa gara il lungo si chiude con la vittoria di Maddalena Salvaterra 1'69 Cristina Vecchio 1'80 scusate l'ultimo salto era 1'69 volevo dire 1'80 la prestazione migliore è stata il terzo salto seconda Cristina Vecchio che chiude a 1'69 il suo primo salto è stato e poi Caterina Siesto che nel terzo salto nell'ultimo salto ha fatto meglio dei salti precedenti di tutti i salti precedenti perché visto che aveva fatto 4 nulli e un 1'16 chiude a 1'41 quindi classifica finale Salvaterra Vecchio Siesto Siesto Avremo ancora 3 serie di 400 Open più T20 Uomini Fisdir prima dei 1.500 Vedete che i ragazzi vanno a prendere possesso dei blocchi iniziare a provare la posizione pre partenza credo saranno in 3 quindi la quarta corsia forse vuota nel frattempo sono praticamente concluse tutte le gare di concorso rimangono quindi solo le gare di corsa in svolgimento massimiliano ci avviamo oramai tra non molto tra meno di un'ora la conclusione di questa rush finale giornata si ovviamente si inizia anche a vedere un po' meno presenze sugli spalti ma non così tante perché probabilmente sono entrati all'interno coloro che erano impegnati fuori per i lanci e quindi vediamo questo flusso continuo di persone che transitano le nostre spalle o al piano inferiore rispetto a dove siamo noi segno che comunque anche chi ha finito di gareggiare continua a viversi il clima di festa di gioia che contraddistingue questo campionato andando a salutare incontrare amici che non si vedevano casomai da mesi dalla scorsa rassegna tricolore ed è davvero bello tenuto conto che noi siamo qui praticamente dalle 10-11 di stamattina sono oramai le 19 loro sono qui a gareggiare dalle 14-30 e dopo 5 ore ancora tantissimi qui dentro con una tensione diversa rispetto a quella che abbiamo noi perché noi possiamo sbagliare un nome una data un numero loro se sbagliano la gara hanno perso una stagione un'occasione spregata ci prepariamo a questa ennesima partenza ci siamo quasi per la partenza di questa gara gli atleti vengono invitati a posizionarsi dietro i blocchi saranno in partenza in corsia tre per la format Ferrara Kevin Visentini in corsia cinque per la polisportiva e l'unessone Gianluca Scanu e in corsia sei per la USA Cliterzo Millennio Claudio Gazzelloni migliore accredito quello di Gianluca Scanu con cinquantotto e ventinove ma pochi centesimi dopo c'è quello di Kevin Visentini che è accreditato di un cinquantanove netti c'è ancora qualche difficoltà nel posizionamento del blocco di quest'ultimo vediamo come si evolvono diciamo così queste ultime procedure di posizionamento siamo quasi pronti a partire contro starter lo vediamo già posizionato partenza valida visentini Scanu Gazzelloni visentini visentini prova una partenza a tutta per recuperare il decalage già dopo la prima curva siamo alla seconda ed è molto combattuta è molto alla pari questa serie visentini prova a rientrare ma ovviamente forse avendo spinto molto sente la fatica siamo al passaggio di metà gara con Claudio Gazzelloni che prende il comando davanti a Scanu visentini adesso è diventato terzo sembra che inizia ad accusare la fatica Gazzelloni Scanu rientra e adesso è un testa a testa ancora invertito con Scanu che prende il comando esce dalla curva si gode l'applauso del pubblico mentre Gazzelloni stringe i denti in ogni modo che arrivano al traguardo con un parziale di 1-0-2 e 11 ovviamente ufficioso di una gara veramente rocambolesca una condotta di gara perfetta comunque da parte di Scanu che li ha fatti sfogare e poi è venuto fuori alla distanza sei pronto per la seconda serie o hai perso il fiato siamo pronti mancano ancora due serie di 400 metri di questa gara riservata agli atleti Fisdir dovrebbero essere in tre o in quattro anche nella prossima serie penso alla sfida fra Orazzi e Curiazzi se è considerato che sulla starting list ci sono tre atleti del terzo millennio e uno solo della Propatria Busto Arsizio vedremo se saranno tutti e quattro come dicevo non ci sono altre gare di concorso in svolgimento si sta iniziando già a preparare il campo anche per domani perché domattina torneremo qui per ricominciare ovviamente con la seconda giornata di indoor e di lanci qui ad Ancona ricordo campionato italiano indoor e di lanci invernali sia Fispes che Fisdir per questa edizione per questa edizione dei Paralimpici accorpata più che mai nell'ultimo weekend prima del cambio dell'ora che ben ci fa sperare ovviamente per l'arrivo della bella stagione anche se dobbiamo dire di non aver avuto un inverno particolarmente rigido quest'anno no bisogna dirlo come immaginavo sono in tre al via quindi uno degli orazzi si è tirato fuori infatti manca l'atleta in corsia sei quindi al via avremo in corsia tre per la propatria Busto Artizio Gian Maria Compassi in corsia quattro per l'OSA Cliterzo Millennio Lorenzo Malgarini e stessa società corsia cinque Matteo Tosto il migliore accredito è proprio quello dell'atleta in terza corsia con un'ora e zero nove per questi atleti e la categoria SM20 più giovane tra gli iscritti è Malgarini in corsia quattro classe novantanove ci rimarrà poi dopo l'ultima serie vedete da queste immagini quanto vi dicevamo prima ancora in tanti sugli spalti non erano riuscite dalle immagini a vedere chi è sopra e sotto di noi alle nostre spalle praticamente ci sono ancora in tantissimi che stanno animando il palazzetto nonostante ci avviciniamo a ora di cena e a fine programma gare davvero emozionante vivere questa giornata di gara così con tanto calore tanta presenza soprattutto gare tanto sentite che hanno visto anche poi ovviamente l'impegno di questi atleti che arrivano da ogni parte di tutta la nazione dalla Sicilia al Trentino tutte rappresentate in gara quest'oggi ultimi istanti di attesa gli atleti vengono chiamati dietro ai blocchi quindi da pochi istanti daremo il via a questa seconda delle tre serie dei quattrocento T20 Open FISDIR dei mille cinque e al piano andremo a concludere con la quattro per quattro Open al Paschilo le tre ritornano dietro i blocchi credo sia apparso anche Davide Carneri in corsia 6 che forse era coperto dagli striscioni pubblicitari e che quindi va a completare questa serie con tutti e quattro gli atleti iscritti è ritornato il terzo Orazio sì quattro partita anche questa serie numero due dei quattrocento metri si parte a tutta e in corsia cinque dovrebbe essere Matteo Tosto a provare a guadagnare un po' di metri sui diretti rivali recupera all'esterno Davide Carneri Ancora il rientro di Gian Maria Compassi che vedete prova a recuperare la seconda posizione una gara più tattica più distribuita nel frattempo Carneri prende il largo quando mancano cento metri all'arrivo e Compassi prova a ritagliare qualche metro ma forse è troppo il divario per riuscire a conquistare la prima piazza forse però no arriva a tutta velocità mette la freccia come si suol dire in gergo affianca Carneri lo sorpassa e va a vincere in 1 0 9 e 31 questa seconda serie sbaglio Stefano Me una volta vinto una gara come questa in rimonta e l'applauso che accompagna tutti i ragazzi sul traguardo dal primo all'ultimo l'applauso anche dello staff dei volontari di tutti quanti coloro che sono in campo perché comunque come dicevi prima il 400 è più sempre noto come il Giro della Morte il Giro della Morte e ci sarà un perché i più matti fanno il 400 e credo ancora peggio i 400 ostacoli sono diverse sono diverse forse non è detto che i 400 ostacoli sia peggio se la giocano i 13 passi da mantenere come li manteneva i due Moses tra un ostacolo e l'altro là il solo pensiero che mentre tu stai correndo conti quei 13 passi è una cosa impressionante assolutamente sì e come vedete ci prepariamo ad accogliere gli atleti dell'ultima serie in gara oggi sono in quattro accreditati al via vediamo se saranno tutti e quattro in partenza sicuro vedo l'atleta in quarta corsia Giovanni Piliu Ruggiero Enrico Marchetti Lorenzo Mussio e Cristian Balzi questi i quattro atleti che dovrebbero prendere il via Cristian Balzi credo che abbia già preso parte qualche altra gara in giornata ovviamente la conclusione di questa gara darà poi la strada libera per poter dare la partenza anche alla distanza dei 1500 metri in questa serie atleti senza credito quindi ci possiamo aspettare di tutto allora secondo per la Icarollus Davide Faglio al titolo lo ricordo il campione italiano Niccolò Piros diciamo che gli atleti posizionino i loro blocchi di partenza presentiamo la voce della speaker di campo che annuncia i nomi dei atleti in gara vediamo Giovanni Piliu Ruggero Federico Marchetti Lorenzo e Cristian Balzi i quattro atleti che saranno impegnati in questo ultimo doppio giro oggi che come già vi dicevamo in precedenza si svolta anche la prima tappa della Coppa Italia Lanci Coppa Italia Lanci che lo scorso anno fu vinta dall'Andy Sport Ragusa al femminile e dall'antropo Socifita Nova al maschile società organizzatrice dei campionati di quest'anno insieme alla Fispis e alla Fisdir e che ovviamente domani continueranno ad acquisire punteggi perché ovviamente si tratta di una classifica a squadre per le quattro tappe che si concluderanno poi ad ottobre l'appuntamento ricordiamo anche a maggio con il Grand Prix a Iesolo la selezione marcia dei chilometri ovviamente sono 1500 metri ma è strada bravissima è campionista italiana 2022 Maria Camilla Diola Urbani dello Sport Giulia Nova arriva una notizia di una possibile squalifica nella precedente serie attenderemo riscontro da parte dei giudici su quanto eventualmente è avvenuto era apparso di vedere un taglio di tangente probabilmente non mi ero sbagliato nel notare questo particolare forse forse ha girato a chiuso prima dei coni siamo pronti a partire quindi Piliu Marchetti Mussio e Balzi i quattro atleti dalla terza alla sesta dietro i blocchi di partenza che si vanno a posizionare per il via ai vostri posti dello starter che prelude al pronti ed ecco lo sparo che lancia tutti e quattro verso i loro due giri in questo momento è Lorenzo Mussio a guidare in seguito da Ruggero Marchetti all'interno discesa di curva e taglio di tangente eccoci qui passaggio a metà gara in 31 Lorenzo Mussio ha fatto bella selezione in questo primo giro sembra che lo stia patendo un po' questi 20-30 metri però proverà a portarseli di vantaggio sino al traguardo per conquistare la vittoria di questa terza e ultima serie dei 400 ovviamente anche gli avversari accusano la fatica respiratoria e muscolare del primo tratto fatto a tutta velocità e si avvia al passaggio della linea del traguardo in un minuto e 11.95 quasi in surplus l'abbiamo visto tagliare il traguardo completa così con l'arrivo di Marchetti Piliu e Balzi l'ultima serie dei 400 di oggi prossimo via sarà quella dei 1500 metri relativi alle categorie FISPES stiamo attendendo ovviamente i risultati delle serie precedenti non è ancora ufficializzato il risultato di gara prevenzione del peso della categoria I1 C21 all'argento di secondo dal sorriso di Milano Lorenzo Pettio 4.69 primo che ha un italiano 2022 proviene da Lopali nello sport di Giulia Nova Stefano Montefattone 4.89 premiazione in corso della scara del salto in lungo e noi ci prepariamo alla partenza invece del 1.5 premiamo alla marcia 3 km Open Uomini secondo Argento dalla uguale dello sport di Giulia nuova Alessandro Cornacchia premiazione anche della gara di marcia maschile la vittoria di Federico Mei su Alessandro Cornacchia come vedete si portano in partenza le atlete della gara di questo 1.5 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5 3.5 3.5 3.5 vedete in alto a destra schierate sulla linea di partenza Sara Cocciu della polisportiva lune e sole col pettorale 231 e la maglia bianca e accanto a lei in maglia verde per la Icaron con l'USASD e volontariato Maria Cristina Luisani che sarà col pettorale numero 46 accompagnato dalla sua guida entrambe le atlete sono categoria T12 quindi legate a difficoltà visive lune azione anche per Nando D'Agostino per quanto riguarda la marcia dei 1.500 metri di marcia in quel caso è partita invece la gara dei 1.500 metri di corsa con Cocciu e Luisani questo momento è la seconda a guidare insieme alla sua guida scusate il gioco di parole ma è così massaggio in poco sotto 50 secondi al 300 a 200 proiezione da 5 minuti e 30 circa ed è proprio la Guisani con la sua guida e poi Sara Cocciu la guida parla in gara chiede all'atleta come sta gli dice la posizione si la guida fa in maniera tale che durante la gara all'atleta non manchi supporto e poi ovviamente c'è anche l'incitamento che è fisiologico ma ad esempio adesso la guida sta dicendo per esempio vedete il labiale che si muove ok ma per esempio questo le starà magari dicendo abbiamo 30 metri di vantaggio oppure gli sta dicendo che sta per concludersi il rettilineo e si è concluso il terzo giro in maniera tale da rendere consapevole l'atleta non vedente di dettagli di ciò che la circonda e che non può avere cognizione di causa durante la corsa continua questa azione di Maria Cristina Luisani con la sua guida nel frattempo passa al traguardo anche Sara Cocciu come prima abbiamo sottolineato quell'istantanea dell'atleta albino e dell'atleta di colore insieme anche qui uomo e donna cosa più rara purtroppo è vedere una guida donna che accompagna un atleta uomo ma non è un tabù diciamo così perché accade diciamo che è un po' più rara ma è dettata anche da una questione proprio biologica perché ovviamente l'uomo ha più potenza della donna sicuramente le capacità muscolari mediamente diciamo superiori e quindi è più facile che possa essere un uomo guida di una donna e non viceversa no ripeto però non è una cosa consolidata ovvia scontata e ineludibile perché ci sono casi opposti diciamo così dovremmo essere poco dopo metà garra dovremmo essere credo agli 800 metri e l'atleta che non vede accompagnato che dice a fine gara? immagino sulla tua parola grazie sì sicuramente ma penso sia difficile capirlo personalmente ho sempre vissuto con molta curiosità la gara del salto in lungo dei non vedenti che penso sia una delle cose più surreali per certi versi che una persona possa pensare di vivere immaginatevi di correre a tutta velocità per 20, 30, 40 metri e all'improvviso saltare senza vedere dove si è saltato e dove si atterra cadere nella sabbia farlo nella maniera corretta per non rubare centimetri al salto e soprattutto non farsi male e ad esempio il momento della battuta come salta l'atleta? con la guida che è posizionata in fondo alla pedana della rincorsa dietro solitamente o avanti la pedana la buca di salto e gli dà il comando di salto quindi l'atleta in quel momento quando sente un segnale vocale da parte del o addirittura il battito delle mani da parte del proprio tecnico sa che deve saltare da lì al primo passo utile che lo porterà sulla gamba di stacco e vi posso assicurare che veramente mette i brividi come tipologia di disciplina però dimostra anche veramente quanto coraggio e quanta fiducia vivono questi atleti con la loro guida nel dire se tu mi dici che devo saltare io anche se non vedo salto nel buio totale bisogna costruire un rapporto umano che è veramente superiore di fiducia veramente superiore bisogna completamente abbandonarsi tu hai detto che c'è stato c'è il caso dove l'atleta corre quei 20-30-40 metri ha perdifiato verso un punto che per lui esiste soltanto virtualmente quante volte è capitato di fare salto in lungo e di vedere atleti che vedenti che si scontrano con altri atleti vedenti che in quel momento passano in pista una cosa più forte e che davvero cementa però invece il rapporto tra guida e atleta è che la guida durante la rincorsa dell'atleta emette dei suoni continui immaginatevi come un pipistrello con un sonar con una balena con un sottomarino che ascolta questo ritmo continuo della voce del proprio tecnico che poi ovviamente si finisce per riconoscere in mezzo a mille e con questi suoni continui cadenzati ogni mezzo secondo l'atleta corre a tutta seguendo quella voce ripeto al buio e affetta poi il segnale diverso per capire di saltare successe purtroppo agli europei di Grosseto un atleta che sbandò all'ultimo salto e purtroppo finì addirittura sul bordo della pedana della sabbia per fortuna non si fece male perché c'erano i tappetini di protezione laterali come sono posizionati adottronde anche qui bello questo abbraccio e questo è quello che ti dicevo cementare il rapporto io mi fido completamente di te condivido la fatica percorriamo la stessa distanza e alla fine io se ho vinto se sono arrivato secondo anche grazie a te oltre ovviamente la guida che poi si sente responsabile e partecipe del risultato immagino immagino la risposta ma c'è l'atleta che deve essere guidato che è insopportabile purtroppo è caratteriale non c'è una questione di atleta guida ma qui subentra proprio la persona l'individuo in sé per sé ma ripeto solitamente il rapporto guida-atleta è qualcosa di strettissimo e anche difficile ripeto da comprendere fino in fondo perché come vi dicevo prima dipende dalla tensione dell'accetto dipende dal ritmo del respiro ripende casomai dal tono della voce che fa capire lo stato di fatica dipende da tantissimi fattori e si impara a percepire tutto dell'altro perché la guida sa che deve essere in grado di capire cosa sta succedendo all'atleta senza che l'atleta glielo dica ripeto è una cosa che inviterei tutti a fare facemmo un esperimento anni fa con i bambini per provare ai bambini la sensazione di accompagnare come guida un non vedente e vi assicuro che i bambini hanno una capacità una percezione ancora superiore di percepire queste cose e diventa ancora più forte sia per loro che per l'atleta non simulando un bambino bendato ma proprio con una persona non vedente che viene fatto con i bambini in cui si benda uno dei due e si responsabilizza l'altro a guidarlo ha un'altra finalità in quel caso perché insegna ad uno a fidarsi dell'altro e all'altro a diventare responsabilità del proprio compagno ma ovviamente è completamente diverso quando si ha a che fare con un proprio coetaneo che oggettivamente non vede e non ha soluzione non può togliersi la benda per vedere quindi è importante è partita nel frattempo la seconda serie dei 1500 stavamo raccontando ovviamente questa diciamo peculiarità ma non ci perdiamo la gara con queste tre coppie seguite da Vincenzo Cascella dovrebbe essere lui l'atleta in coda con la maglia a richiamo tricolore teniamo il passaggio di qui per riconoscere i pettorali 42 secondi si viaggia a ritmo di 3,30 a chilometro allora il 137 quello di Antonio Nobili pettorale con il 261 e Cristiano Carnevale e con il 52 e Marco Zingarelli in questo caso ci troviamo nel caso che ti dicevo prima guida donna atleta uomo quindi come vi dicevo non è un caso sporadico sarebbe bello fosse più frequente nel frattempo Nobili ancora il comando e il portacolo del gruppo sportivo non riesco a leggere il nome della società milanese di appartenenza la seconda posizione quella di Cristiano Carnevale del team di Conegliano provincia di Treviso terza posizione dovrebbe essere Vincenzo Cascella della Barletta Sportiva e in quarta posizione per l'Icaro Onlus ASD e volontariato c'è Marco Zingarelli mancano ancora 5 giri quindi un chilometro e accompagneremo il passaggio di questi primi 500 metri 1,48 per il battistrada 600 metri appena completati 3 dei 7 giri e mezzo di gara ne mancano ne mancheranno 4 sulla linea del traguardo quando ci avviciniamo allo scoccare delle 20 ecco ancora la coppia la doppia coppia che possiamo chiamarla Nobili con Guida dei Nobili con Guida e Carnevale con rispettiva guida Siamo a metà gara precisamente in questo momento 2,42 passaggio finale intorno ai 5,30 5,25 800 metri completati ancora premiazioni nel frattempo vedrete il passaggio degli atleti davanti alla zona podio con la consegna delle medaglie quando mancano tre giri al traguardo alla curva opposta saremo al passaggio intermedio del chilometro ancora dei Nobili forse riusciti a guadagnare un paio di metri in questo giro differenza differenza anche di assetto di corsa guardate dei Nobili con le braccia molto giù sì anche un po' leggermente seduto passaggio al mille in 3,33 mentre invece molto più elastica diciamo la corsa di Cristiano Carnevale che probabilmente sta conservando le energie per il finale vedremo se anche dei Nobili ne avrà abbastanza per completare in testa questi due giri che mancano 1100 metri già percorsi anzi oramai siamo 1150 ultimi tratti e c'è l'allungo di dei Nobili guadagna ancora un paio di metri sì è bello anche l'applauso che accompagna chi è in coda in questo caso si tratta di Marco Zingarelli e di Vincenzo Cascella scortati dall'applauso del pubblico 250 metri di gara ultimo giro che sta per iniziare ancora dei Nobili dal primo metro al comando con la sua guida a provare di rimanere in testa fino alla fine guadagnano ancora qualcosa prova a cambiare passo Cristiano Carnevale ma il divario aumenta oramai meno di 150 metri al traguardo e ancora aumentano ancora dei Nobili a ormai 80 metri dal traguardo sente di riuscire a portare a casa una buona prestazione cronometrica oltre che la vittoria di questa serie Cristiano Carnevale prova a rispondere ma oramai sembra tardi per riuscire a ricucire il gap ed è così che finisce 5 e 11 e 9 l'ordine d'arrivo finale che vede dei Nobili Carnevale Cascella e Zingarelli chiudere la loro prova e Bassi che passa in questo istante per l'ultimo giro da affrontare ecco l'arrivo di Vincenzo Cascella Barretta Sportiva avanti a Marco Zingarelli della Icarollus ancora Icarollus aspetteremo l'arrivo dell'ultima coppia che a breve sarà al transito degli ultimi 100 metri eccoli li vedete e poi lasceremo lo spazio all'ultima serie di questo 1.5 Fispess eccoci qui con quest'ultimo arrivo Alessandro Bassi dovrebbe essere ancora un giro per loro mentre si portano alla partenza ovviamente gli atleti della terza e l'ultima serie oramai sono 100 metri ancora da percorrere e poi dicevo concluderemo questa gara prossima partenza ancora 1.5 in questo caso per le categorie Fisdir e l'applauso bellissimo che accompagna guardate lì a sinistra tutti i compagni di squadra e il pubblico sugli spalti che non fanno mancare il proprio apporto Alessandro Bassi che ha completato anche il suo 1.5 nel frattempo risultati ufficiali della serie precedente con la Luisani che ha chiuso in 6.29 per l'Icarollus davanti alla Cocciu che ha chiuso in 7.34 in seconda posizione comunque io se fossi un atleta da guidare e non vincessi la gara darei la colpa alla mia guida senti a proposito della terza serie io lo so fermarmi insieme a te sulle date di nascita dei partenti Morolli è del 70 Verzelletti è dell'84 Adamo è del 67 per la serie c'è spazio per ogni età Ricciardi è dell'82 è già un ragazzino in confronto agli altri e Cutaia è del 73 sono più giovani di tutti loro quindi ancora più eccola qui la partenza di questa serie che già hai anticipato sono in 6 appunto al Via e nonostante tutto vediamo la partenza in un ritmo molto più sostenuto per questa terza serie che vede gli atleti delle categorie T38 T45 T46 e T64 Renato Adamo davanti a tutti primo giro completato ne mancano ancora 6 e mezzo cioè Renato Adamo ad esempio è del 67 qualora vincesse qualora vincesse ci si può laureare campioni d'Italia anche a 55 anni assolutamente sì e non è un master sempre qui da Ricciardi della paralimpica difesa categoria dovrebbe essere SM50 parametrata diciamo in categoria Fidal 50 no forse addirittura 55 perché è classe 67 quindi è classe categoria 55 da quest'anno partito forse un po' troppo ispinta ma adesso con 219 Michele Ricciardi che passa al comando portacolori del gruppo sportivo paralimpico difesa ricordiamo Ricciardi faccia rocca ora olimpia ora un passaggio dobbiamo essere al quarto giro da completare queste occasioni ci danno anche l'opportunità queste gare ci danno anche l'opportunità di di ragionare vedi l'atleta che in questo momento sta comandando la gara è privo di un arto spesso e volentieri non si ragiona che percorrere serve equilibrio senza un arto sicuramente l'equilibrio ti viene a mancare non riesci ad avere quel bilanciamento che è normalmente quando ti dai ovviamente l'aiuto con le due braccia assolutamente dà ancora più valore ovviamente alla prestazione che sta portando ovviamente al traguardo Michele Ricciardi che è in pieno controllo perché all'uscita la curva ha buttato lo sguardo verso il cronometro per capire qual era il parziale e per capire se era il momento di accelerare o doveva probabilmente ancora tenere è sembrato uno sguardo controllato non tra virgolette di paura di sofferenza ma di controllo e di gestione della fatica quindi un bel segnale un bello scorcio che abbiamo visto in questo passaggio quando siamo oramai a tre minuti quasi e mezzo dalla partenza mancheranno 600 metri al passaggio del traguardo quindi alla zona apposta saranno al primo chilometro due giri no 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 due giri mancano siamo a 1100 metri passaggio quindi in 325 circa al 1000 ancora un giro in mezzo per il battistrada è riuscito a guadagnare un bel po' di margine su Andrea Verzelletti e su Nicola Rocca rispettivamente della Icarollus e della Olympia Athletic Team eccolo qui ancora a 250 metri al traguardo si porta in solitaria all'ultimo giro quando tra poco suonerà la campanella che gli darà sicuramente ulteriore slancio verso il traguardo apparentemente senza fatica neanche una smorfia di fatica se lo guardi in volto la vedi anche perché come dici tu questo è il momento di massima spinta dove si va ad accumulare anche la fatica dei chilometri dei metri dei chilometri percorsi e avere lo sbilanciamento almeno non equidistribuito carico di spinta in avanti è il momento in cui si sente di più in assoluto anche se guardate come riesce a slanciare a spingere con le gambe per guadagnare il miglior tempo ottenuto oggi 5-5 e precisi davanti a lui Andrea Verzelletti dietro di lui Andrea Verzelletti poi Nicola Bavoroccia e a seguire tutti gli altri chi chiuderanno questa gara prevenzione 4212 donne al titolo per la Italo Ombuds Loredana Bertolo andiamo a premiarla ecco un grosso applauso con la politica ovviamente della sua vita la penessa italiana per il mio 22 della sua categoria l'applauso che sta spettando Salvatore Budaia per concludere con l'altro post si conclude quindi si conclude le tre serie dei 1.5 Fismes e iniziano quelli Fisdir ecco i risultati la serie precedente con dei nobili a 5.11 Carnevale a 5.13 Caccella 5.39 Zingarelli 5.46 e bassi 7.22 Nel frattempo ancora una premiazione per la Petrillo che ha vinto oggi 60 e 200 mentre stiamo aspettando lo sparo che segna l'avvio della gara dei 1.500 metri anche qui scambio generazionale Michele Zugno del 1975 e Simone Niedu del 91 padre e figlio potremmo quasi dire potrebbe essere il figlio sì partiti in questo momento eccoci qua fettorale 60 per Simone Niedu fettorale 161 per Michele Zugno è una sfida a Padova Cagliari Michele Zugno è della SD Associazione Sportivo Direttantistica a Spea Padova Ollus mentre Simone Niedu classico cognome sardo è della SD Athletic Club Cagliari in questo caso sono gli estremi opposti perché stiamo parlando di estremo ovest estremo est Siamo ai primi 300 metri di gara Continua questa cavalcata di Michele Zugno che va a completare il secondo giro i primi 400 metri approfitto per salutare e ringraziare oltre i partner istituzionali e quindi Comitato Italiano Paralimpico Comune e Provincia di Ancona Regione Marche Fidal Marche Protezione Civile della Regione Marche e Lampas della Regione Marche Anche i partner gli sponsor della FISPES che hanno permesso ovviamente anche di trovare le risorse utili allo svolgimento di questa manifestazione e quindi i official sponsor che sono Unicredit Stellantis con Autonomi lo sponsor tecnico che è l'Uanvi e gli altri partner che sono PMG Italia Human Tecar Inail e Superabile Inail che sono sempre accanto della FISPES Altri partner di questa iniziativa di questa manifestazione sono Corte degli Azzurri Nerea Euroscuole Marvel Moretti ed Errea Abbiamo fatto anche un meritato applauso a chi contribuisce con risorse di ogni tipo alla riuscita di un evento di questa caratura di una importanza Siamo quasi in chiusura di prima giornata quasi L'Antropos la ringraziamo L'Antropos è il factotum di tutto quindi sono i primi che abbiamo ringraziato oggi e saranno sicuramente gli ultimi che saluteremo prima di andare via perché saranno loro a chiudere a chiave il palaindo per riaprirle domani mattina all'alba quando ci ritroveremo per riprendere le attività in campo immagino un parziale sotto i 4 minuti per l'atleta inquadrato in questo momento continua incessante il suo ritmo di corsa per arrivare al traguardo dovremmo essere ai 1000 in 3,40 più o meno 37 per lui ancora due giri e un rettilineo da dover affrontare prima di essere sulla linea del traguardo la pista si è svuotata finite le gare di concorso c'è stato non un fuggifuggi però un vero e proprio addio momentanea penso che sia dettato dall'ora perché sono oramai le 20 passate e qualcuno reclama la cena dovendo gareggiare di nuovo domani mattina e avendo quindi bisogno di trovarsi leggero al risveglio quindi ci sta mettiamola così ci sta tutta ancora un giro e tre quarti per il battistrada ancora un giro e mezzo per Michele Zugno categoria SM21 prevenzione 400 metri di 38 uomini primo il campone italiano 2022 per la safa tre di campionate Giacomo 1 1 0 4 e 19 2 continuiamo a seguire i passaggi di Michele Zugno una transita anche Michele Zugno sostegniamo non lasciamo il facciamoci sentire mi vedo con i suoi tempi e ritmi ottimo ultimo giro iniziato per il battistrada quindi Michele Zugno si avvia percorrere oramai gli ultimi 120 metri di gara per completare questo suo 1.5 eccoci qua rettilineo finale per Michele Zugno che è galvanizzato anche dalla campana prova a metterci tutta e arriva quasi in sette minuti mezzo mezzo anello invece per Michele Zugno un quarto di anello ci siamo ormai mentre bravissimo e l'applauso per Simone Niedu che ha concluso per l'atletica club Cagliari la sua partita dei Villeghi 5 ma l'applauso anche a Michele Zugno ecco arriva Michele Zugno l'arrivo dietro Simone Niedu e chiude la prova così a breve l'ultima partenza femminile di giornata vedono già schierate le ragazze quindi tra poco toccherà loro andare a effettuare questi sette giri e mezzo di percorso il cinema femminile potremmo conoscere anche le nostre protagoniste premiazione invece dei 400 metri segno eccoci al passaggio con Carlocca Roccotelli vettorale 306 della riviera del Brenta e Laura Dotto vettorale 264 della Trivisa Atletica secondo per un ure sportiva anche in terzo millennio Claudio Garzelloni 138 nel frattempo continuano anche le premiazioni di 400 10 tra pochi tra pochi secondi eccoli accanto alle atlete eccoli qui rischiato di creare ostacolo di schiaffeggiare l'atleta 10 anni di differenza fra Carlotta Roccotelli e Laura Dotto la Roccotelli è dell'89 la Dotto è del 99 qua la domanda è sempre la stessa vince la freschezza di una giovane atleta o l'esperienza di un atleta che sta avanti con gli anni non è un parametro purtroppo non è aiuta sicuramente l'età aiuta a gestire le forze soprattutto a recuperare però vedo che senza problemi Laura Dotto continua a guidare questa gara e ad affrontarla metro dopo metro verso il traguardo dovremmo essere tipo 300 metri alla partenza no 500 metri alla partenza questa diciamo l'ultima gara femminile della giornata si seguiranno i mille metri del pentatron e poi vedremo se ci saranno dovrebbe esserci qualche staffetta anche iscritta che chiuderà il programma 400 dovrebbe essere il programma tecnico di oggi quasi in perfetto orario dai non possiamo lamentarci Carlo con tutte le gare tutte le pedane impegnate c'è poco da lamentarsi perché davvero è stato fatto un lavoraccio enorme da tutti coloro che si sono impegnati nella riuscita e nella realizzazione di questa manifestazione ancora Laura che continua la sua ancora in in spinta l'atleta della trevisa atletica che continua la sua corsa verso il traguardo ancora un passaggio di Laura ad otto 900 metri al traguardo ultimi 500 metri ancora due giri eccola qui aspettiamo ovviamente frementi all'arrivo per capire quale sarà il suo riscontro aerometrico come aspettiamo anche i 1000 metri del pentagon perché è una gara forse una delle più complicate sia da commentare che per fare pronostici vedremo cosa accadrà tra pochissimi minuti perché mancano ormai 250 metri al completamente di gara ecco qui per la prima volta nell'arco della telecronaca di questa giornata si è svelato di dove sei quando hai detto 250 che ti abbiamo dato per Dorico fino adesso per Anconetano e Marchigiano invece non è così non è così non è così nel frattempo quando stanno per scoccare i 5 minuti siamo a 150 metri dall'arrivo e l'intero palazzetto accompagna Laura Dotto la trevista atletica agli ultimi 100 metri l'ultima curva l'ultimo rettilineo anche i volontari a incitare la ragazza trevigiana che oramai è sul rettilineo finale e praticamente sfiora anche il doppiaggio della sua rivale della Roccatelli della vieta del Brenta no la supera invece si avvia verso il traguardo vieta del 5.32 ha vinto ed è soddisfatta ci mancherebbe ovviamente anche la fatica che arriva sta attendendo l'altra atleta che era in gara con lei al traguardo per condividere anche i momenti post gara nel frattempo vedete in alto a destra già posizionati sulla linea di partenza gli atleti dei mille metri della categoria della gara di Pentathlon che saranno gli ultimi praticamente a correre sul piano individuale eccolo l'applauso anche per la seconda classificata e quindi ci prepariamo come dicevo a quest'ultima partenza individuale così a quest'ultima partenza Grazie a tutti. Bocchi d'Angelo Alfieri, Venturelli, Vallone, Renis, Colasunno, questi gli atleti in gara e in questo caso si parte a tutta velocità, vedremo chi e quanti riusciranno a reggere il passo di Parodi. Ho 200 in 34. Al secondo posto c'è Lucero Lico Marchetti dell'Atletica 2000. E al primo posto Lorenzo Russo, Atletica Rosseto della banca Terdi Rosseto. Prego i premiatori ora portarsi alla premiazione. Un minuto e zero nove, il passaggio al 300. Si viaggia... 400. Si viaggia forte. Non so la successione ma... Possiamo farla tutti e tre insieme se volete. Prego. Bello questo terzetto che si è compattato al comando e che probabilmente cercherà di traghettarsi fino all'arrivo. a guidare col pettorale numero 31 è Luca Venturelli della Francesco Francia. Col 13 c'è Simone Colasunno della post sportiva Elos Bitonto. Fabrizio Vallone col 135. Fabrizio Vallone col 135, portacolori dell'Antropos, città e società organizzatrice di oggi. 2.20 il passaggio al 800. Stavo in linea perfetta per farlo. Ancora Col 31 e Venturelli che continuano a guidare, a sorpassare. Sono azioni queste qui che si sentono perché o mentalmente o muscolarmente lei si accusa. Le si accusa perché muscolarmente si è spinto molto, le si accusa mentalmente perché si vive, si corre col timore di essere sorpassati. E quindi questa cosa crea instabilità nel cervello di un atleta. Di un atleta battistrata in questo caso. Pensa solo alle proprie abitudini e non inquadra il problema per quello che è. Eccolo qua, affiancamento, il pettorale numero 13, quello di Simone Colasunno. L'impressione in questo caso è che si sia fatto superare. Per cercare in qualche maniera di controllare anche... Io ho la sensazione che abbia più che altro faccio sfogare gli altri per fargli scaricare l'energia e poi provare al finale a recuperare. Ballone e vola. E' bella la sfida per il secondo posto. E' bella tutta questa gara, devo dire la verità. Sì. Però la sfida per il secondo posto è... Lo sprint è partito all'inizio dell'ultimo giro. Sì, e arriva al traguardo e chiude in 4, 18 e 28. Buonissimo. Tendiamo che completino tutti i ragazzi la propria prova. I concorrenti della seconda batteria, della seconda serie, si stanno avvicinando alla linea di partenza. Ovviamente dovranno aspettare l'arrivo di tutti gli atleti in gara per poi poter avere il via. Col 191 Davide Asoli, col 152 Carlo Costa, col 153 Stefano Frigo Lorpe, col 197 Massimo Giaccio, col 158 Luca Zanovello, col 160 Alberto Zera, col 55 Antonio Paolillo, Luis Miguel Smaillato, col numero 156. Cinque atleti della Padova Hollus, dell'Aspia Padova Hollus, ai nastri di partenza di questa gara. Due del USA Terzo Millennio e poi a chiudere c'è un atleta, Antonio Paolillo, dell'ASD Barletta Sportiva. Tutti abbastanza giovani, fermo restando il fatto che Alberto Zera del 1983, tutti gli altri partono dal 92 al 2004, tutto nello spazio di 12 anni. Il più giovane è Davide Asoli, che corre col 191 per la USA Terzo Millennio, il più vecchio, si fa per dire. Di questo, escluso ovviamente il classe 1983, è il 92, Antonio Paolillo. I giudici di gara stanno controllando le ultime direttive, intanto compaiono i nomi di in ordine di arrivo della prima serie Ballone 4,18 e 28, Venturelli 4,21 e 65, con la suono al terzo posto. Intanto è partita la seconda la seconda serie di questi 1500 metri Open T20 uomini. Subito Subito Paolillo con il numero 55 in vetta. il primo a lanciare una sorta di di sprint, ma è difficile di spito parlare di sprint nei 1500 metri. Ci fosse Inge Brixen in gara, forse sì. In ogni caso c'è, come nella precedente serie, c'è una triade al comando, anche se un po' diversa rispetto a quella di prima. Paolillo inizia ad andarsene, ha allungato il passo. Sta tenendo anche una media abbastanza sostenuta, è un passo da 4,40 al traguardo, è impegnativo come ritmo. Tenuto conto che è una gara appena iniziata siamo solo a 400 metri dalla partenza. Però lo vedo che già inizia a guardarsi e il segno di svoltarsi non è mai positivo. Assolutamente. Corri con la paura di essere rimontato. L'ha fatto ancora di nuovo. Un minuto e 40 oramai ci avviciniamo ai 600 metri di gara. Guardate come continua a girarsi per capire dove sono gli avversari. Paolillo è un trentennio fra le altre cose nato nell'anno dei giochi di Barcellona 1992. Ancora una curva. Sì, sì, continua a guardarsi. Dovrebbero prendere coraggio gli inseguitori. Invece secondo me è un modo per distrarsi. Inizio a pensare che è anche un modo per non pensare alla fatica per vedere dove stanno gli altri mentre io continuo a correre. ovviamente è difficile riuscire a entrare nella psiche di un atleta ancora più in questo tipo di gare e capire ovviamente tutto ciò che passa nel un passo dopo l'altro mentre si corre. Siamo a 800 metri oramai al prossimo giro saremo già al chilometro di gara e il divario in realtà aumenta. Sì un chilometro di gara può smettere può bastare per smettere di soffrire? Non credo proprio anzi dall'inizio è il peggio probabilmente è bello c'è un ritorno c'è Carlo Costa che riappare per la seconda posizione e io non vorrei esagerare ma qualche possibilità di recupero nei prossimi tre giri non la vedo così impossibile anche se Paolillo forse il divario è tanto si è calvanizzato nella sentire che c'era qualcuno che rientrava da dietro il divario è di 45 metri precisamente in questo momento che sono tanti ma non sono tantissimi visto anche il ritmo che vedo che viene impresso è difficile ovviamente che ci si riesca mancano ancora 400 metri e sono 40 metri di stacco qualcosa sta recuperando sicuramente Costa ma forse non abbastanza per riuscire a rientrare Paolillo adesso invece ha ripreso il ritmo Costa Paolillo fra le tante sfide una sfida nord-sud Padova contro Barletta bellissima questa corsa rincorsa a distanza di 50 metri oramai mancano 200 e pochi metri al battistrada ultimo giro sentiremo suonare la campana adesso ultimo giro il gesto che ha fatto si era finita o meno bisogna sottolineare che non lo fanno soltanto questi atleti lo fanno anche gli atleti veri o meglio gli atleti veri gli atleti di grido abbiamo visto campionati europei e campionati del mondo persi per una volata anticipata non essersi accorti del fatto che c'era ancora un giro da percorrere e oramai siamo a 50 metri dall'arrivo di Antonio Paolillo al treta di Barletta classe 92 categoria T20 adesso è finita sì 524 questo suo 1.5 e ovviamente si concede la possibilità di riprendersi a terra ma subito si rialza nel frattempo l'arrivo di Carlo Costa col 152 eccolo qua arrivano anche col 191 e il 197 Davide Ascoli e Massimo Giaccio e da adesso dovrebbero arrivare tutti eccoci con il 160 160 160 dovrebbe essere il fettorale di Alberto Zera con il 153 il passaggio di Stefano Frigoluffe ancora 156 l'arrivo di Luis Miguel Smaillato e col 158 chiude la sua gara anche Luca Zanovello l'anno 2022 per l'Italò Morbus e Maria Cristina Luisani grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti mediti 12, terzo dall'Italoplus Marco Ziccarelli. È già pronto? Ah, c'è il fondo di video, è vero? Esatto, e siamo pronti. Come il luoglio viene liberato, noi andiamo. Il Presidente rimane lì, Marco Ziccarelli, Niccolò Amos, tipo di città. Siamo alla partenza dell'ultima gara individuale di questa prima giornata, perché come leggete Caprano, Mattone e Magna Bosco andranno ad affrontare i mille metri. L'ultima prova del pentathlon maschile di questa giornata, ovviamente, gara Fisdir, che porterà a loro il completamento delle cinque prove affrontate oggi. Sono i primi a essere scesi in pista oggi e saranno gli ultimi, praticamente, a salutare il palazzetto in questa giornata di sabato. Quindi accompagneremo in questi cinque giri, prima della conclusione di questa giornata di gara. Colpo di pistola e partiti tre multiplisti di oggi. Nicola Cepraro, Andrea Mattone, Andrea Magna Bosco, partite a tutta velocità, questo primo cento a diciassette, molto impegnativo come ritmo. Vedremo siccome reggeranno il ritmo, perché cinque giri a questo passo sono veramente impegnativi. Passaggio in trentasei, ritmo da tre chilometri per i sul mille. Primo giro andato, ne mancano quattro. Nel frattempo continuano anche le premiazioni che tra poco vedrete al passaggio sul rettilineo opposto. C'è ovviamente Andrea Mattone che guida la classifica parziale e che probabilmente sta affrontando questo mille in la maniera più prudente e studiata tatticamente rispetto ai suoi due più giovani avversari che stanno forse impegnando più energie del dovuto in questa prima metà di gara. Passaggio a quattrocento in uno e diciotto. Tre e quindici è diventata già la proiezione della mille se dovessero tenere i prossimi parziali. Eccolo qua infatti Andrea Mattone che si porta al comando e va a guidare i suoi avversari, uno e quarantatré. Eccoci qua, ancora due giri, mancano quattrocentocinquanta metri al traguardo. È la sua pista questa, atleta di casa. Due giri, come leggete sul tabellone, contagiri sul traguardo. Secondo dopo secondo continuiamo a vedere la loro fatica che aumenta. Ripeto, loro sono alla quinta prova oggi. Sono un po' gli Iron Man dell'atletica paralimpica di oggi. e non si può non accompagnarli, soprattutto ora che manca poco più di un giro oramai all'arrivo per completare questa loro estenuante prova. E forse di tutte queste è la peggiore. Tra le cinque prove questa sicuramente è la peggiore. Dipende ovviamente dalle doti del singolo. C'è chi ovviamente ha delle doti di resistenza maggiori che lo vive invece bene. La maggior parte però dei multiplisti sono quasi tutti comunque o velocisti o saltatori o lanciatori e quindi finisce per diventare la prova della sofferenza pura questi quattro minuti di corsa che stanno per finire. 100 metri al traguardo per Andrea Mattone, portacolori dell'Antropos di Civitanova Marche che oramai è sul rittilineo finale davanti a noi e va a completare probabilmente poco sotto i 3.30 la sua prova dei mille metri di oggi e a vincere questa gara. Anche l'applauso del palazzetto si applaude, chiama l'applauso e festeggia il titolo e la conclusione di queste tre prove con l'arrivo anche di Andrea Magniabosco e di Nicola Capraro, i due portacolori della polisportiva due ville. Aspetta sulla linea del traguardo gli antagonisti e li applaude. Completata questa gara resta da dare il via solo ed esclusivamente alla staffetta 4x400 mentre ovviamente continuano le premiazioni in zona podio con vedo il presidente della FISPES Sandrino Porru a consegnare le medaglie mentre sono lì in fondo a sinistra, li vedete, pronti a entrare gli staffettisti che saranno gli ultimi atleti impegnati oggi in gara. Carlo ma con i 60 metri hai finito oggi? Pare di sì. 5 le staffette iscritte perdonami sono sovrapposto assolutamente anzi quindi sarà anche avvincente forse sarà una delle gare più avvincenti perché le staffette sono quelle che più di tutte caricano, galvanizzano, intrigano coloro che sono sugli spalti e assistono alla gara tra sorpassi, cambi perché quello che è l'ordine di passaggio di una staffetta a un cambio può essere completamente sovvertito all'altro essendo cambiate le pedine in gioco di ogni squadra e quindi a ogni cambio può completamente ribaltarsi tutto. Nel frattempo i risultati della serie precedente con Paolillo 5-24-06 Costa 5-42-69 Asoli 5-57-47 Giaccio 5-58-18 Zera 6-23-73 Frigo Lorpe 6-39-12 Smaiato 6-49-82 E Zanovello 6-59-53 Matteo Tosto, Davide Carneri, Claudio Gazzelloni, Alberto Presutti in corsia 2 faranno parte della squadra USA La squadra A della USA La squadra A della USA della USA Cli terzo millennio pronti a darsi l'hop uno dopo l'altro Cristian Balsi, Mirko Bosco Fabio De Tommasi, Andrea Schneider Polisportiva Dueville corsia 4 Gaetano Schimmenti, Fabrizio Vallone Andrea Mattone e Raffaele Di Maggio dell'Antropos Civitanova Marchi anzi, come si dice da queste parti Citanò Anton Narciso Marco Alfieri Stefano Frigolorpe e Carlo Costa in corsia 5 difendono i colori della spea Padova Onlus e infine l'altra formazione dove il suo USA Cli terzo millennio sembra un sceglilingua in corsia 6 Davide D'Ambrogio Massimo Giaccio che ha corso poco fa Lorenzo Malgarini e Davide Asoli queste le 5 staffette che tra poco prenderanno il via come vedete già posizionati i blocchi di partenza subito dopo la linea del traguardo per loro ci saranno 8 giri da percorrere 2 a testa per i 4 frazionisti di ogni staffetta e come detto poi ci sarà l'USA Cli terzo millennio che addirittura ne schiera due interna ed esterna quindi occhi puntati su queste 5 staffette 5 squadre che si presentano al via come vedete l'ultima spunta lì all'ingresso e poi verranno accompagnati qui in zona di partenza dove dalla quale vi stiamo parlando Massimiliano ci avviamo alle fasi conclusive di questa lunghissima prima giornata di gare emozionante anche un po' nostalgico per certi versi questo momento perché poi dopo tante ore quasi dispiace che ci staccarsi dal microfono dalla cronaca dalle gare e anche dagli applausi che abbiamo sentito con gli incitamenti del palazzetto diciamo la verità i telespettatori vedono le immagini non vedono noi ma noi ci stiamo mentanizzando stiamo diventando come stiamo diventando esattamente le fotocopie di Enrico Mentana che fa le le dirette le lungo dirette poste elettorali le maratone di Mentana le maratone di Mentana sono all'ordine del giorno noi facciamo maratone facciamo un po' di meno comunque sei ore sono una bella prova fra le altre cose per una coppia che fino a questa mattina neanche si conosceva per un romano e un napoletano che si trovano a commentare anche in maniera diametralmente opposta l'uno dall'altro una giornata di gare come questa si rincontreranno forse se non si ammazzeranno questa sera domani mattina alle 9 appuntamento sì alle 9 per riprendere la diretta fino alle 13 13 e 30 quando si chiuderanno le gare di questa giornata ma come dicevi davvero è stata anche una bella sfida tra virgolette mettersi in gioco così un po' all'improvviso speriamo davvero di aver dato modo a chi è a casa di seguire al meglio quello che accadeva qui noi abbiamo il 3D tra virgolette di poter vedere tutto il palazzetto speriamo di aver dato anche informazioni supplementari rispetto a quelle che apparivano nello schermo a chi era a casa il più bravo telecronista di atletica leggera chi è? in questo potremmo dire ci abbiamo sicuramente anche se poche purtroppo tra non molto andrà in pensione c'è Franco Bragania a Roma si dice Franco Bragania scansete perché sta ma arriva a noi quindi anche se oramai ultimamente c'è tanto Luca Di Bella che sta continuando a seguire l'atletica olimpica e paralimpica e quindi va dato anche merito e applauso a lui insieme a Stefano Tilli oramai sono le tre voci che raccontano più spesso le gesta dell'atletica italiana e quindi gli mandiamo un bel saluto visto che permettono a tante persone a casa molto meglio di noi sicuramente di vivere le emozioni delle gare poi l'atletica leggera è uno sport sembra apparentemente facile perché dice è una corsa è un salto è un getto di un peso in realtà una terminologia tecnica della quale bisogna essere molto attenti padroni perché nel contempo bisogna far capire al non addetto ai lavori ma bisogna stare attento a non incappare nell'errore perché se bicchi l'addetto ai lavori vai sul roco al posto di Giovanna d'Arco quindi c'era un vecchio giornalista che tanti anni fa anzi un vecchio giornalista che mi ha insegnato il mestiere mi ha sempre detto devi fare in modo che ti capisca anche il lattaio dell'ohaio quindi sotto questo punto di vista speriamo di esserci riusciti oggi chi in una maniera chi nell'altra ovviamente per un campionato italiano FISPES FISDIR di atletica leggera dove c'era soprattutto la voglia di ricominciare per questi atleti tanta voglia di ricominciare tanta voglia di mettersi in gioco tanta voglia anche di rivedersi perché queste sono le occasioni per ricongiungere atleti di ogni parte d'Italia perché poi nascono delle amicizie che ci si porta per tutta la vita dietro grazie a questi momenti sportivi ed è davvero tanto l'entusiasmo e l'adrenalina che abbiamo potuto percepire anche a distanza da qui su e che ovviamente continuiamo a sentire anche se siamo in attesa dell'ultima gara di giornata probabilmente ci sono gli ultimi controlli e le ultime spunte da parte dei giudici per accompagnare gli atleti sui blocchi di partenza vediamo ovviamente quel movimento lì in alto ma i giudici si apprestano a avviarsi ai blocchi quindi stanno arrivando i primi frazionisti che sono quelli che andranno a percorrere per primi il doppio giro di campo al coperto dei 400 metri ovviamente 4 frazioni per arrivare diciamo al miglio praticamente miglio 1.609 metri saranno 1.600 metri invece percorsi dai 4 frazionisti di ogni squadra vedo solo 4 atleti al via quindi credo che una delle staffette non sarà schierata allora l'antropost c'è probabilmente sarà una delle due dell'USA no le vedo entrambe quindi le due le due antropost ci sono l'USA scusami le due US agri ci sono no sono tutte 5 sono tutte 5 è apparso anche il quinto atleta sono tutte pronte a partire ovviamente subentra un nuovo oggetto nel racconto che è il cosiddetto gerco tecnico testimone ovvero il bastoncino che gli atleti sono tenuti a consegnare al successivo frazionista della propria squadra non facilissimo da mantenere in fase di partenza quando si hanno anche le mani a terra e bisogna staccarlo a terra e portarlo così con sé già dai primi passi di gara ma è sicuramente qualcosa che poi contraddistingue davvero le staffette è stato vi posso raccontare ovviamente sulla scrivania del presidente mei a Roma in federazione c'è il testimone di Tokyo che racconta poi anche un po' di quel trascorso di quella gara vinta dalla nostra nazionale alle Olimpiadi quando penso un po' tutti abbiamo pianto sulle urla davvero di Franco Bragania si sistemano ovviamente i blocchi di partenza e i ragazzi guardano intorno per anche uno sguardo di conforto da parte dei propri tecnici e dei propri compagni di squadra tra pochi secondi si parte per la staffetta del miglio indoor si fanno segni vediamo gli starter pronti a dare la partenza nota eccolo guarda qui sotto stavo guardando infatti uno scatto per i fotografi ci siamo si pronti a partire si caccia anche il fotografo dalla pista libera e quindi tutto pronto per dare il via a questa ultima gara ultimo colpo di pistola di questa prima giornata e arriva dai vostri posti il comando che invita gli atleti a posizionarsi sui blocchi e poi il pronti che preparerà allo sparo eccolo che arriva e si parte mentre gli addetti al campo tolgono i blocchi dalle corsie l'antropos subito al comando nettamente dopo questi primi 100 metri bella anche la struttura fisica proprio di questo ragazzo dell'antropos che dovrebbe essere Gaetano Schimmenti proprio d'atleta lo possiamo dire 29 il passaggio a metà della sua prova prende un bel margine di quasi 50 metri forse anche qualcosa in più sul team dell'Agli forse la più bella corsa vista oggi pomeriggio sì una delle più belle sicuramente però c'è questa fuga in solitaria dell'antropos e invece dietro è combattutissima tutte le altre posizioni ed è bello quindi questa doppia gara eccoci qui al via Mirko Bosco no e Fabrizio Vallone che parte adesso per l'antropos mentre arrivano le due squadre dell'US Agli terzo millennio al cambio con Davide Carneri e Massimo Giaccio ancora Marco Alfieri e Mirko Bosco gli altri frazionisti secondi frazionisti ancora Fabrizio Vallone al comando c'è il rischio addirittura di doppiare gli avversari andiamo correndo a tutta le maglie rosse dell'antropos mancano cento metri prima del loro secondo cambio eccoci al secondo cambio dell'antropos con Andrea Mattone che dopo le prove multiple addirittura corre anche la 4x4 complimenti davvero a questo ragazzo generosissimo e anche tenace proprio a livello di tenuta psicofisica perché dopo 5 gare correre anche un 400 non è assolutamente una cosa facile eccolo qui al primo passaggio sul rettilineo finale nel frattempo vanno al cambio anche le altre staffette con Claudio Cazzelloni Fabio De Tommasi Stefano Frigolo e Lorenzo Malgarini ancora un passaggio per Andrea Mattone che qui mancano cento metri prima del cambio vedete che la maglia che è stata inquadrata in questo momento è quella dell'USA Cliterzo Millennio che però è al primo transito del della terza frazione mentre Andrea Mattone sta per dare il cambio e adesso tocca a Raffaele Di Maggio che dopo i 60 si cimenta anche nel 400 per la squadra si fa tutto e va a percorrere i suoi due giri che porteranno l'antropos a vincere questa 4x4 Indor guardate che spinta per essere un velocista sta tenendo il ritmo siamo intorno ai 3.30 per questo passaggio intermedio partono anche i quarti frazionisti Alberto Presutti Andrea Schneider Carlo Tosta e Davide Asoli mentre Raffaele Maggio è a 80 metri dal traguardo la fatica si inizia a vedere oltre che a sentire per questi 50 metri che lo separano dal traguardo lui che è molto ben conosciuto da Orazio Scarpa il CT della Fispes 4-0-3 4-0-3 sotto al minuto e uno di media testa per i quattro frazionisti dell'antropos che chiudono la loro staffetta vedremo chi sarà in seconda posizione a tagliare il traguardo 331 e Padova dovrebbe arrivare l'US Acli 332 per Alberto Presutti ancora Davide Asoli dovrebbe essere al traguardo no passa ancora per lui un altro giro e invece col 334 c'è l'arrivo di Andrea Schneider in terza posizione davanti a Carlo Costa della Padova Ollus e poi chiuderà tra poco Alberto Presutti Davide Asoli anzi per questa ultima frazione Massimiliano siamo in dirittura d'arrivo questi ultimi 80 metri chiuderanno la prima giornata di gare di questo campionato italiano paralimpico Fispes Fisdir Indor e di lanci invernali prima tappa della Coppa Italia lanci della Fispes siamo dicevo quindi in chiusura dopo tante emozioni tante ottime prestazioni alcuni record italiani stabiliti oggi non ci siamo fatti mancare niente no assolutamente Carlo quasi mi dispiace andare in albergo stasera guarda mi mancherà qualcosa no abbiamo fatto abbiamo vissuto una bella giornata una gran bella giornata di sport soprattutto in una Ancona che ci ha accolto a braccia aperte e sottolineo visto che Carlo l'ha detto a più riprese ha invitato a più riprese la gente domani a presentarci tanto gli dicevo l'Ancona calcio ha giocato oggi quindi domani anche i calciofili possono passare domani ho guardato le previsioni del tempo fra un intervallo e l'altro e mi sono accorto che domani sarà soleggiato temperatura su 9 gradi quindi venite ad Ancona ad assistere a questi campionati italiani che sono uno spettacolo non soltanto per gli atleti ma anche per chi sugli spalti guarda controlla e applaude assolutamente Carlo grazie grazie a te per Massimiliano per il supporto e la compagnia in queste ore di cronaca e di racconto approfitto in chiusura per ringraziare ancora una volta l'Antropos per tutto il lavoro fatto insieme alla Fispis e alla Fisdir e ovviamente al supporto del Comitato Italiano Paralimpico del Comune di Ancona della provincia di Ancona della Regione Marche della Fidal Marche dell'Ampas e della Protezione Civile Marche nonché degli sponsor Unicredit Stellantis con Autonomi L'Uanvi PMG Italia Human Tecar Inail Superabile Inail Corte degli Azzurri Nerea Eurosuole Marvel Moretti ed Errea grazie al lavoro di tutti questi partner tutte queste entità che hanno fatto squadra insieme ovviamente ai volontari presenti quest'oggi ai giudici di gara e alla Fidal Servizi siamo riusciti a vivere questa grande festa di sport oggi qui ad Ancona quindi dal Palahindor di Ancona e dallo Stadio Conti ci salutiamo diamo appuntamento a domani mattina ore 9 per la seconda sessione di gare di questa manifestazione grazie davvero per la compagnia a Massimiliano Morelli e a domani e a Carlo buona serata a tutti ciao a tutti a domani grazie a tutti